Buongiorno a tutti, allora iniziamo i lavori, la parola al Magnifico Rettore. Grazie, grazie mille alla professoressa d'Orlando. Io posso anche portare, credo, i saluti del Presidente della nostra Regione, il Dottor Massimiliano Fedriga, che oggi hanno giunta, insomma, hanno qualcosa anche da cui pensare anche che credo sia legato a temi che verranno discussi oggi. A me fa molto piacere essere anche qui ad aprire e portare un saluto non solo istituzionale. Le prime ore della mattinata le ho passate alla nostra sede dei Rizzi, qui c'era la secondo, diciamo, il richiamo, come si verrebbe per le vaccinazioni, che è fondamentale per un Rettore con tanti possibili studenti che ti stanno ad ascoltare. Ed è stato molto bello vedere l'aula piena di gioventù. E pensavo, ecco, ai loro magari coetani, o in Russia o in Ucraina, che cosa avrebbero potuto fare oggi. Quindi, da questo punto di vista, questo tipo di iniziative credo che siano utili. Ma al di là del sentimento, vi volevo anche dire questo. Ieri ero, ieri poveriggio, ad inaugurare, una cosa un po' particolare per carità, la prima edizione del campionato mondiale di nuoto pinnato. Voi direte, vabbè, ecco, per fortuna abbiamo fatto solo parlare non nuotare, ma c'erano un centinaio di ragazzi di 17 nazioni, a Lignano, in questo bellissimo centro sportivo di cui può essere fiera la nostra regione, e anche una delegazione dell'Ucraina. Quindi, sono momenti in cui ci ricorda, questi sono campionati universitari, ecco, questi ambiti universitari, l'università serve anche a questo, ovviamente, perché sta nello spirito dell'Accademia, cioè, diffondere la pace. Io vorrei anche ricordare che la nostra università, fra le prime, ha aderito alla rete dell'Università per la pace. Aroni pace, noi abbiamo anche il nostro delegato, il professor Cevolin, adesso, eccolo, lo guardo, che è molto attivo, e cerchiamo, naturalmente, di ricondurre le nostre attività, ma tutte, sempre, all'idea di una condivisione. Non c'è ambito più aperto e più disponibile, a volte anche troppo, se volete, al dialogo fra tutti, che è quello dell'Accademia. Pensate solo che c'è una commissione, una divisione di intenti, costruiamo assieme il futuro con gli studenti. E poi c'è il dialogo fortissimo con le istituzioni, cosa che noi abbiamo fortuna nel nostro territorio di avere aperto. Quindi, di cosa c'è bisogno? Di un dialogo, di una interpretazione della situazione attuale, magari degli scenari futuri, che sia libero da condizionamenti politici e anche da sentimenti, al di là del fatto dell'orrore che ognuno di noi prova, magari per una guerra, e tutte le attività che ognuno di noi, anche tutte le nostre istituzioni, fanno per sostenere chi soffre. Io credo che questo sia molto importante. In questa stessa aula, due settimane fa, era un sabato, 320 ragazzi dell'ITIS Magnani avevano chiesto un nostro intervento. C'era lo storico, il professor Zannini, c'era il giurista, il professor Cressati, ormai un habitué, ma anche di queste aule, ovviamente perché si voleva semplicemente capire il contesto e anche forse il significato di alcune parole, frasi come la lesione della sovranità degli stati e quant'altro. Cioè tutte materie che sono e dovranno diventare oggetto di studio, con l'obiettivo comune che la conoscenza è di tutti, il diritto alla conoscenza è di tutti, così come della libertà. Ecco, io quindi ringrazio veramente tutti coloro che hanno dato la disponibilità a partecipare a questa iniziativa, non solo chi l'ha organizzata, compresi anche i giornalisti che avranno l'onere di moderare gli interventi. E io credo che sia giusto anche che questa iniziativa possa essere la prima, ma non solo perché dovrà essere ogni volta che scoppia una guerra, anzi, ma deve essere un'abitudine che ci aiuta a confrontarci su temi che sono fondamentali. Cioè, voglio dire, l'idea di avere la possibilità di una comunità coesa, non solo in vista di armamenti, ma con una prospettiva di futuro che non sia importante. Qui siamo a 53 anni da quando è nato l'Erasmus, che è una delle cose che ha legato di più l'Europa, ma perché quelli che girano sono i giovani. E quest'anno è l'anno europeo della gioventù. Ecco, forse questo è un motivo in più per lasciare anche spazio a loro per, come dice anche la Fonderlion, to shape the future of Europe, per plasmare il futuro dell'Europa. E noi in questo abbiamo, noi tutti, le istituzioni, particolarmente quelle formative, un compito fondamentale. Ci proviamo, grazie anche a queste iniziative. Grazie, magnifico rettore. Ora la parola al sindaco di Udine, il dottor Pietro Fontanini. Buongiorno anche da parte mia a tutti voi, in particolare ai docenti, al rettore, ai docenti di questa università, e a voi studenti per affrontare un tema che si pensava non si dovesse mai affrontare, soprattutto in un scenario europeo. Ormai sono più di 75 anni che l'Europa non vive conflitti bellici, non vive situazioni come quelle che stiamo vivendo attualmente, e dall'ultima esperienza drammatica della Seconda Guerra Mondiale è nata la Costituzione, l'articolo 11, dove si afferma con forza che le controversie internazionali vanno risolte con la diplomazia, con un confronto che non deve essere assolutamente un confronto bellico, attraverso, in pratica, gli eserciti che si scontrano. Noi siamo di fronte ad un'aggressione di un paese sovrano, di un paese nato dalla dissoluzione dell'ex Unione Sovietica, da parte di un paese fratello, tra l'altro con delle commissioni anche molto forti tra russi ed ucraini, perché storicamente l'Ucraina ha fatto tanto anche per la stessa Russia, quindi è una guerra strana allo stesso tempo, ma anche molto pesante, perché interessa questi popoli molto vicini fra di loro. Le distruzioni, come tutti noi vediamo attraverso il reportage dei giornalisti, sono drammatiche, perché è una guerra di distruzione, oltre che una guerra di vittime, come sono tutte le guerre, e ci lascia allibiti perché non si riesce a fermare, non si riesce a sospendere questa bellicosità tra i due Stati, uno che si sta difendendo e uno che sta attaccando, chiaramente. E le ripercussioni non saranno solo legate a quello che sta accadendo in Ucraina, ma ci saranno ripercussioni come ci stiamo preparando ad affrontare, che interesseranno anche altri aspetti. L'aspetto energetico penso che sarà quello più sensibile, con degli interventi che toccheranno in pratica una delle risorse fondamentali, che è il gas, ma anche il petrolio. E quindi i Paesi europei, e gli Stati Uniti, si stanno preparando ad affrontare anche questa emergenza, che ci toccherà molto da vicino. Quindi è bene che i docenti e gli operatori anche dell'informazione si confrontino su queste tematiche e insieme a voi analizzano questi aspetti che non sono semplici, ma, come dicevo, sono soprattutto nuovi dopo tanti anni di pace che interessano, pratica, l'Europa molto da vicino. Sapete che anche qui, nella nostra città, abbiamo delle persone che ospitiamo, che sono fuggite dalla guerra, donne, ma soprattutto tanti bambini. Attualmente, nelle scuole primarie della nostra città, ci sono 45 bambini arrivati dall'Ucraina che stanno frequentando. E speriamo, con profitto, senz'altro, dopo un periodo così di assestamento, perché il problema della lingua è un problema importante, non facilmente risolvibile in tempi rapidi, però il fatto di vivere insieme ad altri ragazzini, ad altri bambini, aiuta a dimenticare un dramma che tocca in maniera pesante queste persone che hanno dovuto fuggire e lasciare le loro case, le loro abitazioni, il lavoro, i giochi per i bambini, i compagni di classe. Quindi, una situazione anche questa molto pesante. Noi cerchiamo e cercano soprattutto gli insegnanti delle nostre scuole di dare massima serenità a questi nuovi allievi nelle scuole della città di Udine. Quindi, ringrazio chi ha animato e sta animando questo incontro, perché è importante non solo sentire dalla televisione i talk show dove si confrontano magari esponenti di forze politiche, ma, come diceva il Rettore, dare una lettura scientifica anche a questi avvenimenti attraverso coloro che studiano queste questioni che, ripeto, sono pesanti ma, purtroppo, sono attuali e le dobbiamo affrontare. Grazie, signor Sindaco. Ora la parola al Vice Prefetto il Dottor Rocca Tagliata. Un cordiale saluto a tutti voi e il ringraziamento che va da parte di tutta l'istituzione prefettizia per l'invito. Allora, l'odierno moderno, l'odierno momento di confronto ha ragione da eventi bellici che si svolgono solo a qualche migliaio di chilometri da queste terre. Il loro suono, tuttavia, riecheggia viva e forte nelle nostre case. I volti dei loro attori sono sotto i nostri sguardi e molte case italiane, in particolare anche di questa regione, hanno aperto le porte alle vittime innocenti di questi eventi. Vorrei ricordare che se altri drammatici momenti hanno segnato gli ultimi decenni in terre anche più vicine mai forse prima d'ora appaiono evidenti gli effetti sia concreti sia potenziali che derivano o potrebbero derivare da un conflitto in un mondo che invece si stava scoprendo sempre più piccolo, più interconnesso, più aperto ai traffici, ma che ora si rivele proprio per questo forse più vulnerabile. Un mondo che appare più esposto alle conseguenze che derivano da ratture di trame commerciali forse tessute con l'eccessiva fiducia che proprio quelle stesse trame commerciali costituissero valido ed efficace presidio al mantenimento della pace, ma che invece si rivelano ancora una volta forse più che nel passato armi di una diversa forma di guerra dove i belligeranti non sono su un campo di battaglia ma dietro postazioni telematiche che comandano flussi finanziari o ordini di acquisto. Le tematiche che si affrontano in questo dialogo interdisciplinare che sapientemente vede coinvolti docenti, studenti e comunità ovvero chi analizza i fatti, chi ne acquisisce il significato per il futuro e chi deve confrontarsi con i riflessi nel concreto svolgersi della vita civile e gestirne i vari aspetti sono tematiche complesse forse nuove sotto molteplici profili. La mia amministrazione anche in questo fragente è in prima linea innanzitutto nel coordinamento dell'accoglienza dei rifugiati oltre che ovviamente nella prevenzione di possibili fenomeni criminali che trovano il terreno ideale nelle crisi umanitarie nello spostamento di grandi masse di popolazione. Gli interventi normativi e gli indirizzi ministeriali hanno aperto diverse vie per poter dare il senso di una dignitosa accoglienza ai quasi 80.000 rifugiati giunti fino ad oggi in Italia e più di recente hanno previsto anche la possibilità di assicurare un contributo economico per l'autonoma sistemazione in modo da poter sebbene indirettamente fornire ristoro a quanti hanno accolto i rifugiati. Come sapete il fenomeno ha assunto connotazioni in parte differenti rispetto a precedenti spostamenti migratori o di rifugiati. A parte l'assoluta prevalenza di donne e bambini e persone anziane gli ingressi in Italia hanno avuto destinazioni costituite in primo luogo dalla rete parentale ed amicale cioè da quella comunità operosa e di supporto alle famiglie italiane da tempo già presente in territorio che ha rappresentato in questa fase una prima valvola di sfogo. Tuttavia la macchina dell'accoglienza dell'istituzione si è attivata garantendo l'immediata assistenza sanitaria e l'alloggiamento in emergenza grazie all'efficiente sistema di protezione civile e sanitario regionale nonché l'attivazione a cura delle prefetture di nuovi posti nei CAS i CAS sono i centri di accoglienza straordinaria e nel sistema SAI il sistema di accoglienza e integrazione in collaborazione con comuni ed enti gestori per dare qualche ulteriore informazione sul fenomeno va segnalato che negli ultimi giorni si è assistito una diminuzione degli ingressi da questa frontiera Tarvisio in particolare ingressi che al momento continuano a connotarsi per il fatto che i profughi hanno ancora nella stragrande maggioranza destinazioni fuori di questa regione in prospettiva però appare ragionevole ritenere che esaurito il flusso di quanti hanno una meta già stabilita dovremo essere in grado di corrispondere alle aspettative di quanti giungeranno in Italia senza base amicali o parentali eventualmente gestiti nel viaggio o indirizzati da istituzioni europee o umanitarie sarà necessario quindi poter contare sufficienti sinergie e sull'effettiva sburocratizzazione delle procedure che eviti l'eccessiva farraginosità di una normativa sugli affidamenti e sugli appalti da tempo destinata ad una generale rivisitazione i più recenti interventi normativi e le ordinanze del capo di partimento della protezione civile rappresentano un significativo tratto di questo percorso le molteplici e complesse sfaccettature degli eventi che ci vedono ora direttamente coinvolti negli aiuti alla popolazione ucraina in fuga hanno come si vede messo in moto diverse amministrazioni e nello stesso tempo hanno fatto scattare innumerevoli iniziative solidaristiche ma quegli stessi eventi pur nella premessa che vi sono aggressori e aggrediti gli chiedono anche analisi obiettive e scevere da pregiudizi alle quali l'odierno tavolo di discussione e l'uditorio tutto potrà assicurare il proprio competente contributo a voi tutti un caloroso buon lavoro ringrazio ringrazio anche il signor vice prefetto per questo interessante indirizzo di saluto e a mia volta in qualità di direttrice del dipartimento di scienze giuridiche nonché di corresponsabile scientifico di questa iniziativa insieme all'amico e collega Claudio Cressati porto il mio saluto permettetemi però di ringraziare nuovamente il magnifico rettore il signor sindaco il signor vice prefetto il presidente della nostra regione che comunque ci ha fatto pervenire il suo caloroso saluto e permettetemi poi di ringraziare tutti i colleghi che direi subito e con entusiasmo hanno aderito a questa iniziativa che abbiamo organizzato davvero in tempi record ma la tempestività in questo caso ci sembrava assolutamente necessaria ringrazio ovviamente tutto il pubblico presente anche quello che ci sta seguendo online e ringrazio da ultimo ma sicuramente non in ordine di importanza i nostri studenti perché è dai nostri studenti anche che è provenuta la richiesta di organizzare un momento di confronto insieme per questo tra l'altro tra poco darò loro la parola questo per noi significa essere comunità accademica e di questo davvero le ringrazio qualche brevissima riflessione sulla genesi di questa idea che Claudio e io abbiamo avuto e che in realtà deriva da quello che è il contenuto del piano strategico del nostro dipartimento per il prossimo triennio che è intitolato per l'appunto identità europea e sfide globali un tema che a noi stava già molto a cuore e un tema sul quale abbiamo ritenuto di ritornare dando proprio a questo evento il titolo del nostro progetto di ricerca interdipartimentale perché la guerra in Ucraina ci ha sollecitato a riflettere su diversi punti fermi su diversi luoghi comuni su diverse certezze che noi ritenevamo acquisite in maniera definitiva come per esempio l'idea che ormai le democrazie avessero prevalso sulle autocrazie oppure come ricordava anche il signor sindaco l'idea che una guerra in Europa probabilmente non si sarebbe più rivista ed eravamo convinti che tutto sommato la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali diritto alla vita in primis fossero diritti che non si potevano più mettere in discussione nello spazio europeo così come non si poteva mettere in discussione che il potere di chi governa deve essere limitato così come pensavamo poi anche su un altro piano che ormai i fenomeni di globalizzazione dei mercati e dell'economia avessero un carattere ormai diciamo ineluttabile e quindi definitivo ebbene tutte queste certezze cominciano un po' a vacillare di fronte ai fatti drammatici a cui stiamo assistendo e allora secondo noi ora più che mai l'Europa si vuole scommettere veramente su se stessa e sul proprio futuro deve cercare di individuare quali sono i punti irrinunciabili della propria identità quelli sui quali non si può negoziare un'identità europea che come la storia ci insegna è un'identità plurale è un'identità molteplice è un'identità multilivello siamo cittadini dei nostri comuni delle nostre regioni dei nostri stati dell'Europa ma al di là di questa multidimensionalità del concetto di identità europea l'identità europea si è coagulata anche direi proprio grazie al processo di integrazione attorno ad un nucleo duro di valori comuni che sono poi quelli propri delle democrazie liberali l'affermazione delle libertà individuali e anche collettive soprattutto le libertà politiche l'affermazione del principio di legalità noi giuristi diciamo lo stato di diritto il principio di eguaglianza sostanziale l'impegno dello stato a far sì che siano garantiti a tutti l'eguaglianza delle condizioni di partenza lo stato sociale e questi valori sono perseguiti nell'esercizio di poteri pubblici che sono distinti che sono separati nella loro titolarità e che sono limitati da opportune garanzie costituzionali questo è il nostro quadro di riferimento e tenete presente che questi stessi valori sono quelli che hanno accompagnato anzi potremmo dire guidato proprio come una stella polare anche i processi di transizione costituzionale e di consolidamento democratico dei paesi dell'Europa centro orientale e non a caso sono tra quegli stessi valori che oggi vengono annoverati tra i criteri che devono rispettare i nuovi stati che vogliano aderire all'Unione Europea e allora noi abbiamo pensato che è proprio da qui che dobbiamo partire perché nel momento in cui noi ci riconosciamo nei valori del costituzionalismo perché di questo si tratta e ci riconosciamo a tal punto da volerli mettere a fondamento del futuro dell'Europa diventa inaccettabile rimanere indifferenti rispetto alla guerra in corso soprattutto se pensiamo che colpisce un paese che ha manifestato la propria volontà di aderire a questi valori è necessario quindi che noi ribadiamo e che noi testimoniamo il nucleo fondamentale di questi valori certo riconoscendo la complessità del contesto ricordava il vice prefetto che la globalizzazione ha portato con sé delle interconnessioni inevitabili la dipendenza energetica mi pare sia l'esempio più emblematico però questa complessità non deve diventare un alibi per assumere atteggiamenti di indifferenza di qualunquismo o peggio ancora di equidistanza questo è un po' il senso del dialogo interdisciplinare che vi proponiamo oggi che il nostro dipartimento oggi vi propone e che per l'appunto come è stato ricordato non è solo un dialogo tra saperi ma è un dialogo che coinvolge l'intera comunità accademica in primis gli studenti ma l'intera comunità a cui noi vogliamo aprire questo dialogo ed è anche un'iniziativa che come ricordava il magnifico rettore vuole testimoniare anche l'attenzione che il nostro Ateneo ha sempre avuto per l'Europa centro-orientale dipartimento di studi umanistici dipartimento di lingua e letteratura straniere ma direi anche il nostro dipartimento di scienze giuridiche tra l'altro un'attenzione che io direi si coniuga in modo naturale anche con la tradizionale vocazione della nostra regione una regione ponte come più volte è stato detto verso quell'area geografica e permettetemi di ricordare soprattutto agli studenti che anche il nostro statuto speciale di autonomia se voi leggete i dibattiti in seno all'assemblea costituente alla fine c'è stato riconosciuto proprio per essere uno strumento di collaborazione tra i popoli e questo non dobbiamo dimenticarlo mai per cui io ringrazio davvero di cuore nuovamente tutti è un ringraziamento non di circostanza per aver voluto condividere con noi questo momento e lascio subito quindi la parola a Serena Pittino che ci introdurrà a questo momento che gli studenti hanno voluto organizzare come momento introduttivo e di avvio della nostra giornata attraverso la lettura di alcuni brani da loro selezionati grazie e buongiorno a tutti allora io sono qui in veste di più rappresentanze perché sono qui anche per portare oh non si sente devo avvicinarlo perfetto grazie e buongiorno allora stavo dicendo che sono qui in veste di più voci per rappresentare anche la mia associazione UDU che è un'associazione che si è spesa in questi ultimi giorni per affrontare il discorso e si è sempre fatta portavoce di molte problematiche che abbiamo affrontato e quindi niente sono qui in veste di loro membro e sono felice di farne parte e quindi porgo i loro saluti sono qui come studentessa di lingua e letterature io studio inglese e russo e appunto studiando russo questa è una questione che mi ha colpito molto personalmente e oggi ho deciso di leggere delle poesie perché le poesie in una giornata come questa sono semplici ma potenti perché la poesia e l'arte in generale non conoscono confini nazionalità e hanno valore universale ho selezionato due poeti una poetessa russa Anna Akhmatova che è nata nel 1888 ed è morta nel 1966 e un poeta ucraino Taras Shevchenko nato nel 1814 e morto a San Pietroburgo nel 1861 brevemente mi ha spinto a selezionare questi due poeti perché nonostante siano autori di epoche diverse e sembra che non abbiano molto in comune lascerò a voi giudicare se queste opere e il loro talento hanno potere per questa giornata la loro vita la vita che come ogni poeta ogni artista entra come tassello fondamentale nelle opere entrambi questi poeti condividono una vita tragica e sono stati governati da governi totalitari l'Akhmatova infatti nasce in una famiglia di nobili e Shevchenko in una famiglia di servi della gleba l'Akhmatova vive sotto un regime staliniano e ne subisce tutte le conseguenze il suo primo marito viene fucilato le sue opere sono sottoposte a censura e suo figlio viene successivamente incarcerato e a lui dedicherà il poema Requiem che da qui vi verranno letti degli stralci dalla mia collega Elisa allora perché ho scelto il Requiem il Requiem ha il tema profondo e immenso che è il dolore eterno un dolore eterno senza nazionalità che tutti noi possiamo provare nel corso della nostra vita Shevchenko resta orfano in giovane età e si trasferisce a San Pietroburgo con il suo signore che nota subito la sua bravura artistica e gli permette di dedicarsi alla pittura grazie alla quale riesce ad inserirsi in ambienti artistici e conosce personalità che lo aiuteranno a riacquistare la propria libertà nel 1838 una libertà che ha sempre avuto a cuore come la sua patria ho selezionato due poesie di Shevchenko la prima Testamento che riporta la sua volontà di essere sepolto in patria dopo la morte la seconda racconta della sua terra l'Ucraina in una maniera terribilmente attuale Shevchenko è stata una scelta guidata da una frase incisa su una statua dedicata a lui a Firenze lottate e vincerete vi lascio alle mie colleghe Elisa Zamolo e Petra Barbarino grazie Anna Akhmatova Fermenti da Requiem metà anni 30 inizio anni 60 No non sotto un estraneo cielo non a riparo dagli estrane ero allora col mio popolo laddove il mio popolo per sventura era ti hanno portato via all'alba io ti venivo dietro come un funerale nella stanza buia i bambini piangevano sull'altarino il cero sgocciolava sulle tue labbra il freddo dell'icona il sudore mortale sulla fronte non si scorda come le mogli degli strelizi ululerò sotto le torri del Cremlino placido scorre il placido don gialla luna entra nella casa entra col cappello sulle ventitré vede l'ombra la gialla luna questa donna è malata questa donna è sola il marito nella tomba il figlio in prigione pregate per me no non sono io è qualcun altro che soffre io non potrei essere così ma quel che è successo neri i drappi lo ricoprano e portino via le lanterne notte la sentenza ed è caduta la parola di pietra sul mio petto ancora vivo non è nulla vi ero preparata ne verrò a capo in qualche modo ho molto da fare oggi bisogna uccidere fino in fondo la memoria bisogna che l'anima si pietrifichi bisogna di nuovo imparare a vivere se no l'ardente stormire dell'estate come una festa oltre la finestra da tempo avevo presentito questo giorno radioso e la casa vuota ho appreso come si infossino i volti come di sotto alle palpebre s'affacci la paura come due pagine di scrittura cuneiforme il dolore tracci sulle guance come i riccioli da cinerei a neri d'un tratto si facciano d'argento il sorriso appassisca sulle labbra rassegnate e in un ghigno arido tremi lo spavento e non per me sola prego ma per tutti coloro che erano con me laggiù nel freddo spietato nell'afa di luglio sotto la rossa muraglia abbacinata quando morrò seppellitemi sull'altra collina nella nostra steppa della bella Ucraina che si veda nei campi e il diniepre stizzito che si oda dal fiume al mare azzurro l'inimico sangue cattivo impuro allora lascerò la terra salirò al Dio per pregare ma intanto non conosco Dio seppellite insorgete le catene spezzate con l'inimico sangue libertà spruzzate e nella grande famiglia nuova liberata non dobbiate ricordare di me con parola grata testamento di Taras Tsevchenko Ucraina c'è stato un tempo in Ucraina le pistole rimbombarono c'è stato un tempo i cosacchi abbiamo vissuto e festeggiato banchettato estratto gloria libero arbitrio tutto è passato è rimasto solo cumuli nel campo quei cumuli alti dove giace è sepolto corpo cosacco bianco con la testa rotta e quei tumuli si oscurano come pile nel campo e solo con il vento migratorio sussurrare sulla libertà gloria al vento del nonno si diffonde in tutto il campo il nipote ascolterà inciderà una canzone e canta e falcia c'è stato un tempo in Ucraina c'era dolore in vista e vino e miele in abbondanza mare fino alle ginocchia sì la vita una volta era gloriosa e ora ricorderai in qualche modo diventerà più facile per il cuore sembrerai più allegro io ringrazio davvero gli studenti per l'emozione che hanno voluto regalarci leggendo questi testi poetici un'emozione davvero grande bene e con questo io chiudo la parte introduttiva e quindi lascio il palco ad Anna Piuzzi e ai colleghi della prima tavola rotonda prego buongiorno a tutti e a tutte grazie davvero di cuore a ciascuna ciascuna di voi per essere qui con noi oggi permettete anche a me un brevissimo ringraziamento ma doveroso un ringraziamento mi permetto di dire da cittadina ma anche da giornalista all'università di Udine per aver dato vita a questo spazio uno spazio che è davvero importante perché quando l'attualità irrompe in maniera così forte così violenta nella quotidianità dei cittadini delle persone ma anche delle comunità allora dare una risposta immediata aprire uno spazio per approfondire capire le questioni è davvero importante soprattutto in un momento storico in cui faccio mia colpa anche del giornalista siamo molto appiattiti sul presente quindi forse invece è necessario andare a indagare quello che è il passato è un grazie naturalmente anche agli studenti che hanno voluto questo momento di confronto studenti a cui siamo grati anche per i due anni che sono trascorsi della pandemia perché molto spesso ci hanno sollecitato a affrontare determinati temi che magari a noi sfuggivano e proprio facendo riferimento anche ai due anni di pandemia credo che vada un grazie ancora all'università il rettore ha parlato di abitudine questa deve diventare un'abitudine per noi è stata un'abitudine in quei due anni ma anche in questo momento storico avere l'università come punto di riferimento quando c'era qualche tema da affrontare in maniera più complessa e articolata noi abbiamo sempre avuto l'università come interlocutrice e credo che questo sia davvero un aspetto importante per il nostro lavoro il rettore ha fatto anche riferimento rispetto a due settimane fa all'incontro che c'è stato qui all'importanza del significato delle parole ecco credo che in questo momento questo spazio come anche quelli che verranno siano fondamentali per recuperare il senso delle parole abbiamo trascorso due anni in cui i media ma anche le istituzioni hanno utilizzato un linguaggio di guerra per raccontare spesso la pandemia ecco oggi la guerra irrompe nella nostra storia sui nostri territori con tutta la violenza e noi rischiamo di avere un linguaggio abusato e allora questo spazio è anche un modo per ritrovare il senso e il significato delle parole custodire la pace custodire la pace è il tema di questa tavola rotonda un tema fondamentale è stato già detto che ormai siamo abituati a vivere un tempo di pace non siamo più abituati alla guerra proprio in questi giorni ricorrono i 30 anni dallo scoppio della guerra in Bosnia la prossima settimana il 5 aprile iniziava 30 anni fa l'assedio di Sarajevo e quindi vediamo quanto è importante avere quell'attitudine a custodire la pace appunto tra democrazie e regimi e regimi autoritari quindi ci affacciamo attraverso questo spazio a cercare di capire questo nuovo tempo europeo che è di guerra un tempo che ha accelerato in maniera incredibile moltissimi processi si è usata prima la parola cercare di interpretare cercare di capire la direzione in questo momento credo sia molto difficile però insomma questo spazio è fondamentale per cercare di capire qual è la deriva di quest'ordine che abbiamo conosciuto fino adesso e che adesso va cambiando anche se non siamo in grado di prevederne gli esiti e allora diventa fondamentale la parola che avete scelto che quella di dialogo interdisciplinare perché se è vero che siamo abituati a essere appiatiti sul presente cominciamo a dire che questa crisi questa guerra questa aggressione affonda le radici almeno in una decina d'anni ma insomma invece lo sguardo che noi dobbiamo rivolgere al passato è ben più lungo e oggi lo scopriremo insieme e ritengo particolarmente importante il fatto che gli studenti abbiano scelto degli autori abbiano attinto alla letteratura perché la letteratura forse più di altri ancora settori è in grado di mostrarci quella complessità che noi non siamo forse in grado di vedere basterebbe guardare alle biografie degli autori che sono stati letti penso a Tarasso Elcenco ma un altro che mi è venuto in mente in questi giorni è stato Vassili Grossman sono tutti autori che ci mostrano davvero come la storia di quell'area è il cuore dell'Europa e il cuore dell'Europa che appunto molto spesso ci ha portato a vivere momenti di crisi dunque questo è il momento in cui vanno evitate le semplificazioni e appunto l'università offre tutto il suo spazio e tutte le sue competenze per aiutarci ad approfondire e a evitare la strada delle semplificazioni e anzi al contrario a prendere la strada quella capace di affrontare la complessità e andare a capire quali sono le radici intrecciate dei problemi nel tempo nella storia e nella cultura e proprio sono queste le declinazioni con anche il profilo giuridico che sono state proposte per questa giornata io mi taccio e anzi aggiungo una cosa faremo un primo giro di domande i relatori sono tanti le argomentazioni particolarmente dense e poi ci sarà spazio per voi per le domande io sono un po' spiazzata anche la professoressa d'Orlando ieri sera ci siamo sentite dalle modalità quindi sapete che c'è un QR code e potete fare le domande da lì a me arriveranno direttamente sul telefonino quindi è per questo che rimane acceso perché se no non posso avere le vostre domande quindi davvero aspettiamo il vostro contributo la vostra curiosità allora dicevamo affondare le radici guardare alla storia e allora io passo la parola immediatamente al professor Andrea Franco docente dell'università di Macerata una laurea in storia dei paesi Slavia all'università Ca' Foscari ma un ritorno qui a Udine perché il dottorato è stato fatto è stato fatto qui esperto proprio di Ucraina e quindi penso che nessuno meglio di lui sappia mostrarci farci adentrare in questa realtà allora io inizio proprio da lui chiedendogli appunto di farci capire abbiamo citato la storia la storia sembra recente quella dell'Ucraina perché insomma un'indipendenza conquistata non da tantissimo tempo ma con una con un'identità l'abbiamo visto molto radicata molto forte ecco allora vorremmo capire questo percorso storico che certo non attinge agli ultimi anni grazie dottoressa inizio anche io seppur brevemente con dei ringraziamenti innanzitutto alle istituzioni sono molto grato per l'invito ringrazio con particolare affetto la comunità accademica udinese a cui sono particolarmente legato perché in tempi relativamente ormai vicini ho svolto quel mio dottorato parlerò con un senso di onore pari anche al dispiacere al dolore molto forte perché permettetemi di scadere solo per un attimo nell'autobiografismo in tutti questi anni molti anni ormai ho intessuto una serie di contatti e professionali e amicali sia in Russia che in Ucraina e mai avrei pensato di come penso la gran parte di voi qui presenti di vivere in una situazione di questo tipo che cosa mi accingo a fare è stato già più o meno anticipato cercherò di spiegare come alcuni punti caposaldi alcuni temi centrali relativi allo sviluppo del sentimento di autocoscienza nazionale in Ucraina fra 800 e 900 uno dei temi sul tappeto è proprio quello dell'esistenza o meno della nazionalità ucraina nel senso che abbiamo assistito più volte nelle settimane scorse nei mesi scorsi ad un uso pubblico della storia da parte soprattutto di Vladimir Putin teso a ridimensionare o a negare in una buona misura l'esistenza dell'elemento nazionale ucraino questo discorso non nasce dal nulla attinge le proprie radici ad un sentimento di matrice imperialistica o grande russo cercheremo di vedere parallelamente come invece nel corso del tempo si è sviluppato per l'appunto un sentimento legato alla nazionalità ucraina lo proporrò sotto una specifica sotto uno specifico punto di vista che è quello dell'intreccio di relazioni fra Russia e Ucraina e quello della lacerazione dei rapporti senza l'uno non si capisce l'altro dal mio punto di vista e cercherò di spiegarvi il perché la mia breve narrazione terrà da conto sia di temi di carattere culturale che politico e quindi da dove iniziare io porrei le lancette della storia alla fine del settecento quando secondo la più parte dei critici nacque venne alla luce una letteratura in lingua ucraina di matrice laica in precedenza le lingue slave considerano i filologi le lingue slave orientali erano comuni avevano preso a differenziarsi nel corso del seicento e poi nell'ultimo scorcio del settecento nacquero vennero alla luce le prime opere in lingua ucraina all'udo all'eneide di Kotlarevsky il quale traspose l'intreccio virgiliano in un contesto legato al cosaccato che dal punto di vista ucraino in qualche modo viene percepito come la base come l'elemento ancestrale della nazionalità moderna ne emerge un discorso un'opera di tipo farsesco deprivata di ogni virulenza di carattere nazionale e molto grata allo stesso tempo alla cultura grande russa moscovita del tempo perché dal punto di vista russo l'Ucraina rappresentava il proprio mezzogiorno il proprio meridione ho trovato in alcuni casi proprio la definizione di di poldien paludien iarassia di russia del mezzogiorno proprio come noi identifichiamo il sud dell'italia o come i francesi chiamano midi il sud della francia quindi un contesto gradito amato e percepito come consanguineo che progressivamente inizia però a dare corso a sviluppare una letteratura in lingua propria in lingua ucraina cosa che non era scontata perché al tempo per la gran parte gli ucraini erano collocati alla base della piramide sociale erano costituivano in sostanza un popolo essenzialmente contadino con poche elite chi sapeva leggere scrivere il più delle volte lo faceva in russo o in polacco la letteratura si sviluppa scrivono altri autori qualche pochi decenni dopo come Kvitka o Snovianenko e poi vennero alla luce due intellettuali importantissimi uno Teras Shevchenko di cui con grande maestria hanno parlato le rappresentanti degli studenti e Nikolai Kastamarov Teras Shevchenko il bardo della letteratura ucraina crea una opera lui che era venuto al mondo come servo della gleba caratterizzata da una forza che è dirompente che è dirompente perché lui nella sua prima raccolta Khobsar invita tutte le popolazioni dell'impero zarista ivi compresa quella grande russa a sollevarsi e a spezzare le catene della schiavitù contro l'autocrazia il suo discorso è fortemente incentrato sull'elemento sull'elemento ucraino e già qua possiamo capire quella che fu la fortuna post mortem di Shevchenko da un lato è ancora oggi percepito come il grande come il vate come il padre della letteratura ucraina dell'ottocento amatissimo ovunque tanto che la università di stato di Kiev ha intitolato a lui per l'appunto l'ateneo dall'altra parte però Shevchenko ebbe grande fortuna anche in epoca sovietica perché fu interpretato come un rivoluzionario pre-marxista e se voi andrete a Mosca o a Petroburgo troverete piazze monumenti intitolati a lui e sempre più spesso ho notato negli ultimi anni pavesati con i colori della bandiera ucraina ma un tema che a me sta molto a cuore è quello legato al pensiero di Nikolai o Mikola Kastamarov che fu circa coetaneo di Shevchenko nacque nel 17 nel governatorato di Varonezh figlio di un Pamieszik di un proprietario terriero grande russo e di una contadina piccolorussa cioè ucraina secondo il lessico politico dell'ottocento lui Kastamarov elaborò una teoria nuova e innovativa cioè fu il primo a teorizzare l'esistenza compiuta di una nazionalità ucraina a sé stante secondo il discorso ufficiale dell'impero prima esisteva nell'ottocento una sola absheruska ianarodna una sola nazionalità russo-comune incentrata sull'elemento grande russo e rispetto al quale l'elemento ucraino e quello bielorusso costituivano delle ramificazioni periferiche Kastamarov sottolinea l'esistenza la liceità del concetto di nazione ucraina lo fa attraverso dei pamflet molto interessanti come Knikhi Butia ucrainsko con Arrodu i libri della genese del popolo ucraino e poi qualche anno dopo Dvaruskianarodnesti le due nazionalità gemmate derivate dalla russa che cos'è che teorizza Kastamarov e questo è il punto centrale oltre che l'esistenza di una nazionalità ucraina a sé stante vuole creare dei ponti fra le nazionalità slave vuole dice lui che la pietra scartata dai costruttori cioè l'Ucraina divenga la testata dell'angolo e dice anche che l'Ucraina dimentica dei torti subiti avrebbe dovuto far riappacificare le sorelle maggiori in lotta eterna fra loro la Polonia cattolica antemurale cristianitatis e la Russia ortodossa quindi un tentativo di creare dei ponti le due nazionalità della russa c'è la percezione di una di una identità che in parte trae la linfa in un humus comune ma c'è la percezione della differenziazione e se vogliamo anche della complementarità nell'autonomia di questi due mondi che restano contigui apparentati ma distinti pienamente ormai nel corso dell'Ottocento alla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento c'è un ulteriore scarto alludo all'opera di Mikhailo Khrushchevsky che fu storico di professione ma anche il primo presidente della Repubblica di Ucraina indipendente per lo spazio di un mattino durante la guerra civile Khrushchevsky teorizzò nella sua opera capitale un concetto nuovo in cui la separatezza fra i due elementi russo e ucraino viene resa molto più evidente che non in Kastamarov lui intitola la sua opera storia dell'Ucraina trattino russo e in quel trattino c'è un po' tutto c'è una visione tesa a vocare a reclamare per la sola Ucraina l'eredità storica della Rus chieviana e questo è un tema un tema divisivo un tema importante e non è solo una questione storiografica polverosa lontana nel tempo il discorso pubblico prima che la parola passasse purtroppo alle armi si incentrava anche su queste questioni che si erano trasferite nel nell'essico politico nell'attualità nella monumentalistica nella toponomastica delle città ucraine ad esempio e più avanti ancora si ebbe in in Ucraina una svolta verso destra così la chiamano gli storici ucraini della diaspora canadese all'Udoa Motil ad esempio cioè una parte delle elite ucraine soprattutto quelle dell'Ucraina occidentale che fra le due guerre erano parte della Polonia tornata indipendente teorizzarono un ulteriore salto di qualità alludo qui a Donzov il quale fu il campione di un pensiero niciano superomismo niciano ma fu anche colui il quale recepì il prototipo del fascismo alludo in questo caso ovviamente al sistema mussoliniano che abbia fortuna in buona parte d'Europa e anche in quella centrale e orientale Donzov diede il via ad una teorizzazione incentrata su un forte antimarxismo e direi quasi sulla base di un sillogismo ovvio un altrettanto forte antisovietismo venato anche di striature in un qualche modo antirussa arrivo al punto finale che è una delle questioni più spinose va affrontata con infinite cautele anche terminologiche e quindi mi riferisco a una delle ultime tappe di questo processo la seconda guerra mondiale la gran parte degli ucraini sovietici cioè parte della repubblica socialista sovietica di Ucraina uno dei quattro soggetti fondatori dell'URSS furono inquadrati gioco forza nell'armata rossa e contribuirono col proprio sangue alla vittoria nella seconda guerra mondiale che costò all'unione sovietica 25 circa 27 milioni di caduti complice anche la disastrosa gestione nella prima fase della guerra da parte di Stalin del Vosht dell'unione sovietica una parte degli ucraini soprattutto nei territori occidentali ripeto allora parte della Polonia organizzarono delle associazioni politiche o UN di sede di stanza Vienna che si organizzarono in modo armato UPA esercito di insurrezione nazionale il capo fu Stepan Bandera il braccio armato Roman Shukiewicz la questione di Bandera è molto complessa costui aveva recepito il pensiero di Don Zoff ed era un pensiero ripeto fortemente anti-marxista e anti-sovietico in una prima fase ci fu una sostanziale alleanza con l'elemento nazista che fu accolto come liberatore a Leopoli in Galizia dopodiché Hitler in modo se vogliamo poco lungimirante dal suo punto di vista iniziò a trattare gli ucraini come da Mein Kampf come aveva teorizzato cioè da Untermenschen da sotto uomini se ne alienò l'appoggio se ne alienò l'appoggio e la UPA iniziò a combattere una guerra disperata contro il nemico per eccellenza l'Unione Sovietica ma anche contro i nazisti Bandera terminò nei Lager nazisti anche se con un trattamento fra virgolette di favore e contro l'armia Krajova l'esercito polacco il problema è al centro delle questioni politiche attuali come potete ben intendere perché una parte della simbologia legata a Bandera è riemersa nel discorso politico post 1991 si era mantenuta in vita anche attraverso la diaspora ucraina rivolta direttasi in Nord America dopo il 1945 e nel 1941 è riemersa dopo il 1991 è riemersa anche in Ucraina tanto che la toponomastica la monumentalistica è cambiata la questione e vengo a concludere è questa da un punto di vista russo tutto ciò che è andato contro la grande guerra patriottica è fascismo punto dal punto di vista ucraino invece da prima era questa un'istanza emersa nelle parti occidentali del territorio ma ormai il discorso politico è stato recepito quasi ovunque credo in Ucraina si è trattato di una lotta di carattere nazionale atta a dare forza all'elemento ucraino più riottoso nei confronti della sovietizzazione per noi è un po' difficile ci troviamo un po' schiacciati come un vaso di coccio fra due vasi di ferro perché in Europa occidentale qui mi sento molto europeista e sono molto legato e mi sento anche slavofilo allo stesso tempo sappiamo che in Europa occidentale buona parte dei testi costituzionali della nostra esperienza storica si basa sull'antifascismo per cui facciamo fatica a cogliere come positiva la figura di Don Sov ma come storici dobbiamo capire ciò che ha significato per l'Ucraina perché loro dicono possiamo essere d'accordo oppure no che quello che è seguito al 45 è stato peggio uguale o se non peggiore rispetto alla alla minaccia del nazismo mi fermo qui spero di aver disegnato un quadro sufficientemente chiaro se ci saranno delle domande sul tema proverò a rispondere nei limiti delle mie competenze vi ringrazio indubbiamente un primo quadro che ci aiuta moltissimo proprio anche nel dibattito che abbiamo sentito anche nei discorsi pubblici che sentiamo che abbiamo sentito in questi ultimi mesi ci fanno capire la riemersione dei simboli e appunto quella fatica e torniamo a un luogo come questo la fatica di capire e di interpretare questo insomma è una utile palestra per abituarci appunto a comprendere ecco da una parte quindi abbiamo parlato in modo particolare di Ucraina allora io adesso passerai invece la parola al professor Gianluca Volpi dell'Università di Udine docente come ben sapete di storia dell'Europa orientale e dunque cercare di guardare anche l'altro aspetto quindi da una parte abbiamo l'Ucraina dall'altro abbiamo la Russia con una sua vocazione se vogliamo imperiale quindi insomma in espansione ecco allora seguirei questa direttrice grazie buongiorno a tutti ringrazio in modo particolare gli organizzatori di questo incontro e il pubblico così numeroso perché tutto questo ci permette di dialogare su un piano scientifico senza lasciarci trascinare in quelle che sono le polemiche attualistiche o gli schieramenti che si creano a causa della guerra di cui oggi è il 37esimo giorno tra l'altro parlare di Russia significa toccare tutta una serie di argomenti molto delicati non da ultimo il rapporto spesso di incomprensione tra l'Occidente e la Russia medesima parlare anche di Occidente è un po' limitativo perché l'Occidente è una nozione vaga può essere tranquillamente usata come arma di propaganda da chi ritiene che la Russia sia minacciata da una sorta di costellazione occidentale l'idea che la Russia si è fatta dell'Occidente è il frutto della sua lunga storia a partire dall'anno cruciale in cui l'impero degli zar è emerso nel contesto europeo come grande potenza di cui non si poteva più non tener conto quest'anno è il 1709 che dice poco quando si andava a scuola noi era un anno che veniva collegato esclusivamente alla guerra di successione spagnola e alle vicende che interessavano direttamente l'Italia ma il 1709 è l'anno della battaglia di Poltava in Ucraina con la quale lo zar Pietro il Grande detto anche occidentalizzatore vedremo in che senso sconfigge gli svedesi di Carlo XII re di Svezia e candida effettivamente la Russia a ruolo di grande potenza c'era stato un precedente ci sono delle conseguenze importanti Pietro era interessato a ciò che di buono dal punto di vista tecnologico e moderno avesse da offrire l'Europa era un po' meno interessato alle idee che circolavano e che circoleranno soprattutto nel nel diciottesimo secolo europeo ma nell'arco del diciottesimo secolo la Russia lentamente inesorabilmente a prezzo di guerre vinte guadagna costantemente territorio verso la Crimea verso i mari caldi e soprattutto verso l'Europa centrale alla fine del secolo nel 1772 e fino al 1795 incominciano le cosiddette spartizioni polacche a cui la Russia partecipa accanto al regno di Prussia e all'impero d'Austria vuol dire la scomparsa del più grande stato dell'Europa centrale la confederazione polacco-lituana che aveva dominato quello spazio e caratterizzato con la sua cultura con le sue istituzioni la vita politica intellettuale economica dell'area da questo momento la Russia acquisisce il controllo di una parte della Polonia e si ferma perché antemurali del potere russo in quel momento sono proprio la Prussia e l'Austria qual è l'atteggiamento dei russi verso l'impero e verso l'uso della forza per difenderlo e per estenderlo abbiamo avuto un pensiero russo nei secoli ostile alla guerra basti pensare a Lev Talstoi e a quello che scrive su guerra e pace nel momento dell'invasione napoleonica però lo stesso Talstoi quando parla dell'invasione napoleonica non parla di Napoleone e del suo esercito ma dice gli eserciti dell'Europa quindi la percezione che si ha e che l'Europa in qualche modo si costituisca come possibile ostacolo alla libera espansione della Russia questo non è il pensiero di Talstoi ma sono le conclusioni che traggono molti altri intellettuali russi soprattutto nell'arco del XIX secolo quando infuria il dibattito tra occidentalisti e slavofili ovvero se la Russia debba accogliere positivamente tutto ciò che di buono di moderno di attuale viene dall'Occidente o se invece meriti ripiegare sulle proprie radici nella consapevolezza di avere dei valori morali superiori questo è un tratto del pensiero russo che è importante perché è presente anche oggi e si collega con l'idea che l'Occidente sia in qualche modo una realtà civile destinata alla decadenza perché è eminentemente materialista la nascita del capitalismo in Occidente lo sviluppo del moderno sistema economico capitalista la creazione delle società liberal-democratiche vengono viste sia come un dato di progresso sia come una minaccia e questo trova il suo corrispettivo nella percezione che l'Occidente si fa della Russia che le grandi potenze si fanno della Russia che è un misto di timore quando non vera propria paura di disprezzo e di sufficienza tutti e tre questi elementi entrano nel conto perché la paura della Russia della grandezza della Russia è intimamente legata alla considerazione geografico-politica più evidente cioè che la Russia è lo stato più grande del pianeta e che ha una sua politica di espansione dinamica che va avanti per tutto il XIX secolo in tre direzioni verso il Pacifico verso l'Asia centrale in mari caldi come l'Oceano Indiano e verso l'area europea soprattutto balcanica dove si susseguono i conflitti con l'impero ottomano nel tentativo di cancellarlo è la Russia che inventa la definizione a proposito dell'impero ottomano che contraddistingue la grande questione d'Oriente dall'inizio dell'Ottocento fino alle guerre balcaniche del primo novecento come il malato d'Europa come qualcosa di implicitamente decadente destinato a sparire per effetto stesso delle forze della storia la Russia si sente portatrice di forze nuove perché molto nel pensiero degli intellettuali russi viene dato di spazio all'idea che spetti alle nazioni slave la palingenesi dell'Europa decadente materialista che l'Occidente sia decadente è un fatto geografico il sole tramonta in Occidente ma la percezione russa è legata anche a tutta una serie di influenze negative che i russi credono provengano dall'Occidente una di queste può essere anche il liberalismo perché minerebbe la coesione faticosamente raggiunta dall'impero russo da questo punto di vista bisogna dire che uno dei light motive dei russi è quello di allargare lo spazio geopolitico ogni qualvolta sia possibile per garantire maggiore stabilità maggiore potenza e in ultima analisi anche maggiore sicurezza anche se il problema della sicurezza non dovrebbe essere visto come prioritario da questo angolo visuale la Russia non si allarga perché aumentando le proprie dimensioni può essere più sicura molto più cogente è il tema della partecipazione alla gestione degli affari mondiali e del ruolo che la Russia deve avere di compartecipe nel concerto delle potenze europee e questo è un ruolo che si è conquistata nell'arco della sua storia di espansioni ed è un ruolo che viene messo in discussione in alcuni momenti del novecento un breve accenno sulla concezione imperiale legata allo sviluppo del moderno nazionalismo si tendeva ad escludere alcuni decenni fa a livello storiografico l'idea che i russi fossero nazionalisti si dava la precedenza al discorso della loro dimensione e vocazione imperiale e che quindi semplicemente la nazionalità russa all'interno prima dell'impero zarista poi dell'unione sovietica a partire dal 1917 esercitasse un ruolo trainante nella costruzione di un equilibrio di potenza interno e anche rivolto verso l'esterno poi si è scoperta l'esistenza di un vero e proprio nazionalismo russo che ha il suo cammino culturale e che è del tipo che gli storici definiscono nazionalismo assimilatore comprensivo non esclusivo il rapporto dei russi con i loro popoli in particolar modo con gli ucraini è un rapporto di amore e odio chiamiamolo così nella misura in cui se i popoli fratelli accettano la guida della grande madre o del grande fratello allora possono essere abbracciati compresi protetti e amati se invece optano per scelte diverse una delle quali può essere anche forma di autonomia o addirittura uscire dal ventre della vacca sacra allora la reazione è quella dell'orso che stritola i suoi cuccioli perché è un nazionalismo di tipo appunto assimilatore gli ucraini chiamati piccoli russi ostentatamente sono per i russi la popolazione cara da proteggere finché accetta di essere protetta e sottomessa e questo è un atteggiamento che si è visto anche nei confronti di altri popoli la russia ha vissuto una forma di colonialismo interno quando ha sottomesso le popolazioni del caucaso in 60 anni di guerra c'è un corrispettivo con gli stati uniti e con la guerra che gli stati uniti hanno condotto verso i pelle rossa il vero e proprio genocidio dei pelle rossa si accompagna al colonialismo interno russo e alla fine il caucaso diventa parte integrante dell'impero poi dell'unione sovietica poi della russia post sovietica soltanto in parte ma per spiegare anche l'atteggiamento di vladimir putin e della sua dirigenza nei confronti delle questioni interne ed esterne vale un esempio che riguarda lo stesso caucaso nella città della repubblica del dagestan di derbent dove pietro il grande sbarcò piantando la bandiera russa a pochi confini da baku e dall'azerbaijan sorge una fortezza persiana il paese musulmano e putin ha curato la restaurazione della capanna di pietro il grande sulle rive del mar caspio facendo implicitamente un discorso di questo genere noi tuteliamo le diversità linguistiche e culturali del nostro grande paese come è vero per il dagestan caucasico islamico dove vivono dodici nazionalità diverse ma rendiamo anche noto che la bandiera russa sventola sul caspio e che quindi siamo noi quelli che comandano qui e questo è un messaggio inequivocabile così come quello della conquista della crimea nel 2014 stiamo assistendo ad un progetto che è di continuità nella politica russa che risente della grave diminuzione di prestigio di potere dopo l'implosione dell'unione sovietica e che si può battezzare come la nuova raccolta delle terre della rus ovvero la ricostituzione di uno spazio geopolitico russo parallelo a quello che era il grande impero degli zar e l'unione sovietica in questo contesto il rapporto con l'occidente rimane conflittuale per ovvie ragioni perché l'occidente dimostra ha dimostrato anche recentemente di non comprendere fino in fondo quelle che sono le dinamiche culturali che spingono la dirigenza putiniana cioè noi possiamo regalare a Vladimir Vladimirovich Putin degli epiteti poco gentili possiamo identificarlo come una specie di Adolf Hitler re di vivo ma in realtà in entrambi i casi commettiamo dei madornali errori perché sottovalutiamo quelle che sono le ragioni discutibili ma sempre ragioni della spinta imperiale russa in un gioco di grandi potenze mondiali il destino che è veramente da tutelare è quello delle piccole nazioni perché rischiano di essere effettivamente la pedina dei giochi delle superpotenze o candidate tali e la Russia in base alla sua storia la sua eredità politica e geopolitica torna a candidarsi nel ruolo di arbitra del destino del pianeta grazie grazie ecco diventa diventa fondamentale avere dimestichezza con questa dimensione culturale c'è un articolo può stare simpatico o meno come figura di Kissinger pubblicato su Washington Post nel 2014 che proprio recuperava e metteva in guardia da questa dimensione culturale fondamentale da comprendere per poi districare la matassa invece siamo arrivati ai giorni nostri che la matassa è ben complicata è stato fatto riferimento alle piccole nazioni e quindi al tema delle minoranze che ci sono in queste piccole nazioni allora sempre attingendo alla ricchezza dell'università di Udine io passo sul tema chiedendo anche uno sguardo su quella che è la propaganda che si innesta su questo tema al professore Alessandro Zuliani docente di storia e cultura di lingua e cultura romena grazie ringrazio gli organizzatori di questo interessantissimo incontro tavola rotonda e il professor Cressati e la professoressa d'Orlando in particolare la professoressa d'Orlando che mi ha invitato mi ha chiesto di partecipare io dirò subito a scanso di ci sono qui nella mia veste di ricercatore di lingua e letteratura romena sono un letterato però come immagino molti di voi appassionato di questioni diciamo geopolitiche e quindi qui appunto parlerò da diciamo romenista quindi non specialista in questioni che riguardano l'Ucraina come il professor Franco dunque abbiamo sentito il sindaco di Udine poco fa dire giustamente parlare di una guerra strana ecco io direi che sì guerra strana però prevedibile questo senz'altro prevedibile poi il il vice prefetto ha parlato di necessari necessari analisi obiettive cercheremo insomma di farlo tutti qui e la professoressa d'Orlando ha parlato di un'altra questione importante che è quella dei diritti ecco ora io immagino tutti voi siate d'accordo con me se dico che nel corso degli ultimi decenni l'Europa ha fatto enormi progressi sul fronte diciamo della democrazia dei diritti civili anche e anche direi sul fronte dell'autodeterminazione dei popoli tanto per farvi un esempio potremmo citare la questione cecoslovacca nel 1993 la cecoslovacchia ha deciso di separarsi in maniera consensuale senza guerra senza invasioni oppure l'esempio dell'unione di come è avvenuta l'unione tra la Germania federale e l'ex repubblica democratica tedesca poi è vero ci sono stati tutta una serie di episodi non esattamente felici per esempio la questione jugoslava però in generale insomma l'Europa va in questa direzione qui il consolidamento della democrazia e appunto dei diritti più in generale non solo quelli civili purtroppo in tutto questo tempo la Russia è rimasta ferma al sogno imperiale questo ce l'ha più o meno anticipato anche il professor Volpi io aggiungo che a me pare che l'unico aspetto su cui i russi hanno registrato un sensibile progresso è quello della propaganda lo stiamo vedendo adesso nel caso dell'Ucraina lo abbiamo visto lo vediamo tutti i giorni ma lo abbiamo già visto anche nel caso per esempio della Brexit sulla quale è vero non esistono prove ma è opinione comune di molti analisti che la Russia abbia svolto un ruolo importante abbiamo invece le prove di quanto la Russia sia riuscita a condizionare anche le elezioni del presidente degli Stati Uniti d'America perché certamente Trump è arrivato alla Casa Bianca anche grazie alla propaganda della Russia oppure più recentemente abbiamo visto come la propaganda russa abbia svolto un ruolo importante nelle campagne di disinformazione sui vaccini per esempio perché è innegabile insomma che siano state diffuse teorie assurde e direi anche pericolose dai canali direttamente gestiti dal Cremlino mi riferisco soprattutto a Russia Today ma anche a Sputnik e quindi per non parlare di tutto quello che è accaduto sui social network di tutte queste iniziative se vogliamo l'unica che non è andata a buon fine è quella dell'indipendenza della Catalogna sulla quale Putin pure aveva puntato bisogna dire ma appunto non è riuscita l'operazione e dico questo perché in fin dei conti il filo conduttore di tutte queste azioni della la propaganda russa è fondamentalmente la destabilizzazione dell'Occidente e soprattutto dell'Unione Europea proprio ieri leggevo alcune recentissime dichiarazioni che vorrei leggervi perché sono interessanti la prima è di un deputato della Duma di Stato della Federazione Russia Sergei Leonov che manco a dirlo è un deputato del partito del presidente Putin il quale ha affermato che nei laboratori americani presenti in Ucraina sono state elaborate armi biologiche indirizzate contro gli slavi questa è una dichiarazione appunto di un deputato della Duma di Stato un altro deputato della Duma di Stato che risponde dal nome di Alexei Didenko si è spinto oltre e ha dichiarato che l'Ucraina diffonde il covid con l'aiuto degli insetti e dei pipistrelli a sua volta e qui parliamo di una figura abbastanza importante si tratta di Dmitry Rogosin che è il direttore generale della RAS Cosmos l'agenzia spaziale russa il quale ha nei giorni scorsi dichiarato che l'arma biologica prodotta dall'Ucraina distrugge scusate sto traducendo distrugge il sistema riproduttivo delle russe delle donne russe quindi ci sarebbe l'Ucraina sarebbe in possesso di un'arma biologica che è in grado di provocare tutta una serie di di malattie che indeboliscono il sistema immunitario delle donne russe e compromettendo la loro capacità riproduttiva qui mi tocca citare anche le dichiarazioni del regista russo Nikita Michalkov che tutti conosciamo il regista per intenderci di Ociciorne che tutti amiamo come regista un po' meno come megafono della propaganda russa il quale ha dichiarato che gli uccelli migratori ucraini diffondono le armi biologiche contro i russi solo qualche giorno fa il canale all news russo Russia Russia 24 avrebbe dichiarato che in Ucraina sono presenti dei mercenari di satana dei non meglio precisati mercenari di satana è stato detto proprio durante un notiziario di questo canale televisivo e tutti abbiamo assistito alla conferenza stampa del ministro degli esteri Lavrov il quale ha dichiarato solo qualche giorno fa in Turchia che la Russia non scatena mai guerre ma al contrario le evita e questa operazione speciale militare in Ucraina avrebbe appunto lo scopo precipuo di prevenire altri conflitti oppure l'ambasciatore ucraino presso le Nazioni Unite Gennady Gattilov il quale un paio di giorni fa ha dichiarato che l'esercito russo non uccide i civili ma bombarda delicatamente queste sono state proprio le sue parole trovo altresì interessante ma allo stesso tempo preoccupante il fatto che il patriarca di tutte le russie sua santità sua santità Kirill abbia parlato della guerra in Ucraina come una guerra che ha un significato metafisico ed è causata dal fatto che c'è chi vorrebbe organizzare in Donbass una un gay pride quindi queste sarebbero le motivazioni per giustificare questo intervento militare qui cito esattamente le parole del patriarca per ben otto anni hanno tentato di distruggere il Donbass il Donbass che resiste respingendo i valori promossi da coloro che oggi pretendono di guidare il mondo c'è un test di lealtà imposto da questo potere naturalmente questo potere sarebbe l'Occidente un test di lealtà una sorta di permesso di autorizzazione per accedere a quel mondo tra virgolette felice alla società consumistica al mondo delle cosiddette libertà di che test si tratta di un test semplice e allo stesso tempo terrificante il gay pride la richiesta di organizzare un gay pride è il test di lealtà imposto da quel mondo ecco vedete qui come si vede questi sono esempi di come funzioni la propaganda russa non deve pertanto sorprenderci il fatto che per nazioni come che nazioni come l'Estonia la Lettonia la Lituania e anche la Moldavia abbiano reagito in modo particolarmente fermo all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia e questo perché loro sanno molto bene che i prossimi saranno loro nell'eventualità che questa campagna militare dovesse andare a buon fine i prossimi saranno sicuramente loro lo abbiamo visto per quanto riguarda la Moldavia anche in quella scenetta che abbiamo che hanno ripreso i nostri telegiornali con il presidente della Bielorussia che indicava appunto nella in questa carta geografica con i vari fronti aperti anche quello della Trasnistria quindi della Moldavia l'idea della Russia è che sostanzialmente deve proteggere i diritti di tutti i russi che vivono fuori dai confini della Russia si parla indicativamente di 30 milioni di persone nel fare ciò però i russi non tengono conto del fatto che molti di quelli che considerano russi a volte russi non sono ma sono piuttosto russificati che è qualcosa di diverso da russi e cosa non trascurabile e questo l'abbiamo visto già anni fa nei paesi baltici ma lo stiamo vedendo anche adesso in Ucraina la Russia non tiene conto del fatto che ci sono russofoni che non sono necessariamente russofili cioè sono russofoni si dichiarano russi ma non hanno alcuna intenzione di entrare nella federazione russa per comprendere bene quindi quali sono le motivazioni che stanno alla base dell'imperialismo russo dobbiamo porci delle domande e alle quali naturalmente dobbiamo cercare di dare anche delle risposte che siano sensate la prima domanda è i confini dello stato russo coincidono con quelli della nazione russa e poi la seconda domanda che cosa si intende per nazione russa chi include quali sono i suoi limiti riguarda solo gli etnici russi o nel concetto di russi sono inclusi anche i bielorussi e gli ucraini ultima domanda da dove nasce questa ambizione imperiale russa e perché la russia pare proprio non poterne fare a meno in questi giorni si è parlato molto di un ipotetico cambio di regime a mosca e soluzione che è vista come unica possibile per una fine insomma rapida del conflitto in corso liberarsi pertanto di un capo pericoloso come è Putin di un singolo sarebbe una una sorta di diciamo di liberazione da quelle che sono le cause di tutti i mali il punto però è che se lui se ne va se Putin se ne va le sue idee restano comunque se potessimo entrare nella testa di questo uomo se potessimo entrare nella testa di Putin scopriremo che quest'uomo pensa proprio come secondo quello che è il modello dell'imperialismo russo le sue idee sono praticamente le stesse da almeno 500 anni e si possono riscontrare quasi in tutti i leader russi ciò che pensa e come agisce Putin non è poi così diverso da come da ciò che faceva e da come agiva Pietro il Grande Caterina la Grande Nicola I Stalin Brezhnev ecco io poi naturalmente il professor Volpi conosce queste cose molto meglio di me e credo anche il professor Franco però a me se penso a un leader russo che non ha avuto insomma questo atteggiamento e non si è adeguato all'ideologia imperialista penso a Gorbaciov per esempio penso a Kerensky ma il Vov ma non mi vengono altri in mente altri nomi il sogno di tutti questi leader quindi era quello di conservare ed estendere la grandezza dell'impero russo per un certo verso lo ha detto anche prima di me il professor Volpi e attenzione pure gli strumenti ideologici sono sempre gli stessi l'autocrazia l'ortodossia e il nazionalismo questi sono gli strumenti che usano questi personaggi il problema pertanto non è quello di cacciare Putin ma di fare i conti con le sue idee con l'imperialismo russo appunto la domanda che sorge spontanea è l'Unione Europea avrebbe potuto fare qualcosa per prevenire questo terribile conflitto io credo di sì e come per esempio vincolando gli affari e gli interessi economici di cui la Russia peraltro non può fare a meno perché è una secondo me una barzelletta l'idea che la Russia possa sostituire l'Europa con la Cina si sarebbe potuto vincolare appunto questi affari e questi interessi economici a riconoscimento di diritti per esempio credo che almeno questo l'Europa avrebbe potuto farlo non so se ancora bene sempre in questi giorni si è discusso ci avviamo alla fine sì rapidissimamente quindi sempre in questi giorni si è discusso molto nella stampa internazionale della Repubblica di Moldavia che come sapete è un piccolo stato compreso tra la Romania e l'Ucraina è uno stato romeno ci tengo a dirlo quindi in Europa esistono due romanie la Romania che è un paese membro dell'Unione Europea e membro della Nata e la Moldavia è un paese abitato da romeni in cui si parla il romeno non esiste la lingua moldava non esiste l'identità etica moldava è un'invenzione dei russi e mi permetto di dire è meglio dire Repubblica di Moldavia e non Repubblica Moldova perché anche questo è una questione legata al discorso della propaganda russa questo piccolo paese sta svolgendo un ruolo importantissimo perché non solo nell'accoglienza ma anche perché come dicevo secondo alcuni analisti militari potrebbe rappresentare il prossimo obiettivo della follia bellicistica di Putin sempre per tornare per restare nell'attualità qualche giorno fa l'assemblea parlamentare del consiglio d'Europa lo abbiamo ricordato con il professor Deana proprio ieri o l'altro ieri durante la discussione di una tesi di laurea ebbene il consiglio d'Europa ha votato all'unanimità per riconoscere lo stato di occupazione della regione della Trasnistria che appartiene alla Moldavia e da parte della Russia pertanto a 30 anni dall'inizio della guerra della Trasnistria che è iniziata proprio a marzo nel mese di marzo di 1992 e che ha portato alla creazione di un territorio a ridosso del fiume Dniest che de jure appartiene alla Moldavia ma de facto è una repubblica autoproclamata si indipendente e controllata dal Cremlino dove è stabilmente presente la quattordicesima armata russa ebbene ricordo anche che nel 2014 quando la Russia ha occupato la Crimea la Trasnistria ha chiesto ufficialmente di essere integrata nella federazione russa non ho mai capito bene per quale motivo a tutt'oggi la Russia non abbia ancora riconosciuto la Trasnistria perché la Trasnistria di fatto è riconosciuta solo dall'Apcasia dall'Ossetia del sud del nord e dal Nagorno Karabakh quindi neppure il Venezuela e il Nicaragua hanno riconosciuto la Trasnistria tanto per dire in questa risoluzione però del Consiglio d'Europa si riconoscono ufficialmente due cose importantissime prima la Russia ha commesso un'aggressione militare nei confronti della Moldavia sin da quando nel 1992 ha inviato la sua armata a occupare il suo esercito a occupare la sponda a sinistra del Niestre due la Russia rappresenta un pericolo per la sicurezza europea e lo abbiamo visto non solo nel caso della Trasnistria ma anche nel caso della Georgia e naturalmente adesso dell'Ucraina credo di non aver più tempo purtroppo scusatemi grazie sono pieghe interessantissime della nostra Europa che non conosciamo è davvero interessantissimo ma abbiamo i minuti i minuti contati perché c'è anche una questione che è innanzitutto una questione giuridica che riguarda come sempre queste queste dinamiche e allora io farei intervenire la professoressa Elisabetta Bergamini qui passiamo al Dipartimento di Scienze Giuridiche dunque docente di diritto internazionale in questi giorni torna il tema delle corti internazionali guarda caso torna proprio quando a 30 anni dal loro impegno significativo che è quello in Bosnia grazie grazie mille grazie agli organizzatori anche se qui io oggi gioco in casa mi fa piacere poter dare qualche spunto di diritto internazionale su questo tema molto caldo sul quale diritto internazionale finalmente forse sta riuscendo a fare un po' sentire la sua voce perché perché intanto giusto per contestualizzare la situazione dobbiamo ricordarci che noi abbiamo un'organizzazione delle Nazioni Unite nell'ambito della quale come ben sapete opera il Consiglio di Sicurezza all'interno del quale però ci sono ancora quella situazione che ci portiamo avanti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale la situazione degli stati vincitori che hanno diritto di veto il che rende praticamente impossibile per parte del Consiglio di Sicurezza riuscire ad arrivare ad una risoluzione che affronti la situazione dell'Ucraina e quindi ovviamente i tentativi sono anche stati fatti ma si sono scontrati con il diritto di veto della Russia oltre che con alcune altre astensioni da parte di alcuni stati che non avrebbero impedito l'approvazione quindi l'unica possibilità è stata quella di dire apriamo una sessione di emergenza sulla situazione ucraina ma non possiamo intervenire direttamente dall'altro lato potrebbe intervenire e in qualche modo l'ha anche fatto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite però l'Assemblea Generale non ha gli stessi poteri coercitivi nei limiti in cui si possano definire tali del Consiglio di Sicurezza l'Assemblea Generale ha approvato due risoluzioni già in questo settore però sono risoluzioni che rischiano di restare lettera morta quello è allora il profilo secondo me molto interessante e curioso che si ricollega anche se vogliamo a quello che si diceva prima sulla propaganda perché l'Ucraina ha in maniera furba possiamo dire anche se poco giuridico come termine utilizzato quella che è stata la propaganda effettuata dalla Russia a suo favore per trovare un argomento per portare la Russia davanti all'organo giudiziario dell'ONU che è la Corte Internazionale di Giustizia come ha fatto a fare questo? lo ha fatto perché la Russia avrete presente e immagino il discorso di Putin di apertura del conflitto nel quale giustificava in qualche modo il suo intervento in Ucraina per prevenire il genocidio cioè affermando che in Ucraina è in corso un genocidio e che quindi l'intervento della Russia aveva come scopo quello di proteggere le popolazioni rispetto a questo rischio di genocidio a questo questo è stato lo spunto l'aggancio al quale è riuscita a collegarsi l'Ucraina per iniziare a aprire un contenzioso davanti alla Corte Internazionale di Giustizia proprio relativo alla violazione di questa convenzione sulla repressione del genocidio che è una convenzione elaborata all'interno dello stesso sistema ONU approvata in maniera plebiscitaria a suo tempo ancora nell'immediatezza del post-conflitto parliamo di una convenzione del 55 quindi approvata in maniera plebiscitaria dall'Assemblea Generale largamente ratificata convenzione per la quale e qui sta il punto interessante sussiste la competenza della Corte Internazionale di Giustizia perché questo è importante perché lo dico per i non giuristi la Corte Internazionale di Giustizia non ha una competenza assoluta non si può occupare di qualunque controversia che venga posta in essere fra stati ahimè per il diritto internazionale la Corte Internazionale di Giustizia è competente a pronunciarsi soltanto se gli stati le attribuiscono competenza e gli stati come potete immaginare hanno molte resistenze a dare competenza ad una Corte sovranazionale che in qualche modo gli può ordinare cosa è giusto cosa è sbagliato o dirimere controversie quindi la Corte Internazionale di Giustizia non ha una competenza assoluta non è competente per qualunque controversia riguarda i stati membri dell'ONU è competente nei limiti in cui gli stati attribuiscono questo potere e in particolare le superpotenze sono molto restie nell'attribuire questo potere quindi se la questione fra Ucarina e Russia fosse stata fondata soltanto come la Russia adesso sostiene su un uso della forza quindi una violazione del divieto di uso della forza contenuto nella Carta ONU esistente come principio di diritto consuetudinario la Corte Internazionale di Giustizia non avrebbe avuto modo di pronunciarsi che cosa ha fatto allora Ucarina ha colto l'occasione di quel riferimento alla Convenzione sulla Repressione del Genocidio per dire bene tu mi dici che io sto commettendo genocidio io ritengo di non essere responsabile quindi in qualche modo mi rivolgo alla Corte Internazionale per farmi dire che non è vero quindi per ottenere una risposta negativa dimmi tu Corte perché per una questione di Reputation che io non sto commettendo genocidio questo effettivamente la Corte Internazionale di Giustizia ha ritenuto di poterlo fare quindi Ucarina nel rivolgersi alla Corte per di più non solo chiede un giudizio di merito che ahimè per i tempi della Corte vorrà dire attendere qualche anno ma ha presentato una domanda di misure provvisorie quindi lo ha fatto collegandosi a questo argomento però di fatto chiedendo cosa chiedendo alla Russia sospendi cioè chiedendo alla Corte di chiedere ordinare meglio alla Russia la sospensione del conflitto la Corte internazionale di giustizia si è trovata quindi in una situazione in cui lei era in qualche modo di questi organi sovranazionali in senso ampio l'unico che avesse a questo punto un potere di dire qualcosa si è sentita investita di questa responsabilità e ha reagito in una maniera potremmo forse dire inaspettata perché non è che la Corte internazionale di giustizia sia famosa per prendere delle posizioni estreme azzardate o particolarmente innovative anzi in realtà la Corte internazionale è più famosa per prendere delle posizioni molto tradizionaliste e caute qui la Corte avrebbe anche potuto dire non sono competente di fatto è inutile che ci nascondiamo dietro un dito il problema non è il genocidio che viene commesso in Ucraina da parte dell'Ucraina stessa ma è un problema di uso della forza la Corte invece decide di rispondere già questo è una manifestazione di responsabilità da parte della Corte la Corte chiamata in causa non se l'è sentita di tirarsi indietro non è entrata nel merito della giurisdizione in senso ampio però si è pronunciata in contrasto con quello che la Russia chiedeva perché la Russia diceva non puoi pronunciarti neanche su misure cautelari perché non sai non hai la giurisdizione la Russia ovviamente nel momento in cui è dovuto argomentare non ha argomentato in base alla convenzione in tema di genocidio ma ha argomentato in base alla legittima difesa cioè sostenendo che l'azione russa verso l'Ucraina fosse giustificabile in assenza di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza come un'azione in legittima difesa la Corte semplicemente non risponde a questo argomento della Russia si pronuncia sulla richiesta di misure provvisorie si pronuncia con dieci voti a favore scusate 13 voti a favore e soltanto due voti contrarie si pronuncia dicendo cosa che le misure provvisorie richieste dall'Ucraina devono essere accordate devono essere accordate praticamente su quasi tutta la linea quello che è stato richiesto dall'Ucraina nella domanda di misure provvisorie è stato effettivamente accordato non solo è una cosa secondo me ancora più rilevante che se si va a vedere cosa aveva chiesto l'Ucraina perché l'Ucraina presenta una domanda specifica anche scrivendo le potenziali misure provvisorie che richiede e la presenta molto cautamente collegata alla convenzione sulla lotta del genocidio quindi appunto nella domanda dell'Ucraina ci è proprio scritto la federazione russa deve immediatamente sospendere l'operazione militare iniziata il 24 febbraio che hanno come obiettivo affermato dalla Russia la prevenzione la punizione del presunto genocidio che quindi l'Ucraina dice sospendete quelle operazioni che secondo voi sono collegate a genocidio la Corte toglie tutta la parte relativa al genocidio dice sospendete le operazioni punto quindi in qualche modo la scelta della Corte è stata quasi più forte di quella che è stata la richiesta perché ha collegato la sua il suo ordine di misure provvisorie semplicemente come misure provvisorie in quanto tali sospendete quelle operazioni militari prescindere dal fatto che siano meno collegate alla questione genocidio o che ci siano delle ragioni argomentative diverse quindi questo secondo me è la novità e la forza di questa scelta della Corte Internazionale di Giustizia detto questo qual è il rischio il rischio è che la Russia che non si è presentata all'udienza e che a questo punto ha presentato soltanto alcune dichiarazioni scritte e di fatto si trova davanti ad una richiesta di sospendere ma molto verosimilmente procederà ugualmente e quindi il problema è ma qui andiamo su un altro piano che io tendo sempre a sottolineare nelle mie lezioni di diritto internazionale che purtroppo il diritto internazionale manca di attuazione coattiva cioè non esiste una volta che noi abbiamo anche una decisione di un organo sovranazionale uno qualche strumento che ci dica bene adesso vado lì e do l'attuazione coattiva quindi noi abbiamo un'affermazione abbiamo detto coraggiosa di principio rilevante sicuramente sotto il profilo della politica internazionale anche sotto il profilo giuridico del diritto internazionale rischia però la corte però non poteva fare altro non poteva tirarsi indietro dicendo tanto so che non rispetterete le misure provvisorie purtroppo per di più nel diritto internazionale abbiamo una larga esperienza di mancato rispetto di misure provvisorie da parte di un numero elevato di stati qualche stato aveva anche provato a sostenere che le misure provvisorie non erano vincolanti sulla posizione sulla quale la corte si è espressa a suo tempo dicendo no sono vincolanti se poi non le rispetti ci mancherà al limite la possibilità di dare un'attuazione coattiva ma non puoi sostenere che la formulazione per cui la corte shall indicate le misure provvisorie significa che quelle misure possano essere indicate ma non hanno una valenza quindi abbiamo un'affermazione di principio molto rilevante che ha dato sicuramente nuova linfa ad una corte internazionale che molto spesso si era dimostrata particolarmente prudente mi permetto due velocissime considerazioni perché so che il tempo è poco purtroppo a livello internazionale anche altre corte che potrebbero essere coinvolte hanno armi ancora più spuntate perché perché anche la corte penale internazionale è stata in qualche modo chiamata in causa e ha aperto anche una indagine rispetto alla situazione ritenendo di poter essere coinvolta in quanto l'Ucraina ha più ripresa accettato la competenza della corte penale internazionale per crimini commessi sul suo territorio però anche qui a parte la lunghezza dei tempi il fatto che semplicemente ha aperto un'indagine ma poi ci si scontrerà nuovamente con il problema che la Russia non fa parte del sistema corte penale internazionale che quindi non accetterà di sottoporsi a questo giudizio e poi giusto come chiusura sulla questione delle corti poi con tutt'altra ragione tutt'altra posizione ma collegata a quello che si diceva prima del Consiglio d'Europa a questo punto la Russia si è tirata fuori dal Consiglio d'Europa e in realtà per non farla tirare fuori è stata messa fuori quindi è partito con una la Russia che si poneva nella posizione di dire non mi sento rispettata non ritengo che ci sia un'imparzialità nei miei confronti è finita con una uscita decisa dagli stati del Consiglio d'Europa resterà il problema delle cause che ci sono attualmente pendenti nei confronti che vedono coinvolta la Russia per la quale bisognerà capire come gestire queste posizioni e ovviamente purtroppo da un certo punto di vista l'uscita da un sistema di tutela dei diritti è sempre un fallimento perché vuol dire che anche quel minimo potere di controllo che oggi la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha nei confronti delle violazioni commesse in quel territorio di quello Stato rischia di restare lettera morta chiuderei con questa considerazione ai me un po' triste e lascio la parola agli altri grazie considerazione che in qualche modo ci riporta quei valori comuni di cui faceva riferimento la professoressa d'Orlando io intanto do il benvenuto all'assessore del comune di Unire Varillari che ci ha raggiunto sappiamo che sono giornate particolarmente dense quindi portiamo la questione dal contesto internazionale come abbiamo fatto fino adesso al nostro territorio perché l'anticipato il viceperfetto si sta organizzando l'accoglienza un'accoglienza non facile e gli enti locali si stanno posizionando in questo intervento quindi insomma chiedo a lei cosa si sta facendo in modo particolare a Udine grazie grazie dell'invito e grazie anche della partecipazione vedo anche tanti ragazzi questo è un in qualche modo stimolo e anche un segno di conforto stamattina avete sentito sicuramente il viceperfetto nell'ambito diciamo all'altra degli saluti internazionali dirvi quello che tecnicamente si sta facendo il mio compito pertanto è quello forse di arrivare al piano veramente pratico drammatico direi anche terra terra la nostra bassa manovalanza nell'ambito della quale quindi le azioni concrete nel quale cerchiamo di fare il possibile quello che è previsto e ci siamo anche abbiamo provato anche a inventare qualcosa il comune sta facendo due cose fondamentalmente si muove su un piano istituzionale quello che avete sentito stamattina cioè quella serie di programmi volti a implementare l'accoglienza e l'integrazione questo passa attraverso dei passaggi appunto amministrativi che sono una convenzione con la prefettura fatta dal comune questo sulla stimolo dell'ANC che è l'associazione nazionale dei comuni italiani quindi tutti i comuni sono stati chiamati a fare delle convenzioni con la prefettura in modo tale da poter seguire e realizzare in maniera uniforme e omogenea sul territorio nazionale dei programmi di accoglienza e integrazione coinvolgendo gli enti del terzo settore che sono involgare chiamate le cooperative che sono quelle che hanno gestito l'accoglienza per altre necessità diciamo umanitari fino ad ora questo ha portato il bando del comune uscito e quindi nella sostanza verranno messi a disposizione 100 ulteriori nuovi posti disponibili per accogliere queste persone che sapete hanno una sociologia una demografia un po' diversa rispetto a quella che eravamo abituati quando parlavamo di accoglienza fino ad adesso queste sono famiglie in genere sono mamme la nonna con figli abbiamo anche famiglie molto numerose e quindi il tipo di accoglienza è settato in maniera diversa deve essere più un'ospitalità e una messa a disposizione di servizi che non tutto un programma anche diciamo di educatori psicologici eccetera perché hanno bisogno di cose concrete sono famiglie già strutturate hanno il loro equilibrio nella maggior parte dei casi il nostro compito è quello di metterli più a loro agio possibile e dare il maggior numero di risposte ai loro bisogni comunque c'è questo bando entro fine aprile saranno messi a disposizione questi cento posti presso queste che sono le strutture di accoglienza utilizzate finora magari un po' ripensate e meglio adattate alle esigenze questo crea sempre una partnership tra pubblico e privato la cosa bella è che si cerca di stimolare la coesione sociale cioè stimolare il senso di solidarietà di sussidiarietà ogni occasione buona per chiamare le nostre persone la nostra cittadinanza e direi soprattutto i nostri giovani al fatto che dobbiamo abituarci a pensare anche quelli che vengono che stanno vicino a noi toccare con mano è forse uno l'unico aspetto positivo di questo dramma di questa tragedia immensa perché ricorda a noi ai nostri giovani a noi ricorda ai nostri giovani fa capire che esistono delle cose a cui non avevamo mai pensato avremmo dovuto in qualche modo far fronte esistono le cose che vedevamo nei film esistono in realtà e allora cosa dobbiamo fare anche perché questo vi riempirà di soddisfazione ragazzi se riuscirete a mettervi a disposizione quindi questa è la parte istituzionale questo programma di accoglienza abbiamo avuto un paio di famiglie con cinque figli a quel punto la mamma la nonne e cinque bambini allora a quel punto ci siamo organizzati così abbiamo fra virgolette requisito anche un piano di una struttura che si chiama la casa albergo per anziani autosufficienti che abbiamo in via Micesio non l'abbiamo non ce l'ha la quiete che è un ente di diritto pubblico però lavora diciamo i cui vertici in cui direzione viene nominata dall'ente locale cioè dal comune e lì abbiamo sistemato in queste strutture che sono una specie di mini appartamenti queste due famiglie con cinque figli ciascuna mettendo poi a disposizione anche i servizi diciamo non solo di prima necessità ma anche in qualche modo di fra virgolette di integrazione questo è quello che abbiamo fatto finora e questo è quello che prevede la parte istituzionale benissimo cosa devono fare i comuni direi fra virgolette per legge devono realizzare queste quando si parla si può stare senza no? sì non è che perché sono medico dopo mi fotografate dite che io non rispetto le normative allora i comuni devono fare questo a noi è sembrato un po' poco mettiamo facciamo il bando mettiamo a disposizione cento posti abbiamo anche fra virgolette requisito questa specie di casa albergo dove comunque si sta molto bene c'hanno anche muletti con la bicicletta nel giardino gli abbiamo fatto un campo di bocce eccetera bene poi abbiamo detto tutto qui ci siamo detti anche perché avevamo tante persone che ci telefonavano direi che c'è stata una specie di chiamata alle armi da parte della nostra città o di movimento di stimolo di ribollio quasi popolare di gente che ha voglia di fare e di fare qualcosa di concreto e abbiamo ricevuto tanti input in questo senso allora abbiamo detto bene allora inventiamoci qualcosa innanzitutto ci sono tante famiglie ucraina abbiamo circa 1100 ucraini residenti nella nostra città e tutti si sono impegnati a ospitare almeno o un parente o figlio di parenti o amici direttamente prendendo contatti con direi la casa madre da dove provengono e queste persone vanno aiutate allora ci siamo inventati un contributo un attantum un contributo per le persone che ospitano abbiamo anche disciplinato una certa cifa pro capite perché un esempio che mi tocca direttamente dove lavoro in ospedale c'è una nostra giovane biologa che ha ospitato i cinque figli di suo fratello sapete che i maschi sono rimasti là e poi la cognata anche poliziotta deve rimanere là questi sono arrivati ma questi ciò sono i cinque noi nemmeno dobbiamo andare non possiamo dire aspettiamo il bando dell'accoglienza aspettiamo la misura nazionale quindi noi usciamo martedì in giunta usciremo con un contributo un attantum il sindaco è stato sensibilissimo a questo assolutamente mettiamo a disposizione fondi propri e quindi si è disciplinato che intanto che cerchiamo di capire aspettiamo che lo Stato metta in atto quelle azioni e quelle misure che sono state preannunciate intanto il Comune in concreto interviene in solido per dare una mano a queste famiglie ospitanti non sappiamo quanti saranno però insomma abbiamo senzato se servirà si stanzierà di più il Comune questo ha fatto e questa è una cosa direi molto pratica molto bella la seconda cosa se poi non ci saranno misure provvederemo a trovare dei fondi noi apriremo sempre con martedì portiamo nella giunta comunale che è l'organo che delibera queste iniziative del Comune e le rende ufficiali e lo dico per i ragazzi ovviamente io uso dei termini anche un po' improprio ma per fare capire ai ragazzi cosa faremo c'è questo conto corrente che verrà inaugurato con martedì questo conto corrente dove chiunque voglia fare delle erogazioni liberare e versare delle somme può farlo e il nostro compito sarà quello di fare delle azioni concrete che permettano di capire alle persone dove sono andati i loro soldi perché fare il conto corrente dopo magari devolverlo a organizzazioni che si articolano sull'accoglienza e su tante altre cose potrebbe non dare quella sensazione di concretezza che poi porta alle motivazioni che poi portano all'erogazione quindi questo conto corrente comunale specificamente dedicato a delle iniziative concrete la terza cosa che è quella che a me piace di più abbiamo detto bene ci sono tante persone che vogliono mettersi a disposizione riceviamo tante richieste dalle famiglie che ospitano le famiglie ucraine che ospitano anche famiglie non ucraine proprio dinesi che hanno preso in casa la mamma e due figli varie assetti di famiglie e abbiamo detto bene allora noi facciamo uno sportello di informativo l'abbiamo chiamato così per ora ma è in qualche modo un centro di coordinamento nel quale la cosa che a me piace innanzitutto ricordare è che nelle premesse non gira un euro puro volontariato tutto ciò che prevede i contributi noi ci sono diciamo quelle che sono i bandi gli avvisi le gare eccetera è un'altra cosa il comune ha voluto fare questa cosa ci siamo dislocati in via Micesio dietro dove c'è questa dove c'è la sede questa casa albergo dove abbiamo un centro di uno che si chiama Micesio e quindi abbiamo fatto questo sportello informativo che fondamentalmente raccoglie tutte le richieste e le esigenze di vario tipo dei cittadini italiani o ucraini che ospitano delle famiglie o bambini o ragazzi ucraini che sono scappati dalla guerra e le interfacce con quelle che sono le disponibilità le messe a disposizione di tutta l'organizzazione di volontariato di carità o anche le iniziative di singoli che dicono io mi sento e devo fare qualcosa abbiamo avuto messa a disposizione di persone che vogliono dare degli appartamenti lì la questione è un po' delicata cercheremo di definirla quindi c'è disponibilità di appartamenti per ospitare queste persone c'è gente che desidera ospitarli in casa l'ordine degli avvocati si è fatto viva ha detto anche noi vogliamo partecipare vi diamo una mano anche per quelli che possono essere degli aspetti squisitamente giuridici altre organizzazioni che si mettono a disposizione scuole che vogliono fare anche dei corsi di lingua italiana perché abbiamo anche una bella salarina insomma c'è questa cosa che è in divenire e noi non abbiamo un programma fisso per questo abbiamo semplicemente attivato questo centro c'è un indirizzo mail emergenza ucraina chiocciolacomune.udine.it e c'è anche un numero di telefono dedicato e io se mi permettete farei anche una qualche modo una messa a disposizione una call for action per i ragazzi ragazzi chiunque voglia fare volontariato è benvenuto è ben accolto perché di cosa fare ce ne saranno tantissime i ragazzi oggi hanno bisogno di sentirsi soprattutto per i ragazzi i giovani e i bambini che ci sono hanno bisogno di sentirsi in qualche modo integrati nella nostra società e hanno bisogno di sentirsi spalleggiati hanno bisogno di sentire il nostro affetto hanno bisogno di sentire che loro non sono soli ci sono cose concrete e cose anche meno concrete ma che vanno più sugli aspetti direi morali c'è bisogno di tutto questo poi ci sono per l'amore di Dio i buoni spesa c'è la coce rossa che sta erogando a più non posso la Caritas il banco alimentare e anche lì c'è bisogno di tanto bracciantaggio e credo che per voi possa essere un'esperienza molto utile e formativa oltre ad essere utile per coloro che sono i destinatari ecco quindi le nostre azioni sono queste quello che sarà l'evoluzione di questo sportello informativo bar centro di coordinamento non lo sappiamo perché di certo noi non ci poniamo dei limiti tutto ciò che sarà nelle nostre possibilità e troveremo dei partner anche che hanno ragione diciamo competenza per poterci aiutare in questo percorso di regolazione di questi servizi e noi lo faremo quindi il comune è sia a disposizione di cittadini ma anche a disposizione di tutte le persone che vogliono mettersi a disposizione di questi ragazzi soprattutto minori che sono che sono dovuti scappare questo è lo stato dell'arte al primo aprile noi speriamo sempre che non ci sia bisogno di tutti voi ragazzi perché speriamo sempre che le cose possano avere un'evoluzione positiva costruttiva filantropica però da quello che abbiamo sentito dalla professoressa di diritto internazionale mi sembra di capire che ci siano fondate ragioni di ritenere che questa cosa al di là delle intenzioni degli attori in campo neppure dal punto di vista della giurisprudenza o del richiamo al rispetto di alcuni principi fondamentali per il nostro genere sia nell'immediata diciamo prospettiva di poter trovare conclusione quindi io ancora ringrazio tutti coloro anticipatamente che vorranno mettersi a disposizione e di averci dato spazio in questo contesto in qualche modo per fare anche una far sapere cosa sta facendo il comune e anche poter intercettare i ragazzi che vogliano in qualche modo rimboccarsi le maniche una serie una serie di interventi molto articolata mi permetto di aggiungere che chiaramente questo è il cuore del Friuli la città più grande ma su tutto il territorio gli enti locali comuni con le possibilità che hanno si stanno impegnando proprio per garantire accoglienza e la società civile stessa da giornalista arrivano veramente ogni giorno tantissime tantissime segnalazioni disponibilità iniziative aggiungo anche che l'auspicio più bello è che questa umanità verso chi c'è così vicino per valori per stessa radice culturale europea ci faccia anche sentire più vicine anche le guerre quelle che sono più lontane che spesso dimentichiamo e appunto farci capire che cos'è veramente la guerra ora last but not least la credo forse permettetemi se lo dico la voce più importante di tutti perché la voce che arriva è una voce ucraina comunità ucraina in Italia 250.000 persone grosso modo e grosso modo 177.000 sono donne ne rappresentano il 37% delle donne ucraine in tutta Europa quindi davvero un dato rilevante insieme a noi c'è Ilona Kurtash dell'associazione culturale ucraina Friuli che credo di non sbagliarmi è il motore di tantissime iniziative senza cui proprio gli stessi comuni non riuscirebbero esattamente e partner ufficiale e anche di molti altri comuni per cui davvero il vostro impegno è significativo ecco voi Ilona nascete come una realtà culturale perché lo dice il nome stesso e vi siete trovati dall'oggi al domani non soltanto a vivere una dimensione di angoscia e dolore personale ma anche una dimensione di trasformazione in associazione umanitaria di fatto funziona sì ok buongiorno buongiorno a tutti grazie intanto agli organizzatori di questo evento per averci invitato per avermi invitato insomma io parlo a nome dell'associazione culturale ucraina friuli ma è sempre un grande piacere tornare qui perché questa è la mia università dove ho studiato dove mi sono laureata quindi tornare tra queste mura è sempre un grande piacere e un grande onore scusatemi la voce un po' tremolante perché sono un po' emozionata e porto i saluti da parte di tutti i membri della nostra associazione e in primis dalla presidentessa Victoria Schebba che oggi non è con noi e ci sono con me oggi tre signore tre ospiti che sono donne rifugiate sono arrivate in Italia pochissime settimane fa ve le presento brevemente dopo alla fine del mio intervento vorrei dare voce a queste persone molto brevemente perché si sono preparate in italiano ovviamente potete capire che il livello linguistico non è ancora insomma fluido ecco oggi c'è con noi Irena Zaduroznikova lei è la dottoressa di ricerca lei è la dottoressa di ricerca e docente della facoltà di ingegneria civile presso l'università nazionale di Lutsk in Ucraina c'è con noi Victoria Kocubei lei è la neolaureata nell'area musicale maestra di pianoforte sua mamma Natalia Kocubei che è la dottoressa di filosofia dottoressa di filosofia docente universitaria preside della facoltà di management e tecnologie innovative nelle attività socioculturali dell'università pedagogica Dragomanov di Kiev in Ucraina Allora si nasciamo noi come l'associazione nasciamo nel 2006 e nasciamo come associazione culturale quindi con l'obiettivo principale quello di insomma farci conoscere culturalmente rappresentare quella che è la nostra cultura ricchissima le nostre tradizioni secolari e questo consisteva principalmente nel prendere parte insomma nelle varie eventi culturali organizzati dagli enti locali oppure organizzare noi stessi degli eventi di presentazione dove insomma ci facevamo conoscere al pubblico italiano diciamo che non siamo diventati da oggi a domani volontari della missione umanitaria perché come ben sapete il conflitto in Ucraina non inizia il 24 febbraio del 2022 ma inizia nel 2014 e con l'annessione di Crimea e l'invasione di alcune delle regioni di Donbass e noi ci siamo un attimo riqualificati insomma ci siamo riorganizzati perché abbiamo voluto essere vicini al nostro popolo e quelle che erano le esigenze anche pratiche scusate e quindi abbiamo organizzato la raccolta di generi alimentari di farmaci di fondi da mandare ai volontari in Ucraina che operavano operavano lì e attraverso anche una serie di eventi organizzati di raccolta di dolciumi di regali per i bambini orfani e di soldati caduti in questa guerra nel febbraio del 2022 quando la guerra diventa di dimensioni quelle che conosciamo insomma drammatiche e gigantesche e i primissimi passi erano cioè il sentimento iniziale di shock di distordimento di paura ci hanno spinto di organizzare una serie di eventi di manifestazioni in protesta contro questa guerra perché in qualche modo si sperava ancora che possa essere una cosa una situazione reversibile se vogliamo insomma e quindi il professor Volpi che ho piacere di vedere perché è sempre con noi durante tutte queste manifestazioni abbiamo organizzato la manifestazione a Udine a Gurizia a San Vito al Tagliamento a Codroipo e insomma siamo stati anche molto sostenuti dalla cittadinanza italiana e per quello siamo molto grati perché non 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 ci sentivamo soli ci sentivamo sostenuti e in qualche modo condivise le nostre le nostre ragioni i nostri dolori dopo il passare dei giorni ovviamente si è capito che la situazione non è di veloce risoluzione ed è sorta una serie di problematiche che andavano affrontate immediatamente prima delle quali erano le missioni di recupero delle persone che si trovavano sulle frontiere dopo il grande esodo dopo i primi giorni di 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 fuga che cercavano di avarcare i confini e rifugiarsi nei paesi diciamo confinanti di Unione Europea e quindi con aiuto di volontari delle istituzioni italiane della croce rossa italiana e del comune di Udine di cui l'assessore alle 5 del mattino del 5 marzo era con noi a incontrare questi pullman che arrivavano la nostra associazione ha organizzato appunto questi queste piccole missioni di recupero questi viaggi di recupero delle persone per poi portarle qua in salvo e un grazie di cuore vale famiglie italiane che numerosissime si sono offerte chi mettendo a disposizione una stanza un posto letto un appartamento al mare una casa insomma chi come poteva si è unito a questa missione di solidarietà ovviamente all'arrivo di queste persone qua sul territorio ci pone di fronte a delle sfide che dobbiamo trovare il modo di affrontare e abbiamo bisogno di aiuto delle istituzioni degli enti delle associazioni di tutti perché questa situazione non può essere affrontata da cittadini semplici comuni perché se arriva una famiglia di cinque persone insomma una mamma con una nonna e tre bambini è evidente che non possono essere sistemate insomma qua e là un po' una settimana qua due settimane là e devo dire che siamo in attesa siamo in attesa veramente trepidante del piano di accoglienza che dovrebbe che dovrebbe arrivare a giorni perché sì appunto come ho detto prima è una situazione di che ci pone davanti a varie problematiche che vanno risolte da quella di integrazione anche linguistica da quella di integrazione sociale inserimento scolastico dei bambini inserimento lavorativo delle persone delle mamme che arrivano c'è da dire c'è da dire tanti molti di questi molti di queste persone la maggior parte di quelle che sentiamo di quelle con le quali parliamo sperano e attendono che tra qualche tempo in breve tempo potranno fare ritorno a casa nel loro paese e altresì è evidente che per molti di loro non sarà possibile nel futuro prossimo quindi veramente confidiamo in aiuto delle autorità e in collaborazione tra tutti per portare a termine questo lavoro di cui siamo davanti al quale ci siamo trovati e lo dobbiamo affrontare con dignità e coraggio ultima cosa su su quello che è già stato fatto a parte la disposizione del hub vaccinale presso l'entifiera che si occupa insieme con i volontari e le cooperative che aiutano con la mediazione linguistica e culturale si occupano di tutta quella questione che riguarda la parte sanitaria quindi test covid isolamento tessere sanitarie temporanee e vaccinazione per queste persone questo è già attivo questo funziona e siamo molto orgogliosi e contenti della della partenza dello sportello informativo quello che trova sede presso la protezione civile di Udine dove le persone rifugiate possono rivolgersi non solo per la richiesta di informazioni insomma per direzionarsi un attimo sul posto ma ricevere aiuti concreti quali generi alimentari alimentazione per i bambini neonati vestiario calzature farmaci insomma per quelle persone che si sono fermate un po' da amici da parenti da amici degli amici e non hanno ancora ricevuto un sostegno diciamo strutturato insomma da parte delle autorità e quindi si occupano in sostanza di queste persone volontari che appunto come ha detto l'assessore non gira non gira un euro siamo tutti che lavoriamo e doniamo offriamo quello che possiamo non voglio essere troppo lunga o finisco con la presentazione velocissima di un altro nostro progetto di cui siamo molto fieri e che va molto bene che è l'apertura del centro di raccolta di aiuti umanitari presso il centro commerciale Città Fiera per cui voglio subito ringraziare il gruppo Bardelli che ha messo a disposizione tempestivamente gratuitamente i locali commerciali i magazzini il supporto informativo volantinaggio pubblicità le persone possono portare cibo vestiti farmaci cibo per animali anche perché c'è anche questa anche questa è una grande emergenza nel nostro centro vengono raccolte smistate selezionate impacchettate tutti questi beni che poi vengono accatastati nei magazzini sempre concessi dal gruppo Bardelli che successivamente vanno spediti negli hub che si trovano nei confini sul confine ungherese che poi vanno distribuiti dai volontari del posto nelle regioni dell'Ucraina dove c'è più bisogno in questo devo dire grazie anche all'international logistic line e le strade italia di gurizia che sono si sono offerti di dare una mano nella logistica hanno dato il pieno supporto logistico e il disbrigo anche delle questioni doganali perché c'è anche questo anche questo è una parte del lavoro che va fatta ultima cosa per concludere voglio dire che nel nostro centro di raccolta di aiuti umanitari lavoriamo tutti tutta la comunità ucraina che vive ormai da anni qua tra cui anche io e la mia famiglia le persone italiane che hanno a cuore la nostra insomma la situazione gli studenti delle scuole e anche gli studenti universitari per cui colgo l'occasione di ripetere quello che ha precedentemente detto l'assessore che chiunque voglia offrirsi volontario è benvenuto da noi servono braccia servono mani dappertutto nell'impacchettare nel magazzino nell'ufficio rispondere al telefono insomma chiunque può viene e dà una mano anche le nostre ragazze che sono arrivate dall'ucraina ogni giorno sono lì perché ognuno arriva e dice cosa posso fare come posso aiutare come posso rendermi utile voglio dire un grande grazie a tutti voi a tutta la comunità italiana a ogni italiano alle istituzioni allo Stato che fa sta facendo e spero farà ancora per il sostegno e la solidarietà che stiamo ricevendo in questi giorni per la quale siamo veramente ci inchiniamo davanti a voi siete davvero immensi grazie grazie e allora scusate allora chiamo le nostre dottoresse qua un attimo se potete darci ancora un briciolo di tempo e poi buongiorno cari colleghi e studenti permette di rivolgermi e voi in questo modo perché sono anche io un membro della comunità accademica sono dottoressa di ricerca delle scienze tecniche professoressa associata dell'università tecnica nazionale dell'UTSC di facoltà dell'architettura della costruzione e del design l'università tecnica nazionale dell'UTSC è un'università tecnica leader in Ucraina ma al momento sono una rifugiata una parola così terribile che per me che per altri ucraini che sono stati costretti a lasciare il loro paese per motivi di salvezza sono stata a Udine prima della guerra e in tante altre città d'Italia sognavo di portare i miei studenti e colleghi a mostrare la bellezza del vostro paese quella dell'architettura della moda e del design raccontavo quale persone meravigliose patriote e amanti suo paese siete voi e credo che il mio sogno sicuramente si avverrà dopo la guerra scusatemi grazie attualmente sono membra dell'organizzazione di volontariato in cui lavoro del 5 marzo sono grata alla mia famiglia di volontari guardata dal capo Vittorio Schiba che ha un grande cuore in cui c'è un posto per tutti per tutto questo tempo ho osservato i nostri ucraini che sono usciti da quasi un inferno hanno vissuto i momenti peggiori della loro vita si sono finalmente trovati in una città sicura hanno trovato rifugio in Italia hanno voluto essere utili alla loro madre ucraina anche a distanza sono quando formente si sostengono a vicenda ognuno cerca di rendersi utile per gli altri ma non da meno sento il sostengo degli italiani comuni non riesco ancora a trattenere le lacrime che sto cercando di nascondere ai miei colleghi ringrazio ogni italiano quando portano aiuto al nostro centro di volontariato Ucraina Friuli o semplicemente si sostengono moralmente vorrei esprimere la mia gratitudine al popolo italiano e alle autorità che stanno aiutando il popolo ucraino durante questa terribile guerra ringrazio ringrazio a tutti coloro per la sincera compassione che ci ha già aiutato o ci aiuterà vi dico che siete meravigliosi reattivi e pronti ad aiutare con tutto il cuore vi ringrazio moltissimo ci tiene a precisare che ha studiato l'italiano solo per da un mese insomma quindi si scusa per qualche imperfezione vittoria prego il mio discorso non sarà affatto scientifico ma molto personale dato che sono una musicista e mi ho occupato di arte nella vita sento più che analizzo il 23 febbraio dopo il lavoro come di solito stavo prendendo un caffè il mio bar preferito è chiaro che il tema delle conversazioni negli ultimi mesi era soprattutto una la guerra ero sicuro al 99 100% che non sarebbe iniziata e poi il 24 febbraio alle 7 del mattino circa ho ricevuto una chiamata da mia amica che diceva che era iniziata la guerra certamente non potevo crederci finché non ho letto la notizia dopo la colazione io e la mia famiglia siamo andati al supermercato c'erano solo code per la strada c'erano code di persone ovunque al supermercato alla farmacia al bancomat al negozio di animali non riuscivo ancora a capire cosa stava succedendo vedevo la mia città diventare deserta la famiglia con i bambini valigie e animali che si arrivano in macchina e andavano i giorni successivi non sapevamo che giorno fosse sapevamo solo che giorno di guerra era il secondo il terzo il quattro sono entrati in vigole la legge ammortizzale il coprifuoco che è durato per i giorni e potevamo uscire di casa potevamo uscire solo nel giardino della casa e ogni giorno c'erano sempre meno persone si poteva sentire l'ansia nell'aria che non finiva esisteva in parallelo era una giornata grigia o meglio erano i giorni grigi e scuri la cosa più terribile era che il giorno passava con una velocità incredibile e la sera diventa un'eternità di notte ci sono più rai aeree ed esplosioni e ogni giorno e ogni giorno desideravo che facesse puio non più tardi ma non voglio parlare delle cose brutte in Ucraina orientale è stato peggio che Kiev tutti abbiamo tenuto le mani lontano dei nostri sentimenti abbiamo cercato di distrarci dirò solo che era assolutamente impossibile fare le cose professionali era più difficile respirare ogni giorno non ne sento letterale naturalmente il 4 marzo abbiamo fatto colazione e abbiamo deciso di sì oggi andiamo non avevamo nessuna valice di cui preoccuparci abbiamo preso il minimo di cose documenti e due gatti andati alla stazione ferroviaria non ho mai visto Kiev così e non avrei mai voluto vederlo così la gente costruiva barricade c'erano ostacoli e anticarro nelle vie principali cosa? ve lo immaginate nelle mie Kiev voglio dimenticare tutto e non vederlo mai più ma nessuno mi ha chiesto cosa voleva ad essere onesto siamo stati molto fortunati alla stazione ferroviaria siamo saliti sul treno abbastanza velocemente in quel treno siamo saliti in quello ci ha portato a Ushford certo il treno era pieno della gente e il viaggio non era comodo come al solito ma questo non è importante a Ushford abbiamo passato cinque giorni a casa dei nostri conoscenti dove abbiamo fatto la nostra prima bella dormita grazie alle mie amiche italiane abbiamo avuto in contatti con la sessione degli ucraini in Friuli che ha citato Gentili di aiutarci il modo in cui siamo arrivati a Udine è un'altra storia è un miracolo persone meravigliose ci hanno aiutato non sono un politico e non sono molto lontano ma la vita ha messo me la mia famiglia e il mio paese e queste condizioni e ora dobbiamo cercare nuove opportunità per realizzarci svilupparci e continuare con la nostra attività siamo molto grati alla vostra università per questo incontro grazie per averci dato l'opportunità di raccontare qualcosa non vediamo d'ora di collaborare ancora chissà cosa è meglio aspettare che la bomba arrivi nel tuo appartamento o cercare se stessi in una nuova realità e un nuovo paese grazie allora noi vi ringraziamo di cuore credo di esprimere a nome di tutti l'emozione che abbiamo provato nell'ascoltarvi perché leggere su un giornale o ascoltare la televisione è un conto avere le persone davanti che aprono il loro cuore e raccontano la propria vita è tutt'altra questione mi permetto di soffermarmi su due parole utilizzate da Ilona dignità e coraggio sono le caratteristiche che vi riconosciamo e che davvero vi caratterizzano in questa vostra terribile esperienza rispetto ai miracoli speriamo davvero di farne tanti altri insieme con la solidarietà con la solidarietà di tutti allora la professoressa Dorlando mi ha dato dieci minuti ancora perché ci sono diciamo dieci così sono più brevi per alcune domande che sono arrivate allora la professoressa Bergamini è stata bravissima perché ha risposto ancora prima alle domande che erano già arrivate quindi non ha domande le aveva già prima allora ci sono delle domande per il professor Franco allora innanzitutto brevemente per chi non ha mai studiato russo o ucraino come e quando ha iniziato a svilupparsi la lingua ucraina e poi c'è un'altra domanda chiedo al professor Franco se il nazionalismo ucraino è diverso o meno da altri nazionalismi cresciuti in Europa per esempio nei Balcani dopo la dissoluzione dell'ex Yugoslavia in quanto non ha carattere etnico c'è riferimento a Zelensky può dirsi che è un nazionalismo non etnico ma fondato su un'identità civica o questi elementi non sono sufficienti faccio rispondere grazie dottoressa adesso è un po' più difficile parlare perché l'emozione ci ha coinvolto proviamo comunque rapidamente e allora mi è stata posta una domanda circa la genesi della questione ucraina non sarei io la persona più adatta a rispondere a una tale domanda perché io ho una formazione di storico dei paesi slavi è una materia che si chiamava così adesso non esiste più storia dell'Europa orientale questione che peraltro ci induce ci indurrebbe a riflettere su quelli che sono i confini dell'Europa è un'altra bella questione e su questo inviterei a leggere tra le tante opere possibili i libri di Vittorio Strada della sua maturità comunque quando emerge una lingua compiutamente quando iniziano a separarsi le lingue slavi orientali fra di loro si ritiene intorno al 600 quindi intorno al XVII secolo all'orquando la gran parte della produzione letteraria era comunque stampata nei monasteri la prima opera letteraria stampata fu la post da parte di di Fyodorov eccetera eccetera poi quando si arriva alla fine del 700 le pur sparute ma di grande qualità elite ucraine iniziano a scrivere le prime opere in lingua letteraria sono quelle che ho citato prima c'è una dietriba dietro c'è una discussione ma generalmente si ritiene che la prima sia l'einaide di Kotlerevski e poi di lì a poco venne il già citato Kvitka Osnovianenko e poi l'opera di Rompente di Shevchenko e rispetto a tutto questo Castamaro è molto importante perché scrisse soprattutto di storia ma anche di letteratura e lo fece in questa ottica molto particolare peculiare il suo ucraino è giudicato non purissimo visto che lui era di madrelingua russa ma la sua opera resta comunque importante anche per l'Ucraina specialmente i suoi pamphlet come Divieruskian Rodenastì già citato prima ecco quindi se la domanda riguardava appunto la genesi delle lingue salve orientali la collocherei ecco in una fase completamente compiuta alla fine del settecento all'inizio dell'ottocento in Russia forse si sviluppò leggermente prima però anche in questo caso all'inizio dell'ottocento ci fu il grande impulso di Pushkin poi c'è una ulteriore domanda sul sui nazionalismi cercherò di essere di essere rapido ce ne sono ce ne sono in tutta Europa diciamo che nell'Europa occidentale forse abbiamo parzialmente concluso prima questa esperienza perché forse ne siamo usciti un po' nauseati dal dal portato del fascismo ecco poi c'è una diatriba interna all'Italia circa il concetto di patria che per molti anni era stato conculcato in qualche modo lo si è fatto lo si è legato io direi positivamente è un concetto di Europa nel quale mi ritrovo appieno in Europa centro orientale con delle specificità particolari il discorso è riemerso dopo la caduta dei sistemi staliniano o titoista è rinato è emerso come un fiume carsico questa è una bella questione esiste anche in Ucraina ripeto in Ucraina lo ha percepito lo ha ricepito soprattutto dal modello mussoliniano come anche altrove esiste la riflessione che potrei fare è questa a livello di elezioni se andiamo a guardare i risultati delle elezioni anche recenti in Ucraina i partiti di estrema destra dimostrano di avere una presa minima sulla società è anche vero che però se andiamo a guardare quello che è avvenuto a Maidan a Yevra Maidan che gli ucraini chiamano rivoluzione della dignità è vero effettivamente che questi gruppi magari numericamente sparuti hanno fatto un lavoro concreto per cui hanno avuto molta visibilità hanno concretamente messo sotto scacco la polizia che in qualche modo faceva riferimento al governo di Yanukovic al tempo dovrei riflettere per capire se c'è qualche legame qualche linea di tendenza che possa rendere simile il modello ucraino a quello della ex Jugoslavia e al momento non avrei una risposta quanto a Ziliensky si direi effettivamente che specialmente dopo potremmo far partire la questione della rivoluzione arancione e poi fare riferimento a Yevra Maidan effettivamente sì il modello che ci si riferisce in Ucraina è un modello civico anche perché l'Ucraina percepisce di essere in qualche modo un territorio misto ma che ha nell'elemento sociale politico e civico il vero trae di union e a questo fatto mi riferisco e concludo per lasciare la parola agli altri relatori mi riferisco al fatto che forse prima di questa drammatica guerra in buona parte dell'Ucraina centrale e orientale le persone specialmente quelle più mature avevano elaborato una identità personale un'identità che era duplice in parte russa in parte ucraina quindi c'era effettivamente un elemento estremamente composito e misto effettivamente il fatto che sempre in modo più massiccio una parte della popolazione ucraina si sia ritrovata nelle posizioni del governo fa pensare che questa sorta di patriottismo sia di tipo per l'appunto civico grazie gli studenti le hanno dato ancora un ulteriore ambito di ricerca e di non odde dicevano sul rispetto ai nazionalismi faccio altre due domande non so chi vuole rispondere se vuole il professor Volpi una domanda arrivata da chi segue da casa online quindi siamo anche seguiti l'identità autonoma dell'Ucraina rimane storicamente all'Unione sovietica come mai solo ora si avvicina all'Unione europea non so chi vuole rispondere se vuole rispondere il professor Volpi sì in realtà non è solo ora qui abbiamo un cammino che non è stato ben identificato ma che c'era all'interno dell'Unione sovietica ufficialmente l'Ucraina era una repubblica sovrana facente parte della federazione e per giustificare in parte riparare dei torti del passato la dirigenza Khrushchev aveva diciamo così assegnato la Crimea al territorio ucraino il problema è questo che nel momento in cui l'Unione sovietica implode l'Ucraina si trova nella possibilità di realizzare quello che era un sogno nazionale maturato da tempo che in passato era stato soffocato dalle circostanze della storia cioè l'Ucraina è in una posizione geopolitica geografica meglio critica un po' come è stata la Polonia è una di quelle posizioni nella quale la storia impedisce il libero esercizio dei propri diritti qualora si manifestino perché il gioco delle grandi potenze ha la prevalenza grazie c'è un'ulteriore domanda che allarga lo sguardo possibili crisi alimentari dei paesi importatori di cereali dall'Ucraina ad esempio alcuni paesi dell'Africa adesso stanno prendendo il grano dall'India secondo l'Ansa l'Ucraina e la Russia rappresentano il 30% dei paesi esportatori mondiali di grano credo che venga richiesto rispetto a quelle che sono i riflessi non so se qualcuno di voi vuole una considerazione sarà uno dei problemi con cui dovremmo combattere perché la dipendenza dal grano di paesi produttori come la Romania e l'Ucraina esiste anche qui da tempo immemorabile dall'Ottocento e che l'Ucraina fosse il granaio in parte anche dell'Europa è vero ce l'abbiamo visto l'abbiamo visto nel XIX secolo poteva essere rivisto in maniera molto migliore nel XX se non ci fosse stato anche l'intermezzo disastroso della grande carestia della fine degli anni 20 e dell'inizio degli anni 30 che fu un po' un esempio di quanto poco la dirigenza sovietica capisse di problemi agricoli poi avremo anche il disastro del cotone del Kazakistan all'epoca di Khrushchev ma in generale se si può definire un fallimento economico dell'Unione Sovietica questo parte dalle campagne prima di tutto dall'incomprensione politica e poi anche economica di quello che è la realtà agricola e adesso dovremmo vedere come fare per supplire queste mancanze perché l'Ucraina si avvia ad essere un paese devastato dove non sarà facile riprendere la produzione granaria soprattutto perché intanto la guerra sembra durare più di quanto lo stesso presidente russo si aspettava e quindi il futuro è abbastanza incognito l'Europa stessa sarà costretta a rivedere alcune delle sue politiche agricole io mi auguro ecco perché creare una dipendenza eccessiva da uno o dall'altro produttore extraeuropeo approfondisce quel livello di vulnerabilità anche dell'Europa nei confronti di eventuali ricati internazionali o di situazioni di crisi ecco con questo non si vuol dire che dobbiamo tornare all'agricoltura no perché praticamente è una cosa impossibile ma diversificare e migliorare le nostre relazioni internazionali anche in questo senso ecco poi ricordo che gli aspetti economici verranno affrontati più diffusamente nel pomeriggio quindi insomma anche queste domande troveranno risposta allora io do la parola per concludere al professor Guilhermo Cevolin perché appunto abbiamo ricordato la rete per la pace e ne approfitto mentre sale per un un ultimo messaggio si vis pacem parabellum ma io sono cresciuta con si vis pacem un parapace risponderemo a questa domanda non adesso ma nel corso di una delle prossime iniziative della rete dell'università per la pace che vorremmo realizzare il 10 di dicembre e che speriamo sia già in una fase diciamo di conclusione di di questa crisi però la prossima settimana quindi abbiamo una cosa vicina è una cosa scusate una cosa vicina è una cosa abbastanza lontana ma speriamo utile per per poi fare il punto sulla pace allora venerdì prossimo 8 aprile alle ore 17 nel salone del popolo quando sono uscito da maleducato era perché mi chiamava la segreteria del sindaco che mi fissava la sala e allora la si prende al volo ecco e nel salone del popolo alle ore 17 venerdì prossimo e faremo una una conferenza e questa a questa conferenza partecipa ehm Aurelia Ergemi che è uno dei responsabili diciamo un po' del catalanismo tra virgolette ma è quello che ha portato le le piccole comunità anche gli indigeni persino alle Nazioni Unite quindi un personaggio è il papa delle identità collettive potremmo dire d'Europa e lo avremo insieme anche alla professoressa Vincenta Tasa che è una professoressa che è la responsabile del progetto Erasmus di Valencia col nostro Otteneo di Udine col nostro Otteneo di Udine e la la comunità autonoma di Valencia rispetto ai catalani non è indipendentista ecco è autonomista e dopo di che abbiamo anche Bojan Breziger che è stato un collega giornalista del giornale della minoranza slovena in regione Friulenza Giulia e quindi il tentativo di parlare della sovranità europea che è un tema lanciato da Macron e da Draghi nel Financial Times con anche l'aspetto digitale collegato però alle minoranze linguistiche nazionali in Europa questo perché è la questione strettamente collegata infatti vorremmo anche invitare la dottoressa Ilena Curtas se viene a rappresentare un'altra identità collettiva perché c'è il problema delle ha finito così la relazione il collega Volpi cioè del fatto che qui è anche una questione di nazioni che o popoli o identità collettive che sono schiacciate o comunque oppresse quantomeno attaccate ingiustamente da superpotenze dalle superpotenze e non è una questione che di fronte alla quale noi europei possiamo dire di essere specchiati noi europei e noi occidente perché e mi qui mi ricollego alla professoressa d'orlando davamo per scontate tante cose che scontate non sono e quindi il tema dell'identità europea è veramente un tema chiave sotto tutti i profili e noi che siamo qui in una regione con delle minoranze linguistiche e nazionali per certi versi siamo uno dei posti più adatti proprio per cercare di dare il nostro contributo alla pace che forse proprio verso questa direzione cioè quello di trattare di considerare questi popoli queste identità collettive queste nazioni che non siano schiacciate da altri soggetti più grandi grazie 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 davvero a tutti di nuovo all'università agli studenti e su questo ultimo intervento ma un po' raccogliendo le file anche degli altri credo davvero anche che sia fondamentale importante recuperare anche una dimensione si è parlato molto di identità rispetto anche alla nostra storia di regione con minoranze linguistiche regione di confine non siamo propriamente più confine siamo un po' cuore dell'Europa non ce ne rendiamo spesso conto e forse come diceva la professoressa d'Orlando e ora anche fra due giorni c'è la festa del Friuli del Patri del Friuli anche cercare di recuperare quella dimensione quella capacità di essere cerniera fra mondi diversi a cavallo tra diverse identità e credo che questo sia il contributo più importante che possiamo dare in quel senso di comunità allargata che ha voluto oggi rappresentare l'Università grazie davvero di cuore a tutti grazie benvenuti buona giornata grazie all'Università di aver organizzato questo incontro e grazie ai relatori che sono ospiti questo pomeriggio già stamattina c'è stata una prima tornata di rincontro identità europea sfide globali alcuni di voi c'erano e ne avete sentito parlare con degli esperti questo pomeriggio continuiamo con altri docenti dell'Università di Udine e non solo ve li presento man mano che poi andremo a sentirli e a fare e a far loro delle domande in questo caso il tema della tavola rotonda è la guerra e le ricadute sulla governance multilivello delle istituzioni e dei mercati ovviamente ragazzi sono temi che sono in questi giorni sulle prime pagine dei giornali sono trattati in televisione ma non soltanto quindi c'è un tema che riguarda anche l'informazione e i mezzi attraverso i quali attingete queste informazioni ci sono i media classici e ci sono i social o altri modi di informarvi questa è l'occasione per farvi un'idea e per discutere della guerra che in questo momento sta creando non poche preoccupazioni e non soltanto soprattutto direi da un punto di vista delle vite umane e poi si riverbera tutto questo sulla vita quotidiana sull'economia su come stiamo vivendo su come ci siamo anche approvvigionati ad alcuni beni che sono di necessità per quanto riguarda le nostre economie e soprattutto in Europa allora vi dicevo ci sono tanti interventi io comincerei dal professor Maresca che lo vedo collegato poi gli altri vi presento dopo così il professor Maresca che ha un impedimento ci parla subito professore buongiorno si sente? si si la sentiamo la sentiamo allora lei darei la parola per cominciare a parlare della politica estera di politica estera dell'Unione Europea e anche come condizione di difesa nei confronti degli altri degli altri stati o delle altre potenze direi e anche come si è poi associata all'Unione Europea e non solo anche la Gran Bretagna a livello poi mondiale con altre evidentemente potenze per le sanzioni che sono state imposte alla Russia dunque grazie direttore una prima considerazione la politica estera di sicurezza comune è una delle prime politiche che diciamo così nel corso degli anni 90 dopo Maastricht è stata immaginata dall'Unione Europea qual era l'obiettivo della politica estera di sicurezza comune così si chiamava e così ancora si chiama era quello di unire i paesi dell'Unione Europea intorno ad una politica unica che promuovesse la pace e specialmente la coesistenza in Europa è una politica debole diciamo molto debole perché anche se esiste un servizio della politica estera abbastanza importante dove fra l'altro il direttore generale è pure un italiano ecco malgrado questo vige la regola dell'unanimità per cui gli stati membri devono decidere le scelte da fare soltanto insieme che rende molto molto complesso adottare una politica estera di sicurezza comune in epoca più recente con il cartazzo di Lisbona è stato immaginato anche una politica di difesa comune che è un di cui della politica estera cioè sostanzialmente l'idea è che dentro la politica estera dell'Unione Europea gli stati membri al servizio della politica estera dispongano anche di una forza militare di deterrenza non esiste una politica di difesa quindi non esiste un esercito europeo senza una politica estera di sicurezza comune forte per cui molte delle discussioni che si fanno oggi sull'esercito europeo eccetera in realtà proprio se uno legge l'articolo 42 del trattato sull'Unione Europea e questo mi sente no volevo solo dire che la politica di difesa comune è necessariamente parte della politica estera comune senza una politica estera comune una una difesa un esercito europeo eccetera non ha senso lo stesso articolo 42 del trattato sull'Unione Europea lo dice chiarissimo proprio in apertura allora davvero la soluzione qui sarebbe quella di andare verso una politica estera in comune che gli stati membri dell'Unione Europea mettessero in comune davvero la loro politica estera e si facessero carico della coesistenza con l'Ucraina la stessa Russia eccetera e questa è la grande scommessa di oggi che però temo che non stia avvenendo perché nessun diciamo paese europeo oggi certamente non li trovo anche forse quello più incisivo nessun paese oggi europeo come dire immagina soluzioni di politica estera comune noi stiamo andando a cercare di risolvere i nostri problemi chiedendolo alla Cina o alla Turchia che non sono più l'Europa questo è un grande tema che meriterebbe di essere affrontato si sembra di capire che in Italia diciamo così la politica lo stia cominciando ad affrontare specialmente dopo che il Papa è venuto fuori con quell'intervento mi sembra che anche la politica gli vada dietro ma su questo avrebbe senso come dire investirci di più allora grazie professore abbiamo ascoltato il suo intervento un po' con difficoltà in alcuni tratti ma ci ha aperto alcuni spunti anche per la discussione dicevo agli altri ospiti il professor Justin Frosini dell'Università Bocconi John Hopkins University professore associato di diritto comparato il professor Claudio Cressatti professore associato di storia delle dottrine politiche poi il professor Gianluca Gardini relazioni internazionali storia delle relazioni internazionali Stefano Miani ingegneria gestionale professore economia ecco e Gianluca foresti informatica presidente dell'associazione scientifica nazionale in computer vision eccetera poi la definizione è anche molto più lunga vi ricordo che alla fine del dibattito ci sarà la proiezione di opere di Maxime Cantor affermato pittore incisore scrittore russo introdotte e commentate da Alessandro del Puppo del dipartimento di studi umanistici del patrimonio culturale allora professor Frosini torniamo sui temi e sull'importanza anche dal punto di vista della costituzione dell'Ucraina e delle scelte che ha fatto ecco la scelta anche così di avvicinarsi molto all'Europa con il nuovo presidente sono quelle che poi hanno scatenato quello che quello che abbiamo visto appunto da un punto di vista delle scelte fatte democraticamente da questo paese c'è secondo lei la possibilità l'opportunità ecco diciamo l'opportunità di fare in qualche modo qualche passo indietro oppure per cercare in qualche modo di tornare alla pace oppure da un punto di vista costituzionale le scelte fatte devono procedere su un binario ben definito e ben preciso che poi è anche il binario della storia allora innanzitutto ringrazio gli organizzatori Elena d'Orlando e Claudio Cressati per per l'invito e nel rispondere alla sua domanda faccio presente che più o meno di questi tempi l'anno scorso io stavo facendo un un corso di apprendimento per membri della pubblica amministrazione dell'Ucraina proprio sul diritto dell'Unione Europea proprio a Kharkiv e mai avrei immaginato di trovarmi meno di un anno più tardi a dover parlare appunto di un'aggressione da parte della federazione russa nei confronti dell'Ucraina la cosa poi che mi ricordo è il fatto che ovviamente io non parlo né l'Ucraina né il russo la simultanea era in russo eppure noi abbiamo visto cosa è successo alla città di Kharkiv scusate questo piccolo preambolo però mi porta secondo me è importante perché la questione delle aspirazioni euro-atlantiche dell'Ucraina non possono essere sottovalutate a mio avviso proprio perché con una decisione che è stata presa nel 2019 dall'alora presidente Poroshenko queste aspirazioni euro-atlantiche ossia il desiderio del popolo ucraino di entrare nell'Unione Europea e di entrare nella Nato sono state inserite nella Costituzione nel preambolo se fosse solo il preambolo i giudisti direbbero beh qui si potrebbe parlare della valenza giuridica di questa formulazione però sono anche aspirazioni che sono contenute in articoli veri e propri della Costituzione inerenti alle funzioni del Presidente della Repubblica del Parlamento e anche del Consiglio dei Ministri vi ricordo che l'Ucraina ha una forma di governo semipresidenziale la sua domanda certo queste disposizioni costituzionali possono essere modificate ci può essere una nuova revisione della Costituzione in modo da diciamo andare nella direzione di un accordo di pace dove molti parlano del fatto che per avere questo accordo di pace è necessaria la neutralità dell'Ucraina io non metto in discussione questo abbiamo anche qui tra di noi aspetti di relazioni internazionali eccetera forse questo sarà necessario però da giurista da costituzionalista non posso non sottolineare il fatto che dal 2019 anche sotto la nuova presidenza di Zelensky Zelensky non ha deciso di fare un rollback nel senso di rimuovere queste disposizioni dalla Costituzione ci sono e in questo senso forse con un tocco di rettori che quando noi sentiamo Zelensky parlare ai vari parlamenti europei parlare con i capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Unione Europea e parla del desiderio dell'Ucraina di entrare nell'Unione Europea quando parla della possibilità anche di entrare nella Nato da questo punto di vista ripeto quello di un costituzionalista lui non sta facendo altro che il suo dovere costituzionale e faccio presente che c'è anche un articolo della Costituzione ucraina l'articolo 9 ma non mi chiodate sui numeri dove è precisato che qualsiasi accordo internazionale può essere approvato dal Parlamento dell'Ucraina purché non sia in violazione con la Costituzione quindi almeno da un punto di vista strettamente giuridico queste cose sono da tenere presente nel momento in cui si inizia questo non è ancora iniziato ma se dovessimo arrivare ad un accordo di pace secondo me queste cose non sono da mettere in disparte grazie abbiamo sentito parlare il professor Cressati di relazioni internazionali ecco le relazioni internazionali come possono essere valutate fino a questo momento un scusi le parole forti ma da un punto di vista giornalistico un fallimento forse in qualche modo pilotate ma in maniera come dire attraverso anche gli Stati Uniti in maniera non evidentemente tale da essere accettate c'è una sorta di anarchia che vedo che usa anche lei questa parola in una slide che ha lì sul suo pc come possiamo definirle bene direi che naturalmente non è certa una mia idea anzi le relazioni internazionali sono di tipo a mio avviso sostanzialmente anarchico la teoria delle relazioni internazionali poi magari potremo discuterne parlarne con il collega Gianluca Gardini sono sostanzialmente diverse dalle relazioni interne agli Stati parliamo molto di multilevel governance ne abbiamo parlato anche questa mattina ma a mio avviso la distinzione tra un ambito delle relazioni interne e allo Stato dove vige la legge ed esiste esistono delle procedure soprattutto dei poteri che possono rendere efficace la legge e le relazioni internazionali dove invece la legge esiste ma non c'è qualcuno che la faccia rispettare per citare il sommo poeta leggi sono ma chi pon mano ad esse rappresenta una dicotomia che nonostante l'evoluzione sia del diritto internazionale da un lato sia delle relazioni economiche commerciali tra gli Stati sia l'ingresso appunto di soggetti nelle relazioni internazionali che pensiamo alle grandi corporation che nell'età classica non so nel diciannovesimo secolo non c'erano come tali non hanno a mio avviso nonostante queste trasformazioni non hanno modificato il dato di fatto da un lato abbiamo per citare un grande teorico contemporaneo delle relazioni internazionali Michael Wals i rapporti interni agli Stati che sono il regno dell'autorità dell'amministrazione della legge mentre la politica internazionale è il regno del potere del conflitto e della mediazione per cui potere mediazione e conflitto cioè abbiamo una condizione in cui come c'è stato efficacemente descritto questa mattina l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha per ben due volte con una maggioranza significativa condannata l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha imposto alla Russia di cessare le ostilità e di abbandonare il territorio dell'Ucraina abbiamo anche una corte internazionale di giustizia che ha detto sostanzialmente la metto in sintesi la stessa cosa ma queste dichiarazioni hanno naturalmente un peso politico ma non hanno efficacia giuridica perché non c'è nessun soggetto che abbia la possibilità di renderle effettive la questione dell'enforcement per citare il termine inglese e da qui a mio avviso non non se ne esce questa linea di interpretazione può tornare indietro se non ci piace Michael Waltz che è un americano del ventesimo secolo o anzi anche del ventunesimo perché è morto pochi anni fa possiamo tornare a Thomas Hobbes ma le relazioni internazionali sono fondamentalmente basate su un meccanismo di potere di mediazione e soprattutto di minaccia dell'uso della forza o di uso della forza noi adesso siamo di fronte a una guerra che ci colpisce molto come europei perché si svolge sul territorio europeo che ci colpisce molto per le sue modalità perché plasticamente abbiamo uno Stato che aggredisce non provocato un altro Stato però sappiamo che abbiamo avuto molte altre molti altri conflitti e abbiamo contemporaneamente in un momento in cui parliamo altri conflitti cito solo la guerra nello Yemen che sono lì a dimostrarci come appunto la concezione che vede le relazioni internazionali come fondamentalmente anarchiche a mio avviso continua a essere significativa dal punto di vista euristico cioè per comprendere la realtà poi naturalmente ci sono tutte le conseguenze e anche qui poi mi taccio Clausewitz penso che non vedo molto citato perlomeno nel dibattito italiano è penso abbia ancora qualcosa da dirci cioè la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi e i mezzi sono quelli dell'impiego della forza brutta anche sempre per citare Clausewitz la guerra è l'impiego l'utilizzo indiscriminato della forza brutta e dobbiamo comprendere che questa è la realtà non che la guerra sia permanente perché sappiamo benissimo che per fortuna non lo è ma c'è sempre la possibilità che lo sia e gli stati cioè i soggetti degli attori della politica internazionale si dotano degli strumenti tutti se forse il Costa Rica mi pare una volta non so se tuttora nella stessa situazione Costa Rica non aveva un esercito ma tutti gli stati hanno un esercito e l'esercito serve per essere utilizzato serve nell'ipotesi in cui esso venga utilizzato debba venire utilizzato certo ci sono delle costituzioni come la nostra che è l'articolo 11 questo è ben noto vieta la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e di aggressione di altri popoli però all'articolo 52 la stessa nostra costituzione dice che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino e di conseguenza rispondere con una guerra difensiva per citare Ugo Grozio a un attacco è qualcosa di sacro dovere e di conseguenza penso che se non prendiamo atto di questo e non affrontiamo questa situazione cambiando i dati della questione cioè sostanzialmente superando la sovranità degli stati laddove è possibile farlo non interveniamo sulle cause della guerra ma questo magari lo potremo vedere in un secondo round magari sentiamo anche il professor Gardini su quello che diceva lei adesso sul intervenire sulle cause della guerra e quindi poi di conseguenza le relazioni internazionali così completiamo questo tema grazie grazie direttore grazie agli organizzatori per l'invito un buon pomeriggio a tutti e a tutte sì con molto piacere vorrei condividere alcune considerazioni sulle cause di questa guerra con una prospettiva veramente di storia delle relazioni internazionali io sono fondamentalmente un politologo delle relazioni internazionali ma ho l'onore e il piacere di aver ricevuto la catena di storia delle relazioni internazionali e la teoria e la prospettiva storica non è una prospettiva di breve periodo è una prospettiva di medio e lungo periodo ma non possiamo neanche tornare alla Russia di Kiev come suggerisce Putin per capire il conflitto di oggi la maggior parte della letteratura si è focalizzata su diciamo prendere la parte dell'uno o dell'altro se voi guardate anche i mezzi di informazione c'è una grandissima differenza tra la narrativa dei mezzi di informazione russi o filo russi e quelli occidentali o filo occidentali allora io propongo come punto di partenza per studiare le cause di questa guerra le stesse cause o le stesse ragioni gli stessi momenti che il presidente Putin usa per giustificare questa guerra e premetto che questa guerra non è giustificabile possiamo spiegarla possiamo anche capirne i motivi ma non possiamo assolutamente giustificare questa guerra né dal punto di vista storico né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista morale soprattutto il presidente Putin sostiene che la Russia ha intrapreso questa guerra per ragioni difensive di tutte le spiegazioni che poteva dare questa è quella che forse ha più credito soprattutto in Russia ma difensive nei confronti di chi o di cosa il presidente Putin sostiene che la Russia si sente accerchiata e si sente minacciata nei suoi interessi vitali e questo può anche essere comprensibile però cerchiamo di capire che cosa intende il presidente Putin con queste affermazioni il presidente Putin soprattutto si riferisce a quattro fenomeni di cui incolpa l'Occidente l'espansionismo della Nato l'espansionismo dell'Unione Europea la promozione della democrazia e a livello più specificatamente ucraino il cambio delle regole legislative ucraine a tutela delle minoranze ora io non sono un esperto di legislazione ucraina quindi questo non lo affronto abbiamo altri esperti di Unione Europea ma vorrei fare un piccolo una piccola analisi storica delle affermazioni putiniane in terma di allargamento della Nato perché è vero che gli Stati Uniti nel 1990 quando si stava negoziando la possibilità di unificare le due Germanie hanno promesso alla loro Unione Sovietica che non ci sarebbe stata espansione della Nato in caso di assenso da parte di Gorbaciov all'unificazione tedesca Gorbaciov diede quell'assenso e il segretario di Stato americano James Becker informalmente assicurò a Gorbaciov che non ci sarebbe stata nessuna espansione nessun allargamento della Nato eccetto che abbiamo avuto vari round di espansione della Nato nel 1999 sono entrate Repubblica Ceca Ungheria e Polonia nel 2004 sono entrati gli Stati Baltici la Romania la Bulgaria la Slovacchia e la Slovenia quindi da questo punto di vista Putin potrebbe anche avere qualche ragione non ultimo se vogliamo avvicinarci allo scoppio del conflitto nel 2020 la Nato ha esteso all'Ucraina la Enhanced Opportunity Partnership con la Nato che consente all'Ucraina di accedere ad alcune informazioni di intelligence in possesso della Nato e anche di partecipare alle esercitazioni che fa la Nato di fatto ci sono state esercitazioni Nato in territorio ucraino negli ultimi anni questo per dire che ci potrebbero essere dei fondamenti però la storia non è bianco o nero la storia e la politica sono fatte a tinte grigie ci sono delle aree che non sono così chiare e infatti mi permetto di sottolineare dei contro argomenti la Nato non ha mai offerto nessuna opportunità di membership all'Ucraina non c'è mai stato un piano di azione per la membership dell'Ucraina non è mai stato offerto l'Ucraina tra l'altro non è neanche paese candidato dell'Unione Europea se proprio vogliamo sottilizzare sulle questioni giuridiche ma non è il mio campo e lo lascio agli esperti ma soprattutto vorrei ricordare al signor Putin che è stato lui a chiedere la membership della Russia alla Nato appena è diventato presidente bene questa richiesta è stata rifiutata per ragioni che possono anche essere ovvie non lo sono ma non c'è il tempo ma a parte questo la Russia ha concluso vari accordi con la Nato nel 94 è stata conclusa la Partnership for Peace e forse ancora più importante nel 2002 a partica di mare in questo paese è stata conclusa la NATO Russia Agreement per la costituzione di un consiglio Russia Alleanza Atlantica quindi non è che l'Ucraina sia l'unico soggetto che ha voluto avvicinarsi alla Nato anche la Russia ha voluto farlo e in ogni caso l'attuale stato dell'Ucraina in seno alla Nato l'Ucraina non è membro ma ha un accordo che è esattamente lo stesso accordo che ha la Finlandia uguale preciso identico questo vuol dire che Putin invaderà anche la Finlandia? Immagino di no e con questo concludo per dire che questa guerra è assolutamente ingiustificata storicamente ma allora anche dal punto di vista legale e morale legalmente il diritto internazionale proibisce l'uso e anche la minaccia dell'uso della forza e la Russia ha sottoscritto vari trattati in questo senso e riconosce il diritto internazionale le uniche due eccezioni sono l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che ovviamente non c'è e la legittima difesa che altrettanto ovviamente non si applica in questo caso quindi dal punto di vista storico legale e politico ritengo la guerra in Ucraina assolutamente ingiustificabile grazie professor Miani la revoca delle libertà economiche come sta avvenendo con la Russia da quale sono state imposte le sanzioni ecco possono secondo lei avere incidere sulle scelte politiche della Russia e le chiedo l'imposizione di Putin che da oggi gli stati che acquistano il gas devono pagare o dovrebbero pagare in rubli è possibile disattendere un accordo che è già stato fatto ed è già stato scritto evidentemente tra le potenze tra l'altro in questo modo unilateralmente in uno scambio commerciale di questo tipo ma in realtà l'accordo non è stato sottoscritto tra le potenze ma tra aziende che importano e esportano il gas quindi da questo punto di vista non c'entrano direttamente gli stati credo io partirei un attimo da una considerazione più generale è un tema molto complesso mi rendo conto allora innanzitutto temo ma ho ragione di ho ragione di temerlo diciamo meglio che il problema dell'Ucraina sia una parte del problema ma non sia tutto il problema perché mi sembra da documenti anche ufficiali che sono circolati almeno dal dal 2007 in poi ci siano state tutta una serie di occasioni in cui la Russia non voglio entrare nel merito se ha ragione o torto sto facendo solo un'osservazione documentale ha manifestato in modo anche tutto sommato trasparente c'è da dire solo che nessuno l'ha mai presa su serio anzi ci ridevamo sopra a volte la volontà di arrivare a una qualche soluzione che loro amano chiamare nuova yalta ma che per noi era una follia in cui si siedono al tavolo essenzialmente gli Stati Uniti e la Russia più eventualmente qualcun altro e ridisegnano le mappe del mondo questa è la loro dichiarata volontà che quindi prescinde un po' dalla questione ucraina che è un pezzettino di questo perché evidentemente la considerano sicuramente all'interno della loro zona di influenza allora perché sono partito così da lontano primo perché se questo fosse vero e se continuassero a fare un pezzettino alla volta un percorso di questo tipo dovremmo attenderci che anche una volta risolto il problema ucraino ce ne verranno degli altri seconda considerazione qui non se lo temo qui mi sembra che ci sia quasi una certezza se andiamo fuori dal mondo occidentale se osserviamo soprattutto chi ha messo le sanzioni e chi non le ha messe più che il voto dell'ONU che è un valore così è tutto sommato relativo ci accorgiamo che moltissimi paesi che anche hanno votato all'ONU contro questa operazione in realtà non hanno messo le sanzioni e continuano a lavorare con la Russia come prima o più o meno possono farlo se credono salvo rischiare contro sanzioni da parte dei paesi che hanno posto le sanzioni alla Russia quindi indirettamente potrebbero perseguirle sempre che siano in grado di farlo quindi quello che forse può essere interessante notare è che alcuni paesi molto importanti la Cina lo vediamo tutti i giorni probabilmente trascuriamo di osservare altri paesi l'India che è ormai alla pari della Cina come popolazione sta crescendo più della Cina come sviluppo economico negli ultimi anni è un tasso di crescita più elevato quindi attendere tra un po' potrebbe diventare anche un soggetto economico che se la gioca con la Cina e con gli Stati Uniti per essere il polo economico più importante ma non solo questi vediamo paesi che sono apparentemente molto legati all'Occidente gli Emirati Arabi non hanno votato le sanzioni e adesso i flussi finanziari internazionali non solo degli oligarchi ma di tutta una serie di paesi ma su questo tornerò poi si stanno riorientando dalla Svizzera o da altri centri finanziari molto legati all'Occidente ma proprio per questo presidiati e quindi lo dico subito dopo non ci torno più paradossalmente con certe sanzioni per esempio il blocco delle riserve valutari aure le aure c'era quasi niente ma quelle valutari della banca centrale ma il blocco di conti in valuta di imprese tedesche o di soggetti tedesche russe o di soggetti a questi collegati sicuramente nell'immediato ha creato un problema alla Russia che non ha la disponibilità di queste somme però temo che stia creando non dico un panico ma un alert a tutto il mondo che porterà paesi terzi che magari non sono nostri nemici necessariamente ma a dubitare del fatto di tenere i soldi in zone dove noi li possiamo bloccare i soldi quando vogliamo e quindi c'è un rischio da questo punto di vista a medio termine ma neanche tanto medio di una perdita di controllo sui circuiti finanziari internazionali da parte dell'Occidente perché gli altri non si fidano cioè se noi siamo quelli che gestiscono i flussi finanziari a livello mondiale siamo stati fino ad oggi domani forse qualcuno ci rimette in discussione perché dico eh vabbè ma se allora se quando ti fa comodo me li blocchi allora io non uso più i tuoi servizi provvedo in un altro modo e da questo punto di vista qualche paese che magari è integrato nei servizi nostri sta facendo un po' il furbo perché ha colto l'opportunità per accreditarsi per fare un lavoro a volte anche sporco che faceva la Svizzera faceva Cipro facevano certi paradisi fiscali nei Caraibi e così via e in parte anche Londra c'è da dire Londra e l'Irlanda insomma hanno lavorato molto su questo in Lussemburgo qualche volta allora chiuso questo aspetto credo che questo discorso della nuova Ialta sia molto interessante da un punto di vista generale non mi occupo di questioni giuridiche da un punto di vista economico perché qualora dovesse anche in parte realizzarsi e di solito accordi di questo genere si realizzano dopo guerre importanti no dopo piccoli combattimenti diciamo così piccoli insomma è un giudizio relativo piccoli ma se dovesse realizzarsi rimetterebbe in discussione il modello della globalizzazione che in parte è già stato messo in discussione dalla pandemia perché abbiamo visto in due anni che ci sono rotti molti meccanismi logistici negli scambi internazionali la sincronia nei trasferimenti di merci tra paesi che ha creato grandissima complessità tanto che le imprese un po' in tutto il mondo stanno ripensando le catene della fornitura per essere un po' più indipendenti mentre prima giocava molto il costo adesso costa gioca molto la disponibilità la certezza delle forniture allora qui vi segnalo solo sarebbe interessante questo aspetto ma non abbiamo il tempo di trattarlo quello che sembra emerso da quello che dicono insomma le notizie di oggi nell'incontro tra l'Unione Europea e la Cina perché in questo incontro la Cina ha detto sostanzialmente una cosa che è contraria ai blocchi contraria ai blocchi cosa vuol dire? molto semplice dal mio punto di vista la Russia vuole fare la nuova Yalta la Cina anche perché vuole avere la sua zona di influenza l'India anche quante zone vorrebbero non si sa è evidente che lo scontro è un po' tra il mondo occidentale barra più industrializzato e il mondo meno industrializzato e esportatore di materie prime quindi è anche uno scontro tra produttori e esportatori di materie prime la Cina si trova però a mio avviso a metà strada perché gioca un po' in tutti i due i campi da un lato gioca con i paesi che vorrebbero la nuova Yalta per affrancarsi un po' dagli Stati Uniti più che dall'Europa sto parlando dal punto di vista economico soprattutto e poi sono evidenti le ripercussioni anche di altro genere dall'altro canto però la Cina è completamente integrata nel gioco commerciale della globalizzazione e quindi la Cina è chiaro che è pressata soprattutto dagli Stati Uniti che vogliono isolarla con il discorso insomma delle vie marittime e così via quindi c'è una certa tensione ma è altrettanto chiaro che la Cina ha tutto l'interesse almeno nel medio termine di continuare a fare affari con il resto del mondo perché la sua economia è cresciuta attraverso la globalizzazione altrimenti sarebbero rimasti molto indietro la Russia invece che non ha fortissime relazioni in ambito economico su beni finiti di fatto l'unica roba che vende la Russia i beni finiti sono armi e non le vende di solito all'Occidente ma le vende al Terzo Mondo è invece molto integrata con il resto del mondo e soprattutto con l'Occidente per la vendita di materie prime gas, petrolio e altre cose anche agricole e così via quindi hanno due posizioni leggermente diverse questo lo segnalo perché mi sembra molto importante l'obiettivo di affrancarsi da una certa sudditanza dagli Stati Uniti è comune però da una parte vorrebbero un blocco tipo Mura di Berlino che isola la loro area di influenza dall'altra invece vogliono non essere succubi ma poter commerciare e trarne vantaggio arrivo quindi al discorso rublo sul discorso del rublo secondo me io forse mi occupo molto di questioni monetarie perché è quello il mio mestiere io credo che sia una cosa tutto sommato banale nell'immediato mentre potrebbe diventare è per quello che ho fatto questa premessa non banale a medio termine se si andasse verso i blocchi perché se si va verso i blocchi è evidente che una delle strategie del blocco è anche avere l'area valutaria quindi il ruolo del rublo nella zona ipotizzata da loro come di loro diciamo così di loro competenza di loro aspettanza come vogliamo chiamarle sono parole molto brutte immaginando che loro possano arrogarsi di decidere chi deve stare sotto di loro ma questa è un po' l'idea penso che hanno avrebbero un ruolo dominante della loro moneta e poi si tratterebbe di regolare ma qui abbiamo anche i precedenti perché nel dopoguerra la guerra fredda comunque c'erano transizioni tra l'area del patto di versavia e l'occidente anche se il rublo non aveva assolutamente un ruolo di moneta internazionale per cui a medio termine potrebbe essere giustificabile questo discorso di rilanciare il rublo di chiedere di commerciare i rubli niente di strano nell'immediato però credo che la cosa sia molto più facile da immaginare cioè noi abbiamo messo le sanzioni vogliamo continuare a comprare le materie prime da loro che è un po' un'incongruenza perché in realtà l'unica vera sanzione che dobbiamo fare è non comprare più niente da loro se volevamo bloccarli invece noi vogliamo bloccarli formalmente con le sanzioni ma sostanzialmente continuare a comprare è l'unica roba che ci vendono perché è detta fuori dai denti è un po' così la questione e allora loro cosa dicono allora ci pagate i rubli ma perché perché se noi li paghiamo col sistema finanziario internazionale in dollari e un euro in realtà possiamo portargli via in qualsiasi momento perché i canali dove circola questa moneta li controlliamo noi e abbiamo lasciato senza sanzioni un paio di banche importanti dove in realtà si immagina che con quelle per il momento arrivano ma sanno che in qualsiasi momento possiamo bloccare anche quelle e possiamo bloccare i conti della Sverbank che è la più grande banca russa anche se non è molto presente all'estero e della Gasprom che è la terza banca russa non è molto importante come banca internazionale ma è importante perché è la banca controllata dalla società del gas e quindi fa transitare questi flussi quindi io credo che sostanzialmente il discorso sia questo se voi volete comprare il gas ce lo pagate i rubli cosa vuol dire? vuol dire che dovete comprare i rubli dalla Russia dandogli la valuta e quindi non c'è nessun rischio che ci fregate non pagandoci perché se ci date i dollari o gli euro a Francoforte o in Svizzera o in qualsiasi altro paese poi riuscite in qualche modo a bloccarceli se volete tra l'altro da quello che sembra di capire il blocco parte da oggi ma i tempi di pagamento di regolamento dell'operazione di solito sono a fine mese quindi in teoria tutto quello che compriamo in questo periodo dovrebbe essere pagato a fine di questo mese quindi il blocco ha un mese di ritardo questo gioca a favore nostro un po' forse anche a favore loro come equivoco ma credo che sia tutto qui perché in questo momento la Russia non è in grado di gestire il rublo come moneta internazionale perché gestire una moneta internazionale cioè una moneta che ha ruolo interno domestico ma anche internazionale è molto complicato cioè l'euro lo sta cominciando a fare dopo tanti anni ma non è ancora completamente nemmeno in grado di farlo l'euro perché vuol dire avere una doppia politica monetaria perché devo controllare la moneta interna e quella esterna su quella interna ho un potere abbastanza forte di intervento su quella esterna no e quindi c'è anche un rischio di instabilità della moneta interna e lo sanno benissimo gli Stati Uniti che hanno più dollari fuori dalle Stati Uniti che dentro e sono un po' anche in balia di quello che fa il resto del mondo perché se si mettessero d'accordo 3-4 paesi di fare qualche politica del cambio contro il dollaro gli americani potrebbero solo dirgli vabbè abbiamo scherzato tenetevi i dollari non valgono niente perché non ve li riconosco ma ovviamente verrebbe fuori una guerra anche in quel caso non solo economica ma il problema è questo che per riuscire a dare un ruolo internazionale a una moneta bisogna avere tutta una serie di presupposti che in questo momento la Russia non ha e credo che il presupposto più grosso che manca sia il peso nell'economia mondiale che al di là di materie prime è modesto diciamo che è leggermente inferiore a quello italiano se ragioniamo sul PIL è leggermente superiore a quello italiano se ragioniamo sul PIL corretto per il potere d'acquisto ma comunque incomparabile rispetto a quello anche della Germania o del Giappone o della Cina o degli Stati Uniti quindi la Cina potrebbe fare un ragionamento del genere solo che arriverebbe probabilmente uno scontro che gli porterebbe qualche difficoltà poi come ripercussioni sugli scambi e non lo fanno probabilmente per questo ecco non so se è chiaro il concetto la ringrazio la ringrazio professore e comunque allora professor Foresti apriamo questo tema questo tema che abbiamo ascoltato stamattina adesso scusi il tema della guerra su vari fronti e senz'altro anche quello tecnologico abbiamo visto gli attacchi hacker anonymous che li annuncia oppure che li spiega successivamente lei ha seguito questo aspetto immagino intanto bisogna fare qualche piccola premessa anche su anche su questo relativamente alle tipologie di attacchi perché noi siamo abituati e lo sentiamo direi quasi tutte le sere al telegiornale nostro nazionale attacchi che vengono fatti a questa quell'altra azienda la maggior parte direi la stragrande maggioranza di questi attacchi sono attacchi criminali quindi di cyber criminali che hanno come obiettivo quello di chiedere di fatto un riscatto di arricchirsi dobbiamo distinguere invece quel tipo di attacco molto più nascosto di cui si ha molta meno informazione che invece viene fatto dagli stati quindi principalmente dai servizi di sicurezza e di questi attacchi chiaramente abbiamo poca informazione quindi parliamo di attacchi attivi e sono quelli che fanno i cyber criminali e poi ci sono gli attacchi passivi quelli nascosti che vengono fatti anche su intervalli su finestre temporali molto lunghe cercando di recuperare una serie di dati con una bassa frequenza in modo tale che chi è attaccato non se ne accorga gli attacchi di questo tipo diventano pericolosi nel momento in cui l'attaccante riesce a prendere possesso delle risorse all'interno di una rete diciamo di dispositivi informatici quindi dei server quindi delle varie attività che vengono fatte riuscendo a recuperare informazioni legate alle password gli attacchi che abbiamo visto soprattutto nei primi giorni di guerra quindi subito diciamo verso la fine di febbraio sono stati attacchi poco incisivi dal punto di vista della pericolosità informatica molto incisivi dal punto di vista dell'impatto politico addirittura hanno attaccato Israele Israele è il paese che dal punto di vista della cyber sicurezza è diciamo più forte potremmo dire rispetto all'Italia un ordine di grandezza più sicuro perché hanno investito negli ultimi vent'anni una quantità diciamo di danari perché poi alla fine si parla sempre di qualcosa che è legato all'economia nella sicurezza nella sicurezza cibernetica bene loro hanno ricevuto un attacco l'abbiamo visto su tutti i telegiornali che ha bloccato per qualche ora diciamo alcuni siti web dei loro enti lo stesso attacco è stato fatto anche al Cremlino quindi in quei giorni ebbene questi attacchi che fanno tanto scalpore sono attacchi cosiddetti DOS cioè denial of service hanno come obiettivo semplicemente quello di impedire che certe risorse siti web sono quelli che noi conosciamo meglio non possano essere utilizzate cioè vengono inviati un numero di richieste le stesse che noi facciamo quando ci colleghiamo al sito web del giornale piuttosto a quello del sito dell'università anziché farne una ne fanno decine di milioni contemporaneamente da computer da tutte le parti del mondo che sono stati ovviamente preventivamente attaccati arrivano queste richieste in un numero tale che il server che è deputato per rispondere cioè per darci le informazioni del sito web non è più in grado di soddisfarle quindi a quel punto il sito risulta inaccessibile non c'è nessun problema infatti dopo qualche minuto in alcuni casi qualche ora il sito torna su non è stato rubato nessun dato non è stato fatto nessun danno dal punto di vista informatico certo dal punto di vista politico di immagine verso l'esterno quello sì perché tutti i telegiornali hanno parlato degli attacchi di Anonymous o di altre entità verso i siti di Israele verso i siti della Russia parlando invece degli attacchi che sono più pericolosi cioè quelli di cui non abbiamo informazioni ma che i servizi di sicurezza conoscono bene sono quelli che avvengono appunto recuperando lentamente accessi su vari su vari dispositivi diciamo dei vari enti questi vengono fatti in lunghi periodi recuperando di fatto gli accessi gli account quindi le password noi sappiamo che una password praticamente è assolutamente inviolabile se solo se in questo momento è lunga almeno 12 caratteri caratteri intendo lettere, numeri e anche caratteri della tastiera quindi la chiocciola piuttosto che il punto esclamativo eccetera quindi 12 di questi caratteri completamente casuali cioè quindi A 27 chiocciola quindi qualcosa che si ricorda ovviamente con grande difficoltà io sfido tutti quelli che sono qui in sala quelli che ci ascoltano se hanno delle password la loro password principale scritta in questo modo la maggior parte di noi c'ha un pezzo del nome del cane del codice del proprio numero civico piuttosto che la propria data di nascita e così via quindi sono certo che lo faccio sempre con i miei studenti ogni anno le cose sono così e bene questo è molto bricoloso perché attraverso un'attività che si chiama di social engineering cioè recuperando tutti i dati sui canali social che ahimè tutti noi utilizziamo questi dati ci sono basta incrociarli in vario modo con degli algoritmi che lo fanno in automatico ed ecco che la password prima o poi se non è scritta in modo attento viene violata il nostro Ateneo che ha 50.000 caselle di posta elettronica è soggetto ad attacchi continui anche recentissimi e alcune appunto caselle vengono violate e diciamo è una cosa abbastanza normale quando viene fatto questo allora ecco che gli attaccanti entrano dentro hanno a quel punto i privilegi di utenti e possono cominciare a fare determinate operazioni soprattutto andare a sfiltrare cioè recuperare i dati e quando siamo dentro un'azienda ci sono brevetti ci sono informazioni importanti per l'azienda non parliamo degli enti pubblici o quelli militari perché poi alla fine sono tutti tutti uguali l'ultima cosa che dico poi poi chiudo tutti questi dispositivi che noi usiamo ormai si parla di Internet of Things cioè tutti i dispositivi sono collegati alla rete non solo i nostri telefonini i nostri computer ma anche le telecamere che installiamo diciamo nelle nostre abitazioni i televisori che andiamo a installare nelle nostre nelle nostre sale noi abbiamo appena recentemente scoperto in Ateneo che c'è un televisore che è installato in una delle nostre sale diciamo di riunioni che praticamente con una frequenza di un secondo una volta al secondo invia un pacchetto di dati verso l'esterno senza che ci sia nessun controllo da parte di chi è il possessore del televisore che cosa invia non lo sappiamo potrebbe mandare un'immagine piuttosto che una traccia audio o qualunque altro tipo questo per fare un esempio dei 10.000 che si potrebbero fare quindi la sicurezza è un qualcosa che è estremamente estremamente delicato e entra anche negli scenari di guerra ovviamente grazie professor Maresco adesso mi sente le avevo chiesto cosa pensava delle sanzioni dopo l'intervento del professor Miani e delle sanzioni ed anche della richiesta della Russia di pagare attraverso il rublo da oggi poi Miani spiegava che di fatto i pagamenti avvengono a fine mese lei ritiene questa strada delle sanzioni avrà comunque darà dei risultati anche da un punto di vista delle relazioni internazionali cioè metterà alle strette la Russia in modo tale da oppure comunque andrà avanti per la sua strada su questo discorso del rublo credo che vada minimamente ricondotto la realtà delle cose il contratto di vendita del gas è stato stipulato tra l'Eni e nell'Eni eccetera e dall'altra parte la Gaspro le clausole contrattuali sono quelle che derivano da quel contratto quindi né la Russia né i governi diciamo così europei la domanda che uno potrebbe porsi è ma se la Russia adotta una norma che diciamo noi giuristi chiamiamo interesse una norma di applicazione necessaria che autoritativamente modifica la valuta questa norma come dire è riconoscibile oppure no come sembra dire Putin nel colloquio che ha fatto sia con Scholz che con Draghi cioè la norma di applicazione necessaria quella che prevede la conversione in rubli del pagamento è norma di applicazione necessaria e quindi giudice l'Africa oppure no allora qui io non conosco tutti gli elementi non so quale sia la legge applicabile credo che il giudice competente per conoscere di queste controverse sia la Camera di Commercio di Stoccolma credo che già tutti gli studi legali principali di tutto il mondo abbiano cominciato a lavorare su questo argomento perché nel momento in cui la Russia domani chiede il pagamento in rubli l'Eni sosterrà che questa è una violazione del contratto i russi diranno che invece quella non ha una nobbra applicazione necessaria e come tale applicabile è un problema che si ritroveranno per circa 25 anni a discutere davanti in sede arbitrale a Stoccolma per quanto riguarda le sanzioni ho un po' di dubbi devo dire perché le sanzioni sono qualche cosa diciamo così che sfiorano come dire il contralegge perché se tu come dire adotti una sanzione nei confronti di un'impresa russa quella potrebbe anche dire ma scusa cosa c'entro io se la Russia perché quindi dobbiamo sempre fare molta attenzione quando si attua quando si dispone una sanzione nei confronti di un privato perché quel privato potrebbe dire scusa a dire ah sì mi fai le sanzioni allora io adotto una norma interna che stabilisce l'obbligo di cambio rubli perché sono costretto a farlo ma secondo me questa discussione sta già avvenendo nei principali studi legali italiani e mondiali grazie grazie allora al professor Frosini volevo fare una domanda collegandomi a quello che prima aveva detto sempre il professor Miani cioè che l'Ucraina è una parte del problema all'interno di una visione geopolitica generale e se permette le leggo anche una domanda così cominciamo anche a coinvolgere i ragazzi con le domande che hanno mandato la domanda numero 8 che l'Ucraina che verrà una nuova Corea divisa Corea del Nord Corea del Sud Ucraina del Nord del Sud ecco lei come vede questo futuro cominciando appunto dalla domanda se l'Ucraina è una parte del problema allora nel rispondere a questa domanda riprendo un'asservazione secondo me molto importante del professor Gardini scusate tolco sì dimentico a proposito del fatto che l'Ucraina è un enhanced opportunities partner giustamente diceva bene allora cosa succederà ci sarà un allargamento del conflitto alla Finlandia io aggiungo scusate il black humor ma all'Australia che è anche un enhanced opportunities member o la Giordania o la Svezia effettivamente se lo guardiamo da questo punto di vista è preoccupante dopodiché abbiamo sentito stamattina Giuliani per esempio parlare delle preoccupazioni che hanno in Moldavia effettivamente c'è un rischio che il conflitto potrebbe allargarsi anche la Moldavia la Georgia è un altro paese che è molto preoccupato da tutta questa situazione tra l'altro tornando a quello che io sottolineavo nel mio primo intervento a proposito di aspirazioni euro-atlantiche la Georgia insieme al Montenegro che è già nella Nato è un altro paese che ha inserito nella sua costituzione queste aspirazioni euro-atlantiche quindi è questo ovviamente io credo che alla Russia alla federazione russa non vada bene qui cito il professor Volpi a proposito dei fratelli minori finché seguono quelle che dice il fratello maggiore allora tutto va bene ma se cominciamo a vedere delle distinzioni allora la situazione diventa secondo me problematica da questo punto di vista e sempre collegandomi a quanto detto dal collega Gardini prima c'è quel terzo punto che lui elencava Nato Unione Europea innanzitutto secondo me è stato giusto sottolineare il fatto che dire che l'Ucraina abbia l'aspirazione ad entrare nell'Unione Europea entrare nella Nato beh questo è un conto questa è la volontà del popolo ucraino ma ha ragione Gardini quando dice però l'Unione Europea non ha fatto nessun passo prima dall'inizio della guerra ovviamente adesso la situazione è un po' diversa per far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea c'è una missione UE eccetera eccetera solitamente ci sono rapporti ma nessuno di noi chi si occupa di allargamento dell'Unione Europea ha mai pensato che fosse che l'Ucraina fosse in procinto di entrare nell'Unione è lo stesso discorso anche per la Nato ma il punto è proprio la questione anche sottolineata dalla direttrice d'Orlando stamattina qui si torna alla grande elemento di distinzione tra la federazione russa Cina purtroppo lo dico anglo-italiano India che è in una democratic retrogression che è spaventosa da questo punto di vista qui c'è una questione c'è uno scontro di uno scontro valoriale ora non sposo assolutamente teorie come quelle di Fukuyama fine della storia cose di questo genere trionfo dei valori occidentali e via dicendo assolutamente forse alcuni dei problemi iniziano lì quando si pensa con la dissoluzione dell'unione sovietica del parto di Varsavia eccetera allora a questo punto noi avremmo visto il trionfo della liberal democrazia no non è così però non vi è dubbio che alla federazione russa appunto terzo di quelle che diceva Gardini il fatto di queste transizioni democratiche io semplifico al massimo questi danno fastidio a Putin è inutile cioè a lui la globalizzazione dell'economia alla federazione russa alla Cina io aggiungo anche la Turchia India eccetera vanno bene ma la globalizzazione dei diritti e delle libertà tipiche del costituzionalismo liberal democratico vanno molto meno bene ed è questo che preoccupa perché non sono e lo sottolineo non sono un esperto dell'Ucraina ma non c'è dubbio che in questi ultimi anni un paese che sicuramente è spaccato e qui arrivo a rispondere alla domanda perché sembra che io non stia rispondendo alla domanda ma non c'è dubbio che c'è un spostamento orofilo si è visto con le ultime elezioni presidenziali Porochenko era a favore di un avvicinamento all'Unione Europea Zelensky ancora di più ora la soluzione di questo di questo conflitto potrebbe essere la 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 spartizione una divisione dell'Ucraina qui ovviamente mi costringete a fare previsioni e quando riguardano il futuro sono sempre difficili ah 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 però è possibile sì potremmo vedere un domani un'Ucraina dell'Ovest un'Ucraina dell'Est però forse e qui non mi piace mai entrare in campi di cui non sono un esperto il fatto che Putin e le forze armate russe siano andate molto presto oltre le zone contese del Donbass di Lugansk mi portano a pensare che almeno nei piani iniziali di 5 settimane fa c'era l'idea di conquistare quasi tutto l'Ucraina forse con l'esclusione della Galizia di Leopoli perché il fatto che nell'inizio si capiva che aveva un'intenzione di bombardare Kiev faceva capire che non aveva intenzione semplicemente di fare come ha fatto nel 2014 con la Crimea prendersi Donbass e Lugansk io ho iniziato parlando anche di questo bombardamento della città di Kharkiv se l'intenzione era di riportare i russofoni all'interno della federazione russa beh certo questo non è stata una mossa particolarmente intelligente e finisco con questo poi magari si può riprendere secondo me Putin se è come penso un nemico della della democrazia lo dico banalmente bene ha fatto un errore perché gli ultimi anni noi abbiamo visto questo se vogliamo chiamarlo pensando a Huntington una sorta di reverse wave per quanto riguarda i processi di democratizzazione Giuliani stamattina è una delle prime persone che sento dire chiaramente che è una delle cause di Brexit è stata l'interferenza russa non vi è dubbio che c'è stato micro political targeting nel Regno Unito e questo ha contribuito a quel risultato con tutte quelle cose che ha detto stamattina Giuliani Putin pian piano con la mossa della rana che si mette pian piano a cuocere un po' alla volta quella del boiling frog alzi un po' alla volta il calore dell'acqua e poi a un certo punto la rana scopre che è bollita l'invasione dell'Ucraina ovviamente è stato un aumento della temperatura dell'acqua improvvisa ebbene questa è terribile questa guerra ma dobbiamo sempre cercare di prendere qualcosa di positivo è una delle cose positive che vedo io da orofilo è una persona che crede in certi valori della liberaldemocrazia e che c'è una reazione dopodiché questo cosa porterà non lo so ecco mi fermo qua scusate se sono stato un po' lungo volevo dare la parola al professor Crestato che vedo che ha una frase nel suo PC la dissoluzione dell'Unione Sovietica la più grande catastrofe geopolitica del ventesimo secolo l'ha detta Putin e lei ha anche il tema della dissoluzione della Jugoslavia ecco questa nuova geopolitica a est è quella che un po' ha preoccupato Putin quando ha visto quando vede comunque disegnare una nuova come dicevo una nuova geopolitica e i nuovi stati in particolare l'Ucraina che ha preso poi un'altra strada ecco e quanto paga l'Ucraina anche gli errori dell'Unione europea in generale quello che qui però andiamo un po' sull'anedotico riguardo a Putin quello che molti dicono è stato significativo nel diciamo nel processo di educazione politica di Putin è stata vedere le manifestazioni in Germania orientale nell'89 Putin era a Dresda tra l'85 e l'89 incidentalmente personalmente ero anch'io in quel lasso di tempo per alcuni mesi a Dresda ma facendo altre cose naturalmente e sì vedere sì con il crollo del muro di Berlino pochi mesi dopo Putin dove si se ne andò come i suoi colleghi del gli altri suoi colleghi del KGB e vedere appunto le manifestazioni dei cittadini tedeschi orientali che reclamavano i diritti civili politici versi in das folk eccetera eccetera è qualcosa che senz'altro perché poi lo ha citato in in colloqui con altre persone che poi lo hanno riferito è stato per lui uno uno shock e appunto lo ha portato a poi scelte così di personali e politiche che lo hanno condotto dove è ora la più grande catastrofe geopolitica del ventesimo secolo perché come è stato giustamente ricordato questa mattina quella Russia imperiale a cui Putin fa riferimento si era come dire reinventata dal punto di vista ideologico nell'Unione Sovietica e con il crollo dell'Unione Sovietica abbiamo visto appunto le varie repubbliche diventare indipendenti da questo punto di vista i punti di contatto con la dissoluzione della Jugoslavia a mio avviso ci sono però naturalmente estremizzati e aggravati nel senso che sia l'Unione Sovietica che la Jugoslavia erano degli stati plurinazionali usiamo questo termine che avevano una struttura istituzionale federale federativa e di conseguenza con meccanismi di ripartizione dei poteri e delle competenze tra il centro e la periferia ma non erano degli stati di democrazia liberale cioè la la segmentazione l'articolazione interna a più livelli tra livello repubblicano e livello statale a questa che di conseguenza lascerebbe intendere una articolazione pluralistica in realtà era ricondotta ad un estremo centralismo dal fatto che ciò che contava era il partito comunista dell'Unione Sovietica la Lega dei Comunisti della Jugoslavia saltato quel collante le articolazioni nazionali che queste due strutture federative contenevano le hanno portate all'esplosione naturalmente nel caso della Unione Sovietica Russia ulteriormente aggravata dal fatto che non parliamo di uno Stato medio e degli stati successori piccoli ma parliamo di una potenza nucleare e di conseguenza la similitudine non ci può essere sarebbe una forzatura ma i punti di contatto tra un atteggiamento psicologico di privazione indotto dalla risoluzione della Jugoslavia nella Serbia nella Serbia da un lato e dell'Unione Sovietica nella Russia dall'altro hanno dei punti di contatto ma appunto con grande diversità perché il peso specifico è diverso dei due soggetti dal punto di vista dell'Europa che ci sta molto a cuore come Ateneo come Ateneo e anche come Dipartimento ospitiamo qui nella biblioteca economico-giuridica il Centro di Documentazione Europea dell'Università che è fuori del materiale che se volete potete potete liberamente prendere il problema dell'Unione Europea penso sia stato ben sintetizzato all'inizio dal professor Maresca per quanto si è potuto ascoltare il suo intervento iniziale ovvero sia senza una politica estera unitaria non ci può essere una difesa unitaria e senza una difesa unitaria gli stati europei come scriveva il presidente Inaudi in occasione delle tentativi di ratifica della CED cioè della creazione della comunità europea di difesa singolarmente presi gli stati europei sono polvere senza sostanza dal punto di vista militare oppure per usare un'altra espressione forse ancora più incisiva anche se non molto simpatica l'Unione Europea è un gigante economico un nano politico e un verme militare perché questa è la realtà ma perché c'è questa situazione perché non c'è un governo europeo ovvero sia avere una politica estera unica perché abbiamo una moneta unica non abbiamo una moneta comune una moneta parallela che si affianchi ad altre monete abbiamo una moneta unica ma avere una politica estera unica e una difesa unica implicherebbe una trasformazione istituzionale dell'Unione dalla realtà presente sostanzialmente ad una realtà di carattere federale e questo tema che naturalmente è un tema che sul tappeto dall'inizio del processo di integrazione e su cui moltissimi hanno sempre sottolineato e hanno detto sì bello è una prospettiva che sarebbe utile avere ma impossibile perché gli stati membri non accetteranno di suicidarsi trasferendo le competenze sovrane a una realtà superiore ogni crisi che stiamo attraversando ci fa toccare con mano che l'architettura esistente non è in grado di farci compiere come Europa una farci svolgere come Europa un ruolo autonomo dal punto di vista militare siamo evidentemente dipendenti dagli Stati Uniti ancorché noi singolarmente presi e sommando le spese militari dei paesi membri dell'Unione Europea noi già ora spendiamo molto più della Russia siamo i secondi in termini di spesa militare come Unione Europea rispetto agli Stati Uniti ma non la spendiamo in modo efficace perché come sappiamo abbiamo una duplicazione di di investimenti di sistemi d'arma tali per cui non li spendiamo in modo efficiente è chiaro che una difesa unica sarebbe potremmo spendere meno di quanto spendiamo oggi essendo più efficienti ed efficaci ma dovremmo avere a monte un soggetto politico che prende le decisioni naturalmente sulla base di una legittimazione democratica da parte dei cittadini europei in modo coerente è come se oggi come oggi noi funzioniamo come se gli Stati Uniti funzionassero con un meccanismo per cui ad ogni crisi a Washington si riuniscono i governatori dei 50 Stati americani e dibattono il Stato di New York la Florida la California e dibattono cosa facciamo cosa non facciamo sanzioni sì no quante intervento umanitario sì no è chiaro che la capacità di essere efficaci con delle modalità politiche e decisionali del genere non è realizzabile ma realizzarlo implicherebbe una scelta costituzionale di trasformazione dell'Unione che fino adesso la maggioranza o potremmo anche dire la totalità degli Stati membri e la maggioranza delle opinioni pubbliche in Europa non sembra ritenere ancora possibile o matura o neppure desiderabile da parte di alcuni però senza quella scelta la difesa comune si ridurrà ai 5.000 uomini di cui si parla adesso dopo aver parlato di 60.000 molti anni fa per cui potremmo dire che non stiamo facendo un passo avanti ma stiamo facendo molti passi indietro grazie grazie professor Gardini le leggo due domande dei ragazzi quali potrebbero essere i possibili interventi dell'Unione Europea per arrivare a una possibile risoluzione della guerra Russia-Ucraina e quali potrebbero essere le conseguenze militari qual è lo scenario bellico futuro come vuole porsi l'Europa nei confronti del riarmo e soprattutto è l'Italia direi che dopo l'intervento del collega questa domanda calza a pennello grazie direttore grazie anche agli studenti che hanno inviato queste interessantissime domande su come potrebbero evolversi le operazioni militari della guerra onestamente non ne ho la più pallida idea non è il mio settore e non ho la palla di cristallo quindi mi dichiaro assolutamente incompetente non sono un mago sono un accademico per quanto riguarda la posizione dell'Italia anche qui mi sembra abbastanza facile definirla nel senso che noi ci stiamo attenendo a quelle che sono le regole l'Italia sta attuando secondo le regole dell'Unione Europea secondo le regole della propria Costituzione ho avuto modo di conversare con colleghi costituzionalisti che hanno messo in dubbio la costituzionalità ad esempio della fornitura di armi all'Ucraina allora anche qui bisogna un po' essere attenti abbiamo dei costituzionalisti spero di non dire resie però se l'articolo 11 della Costituzione ripudia l'uso della guerra eccetera eccetera è anche vero che l'articolo 51 dello Statuto dell'ONU che noi abbiamo sottoscritto consente agli stati vittima di attacchi di usare la legittima difesa in maniera individuale e collettiva il che vuol dire che stati sempre membri dell'ONU che rispondano ad un appello di stati vittime di attacco possono effettivamente partecipare ad azioni di difesa legittima collettiva fino a che punto questa si possa spingere lo lascio ai miei colleghi costituzionalisti non è realmente la mia area però per quanto riguarda invece l'Unione Europea e la reazione non solo dell'Unione Europea direi dell'Occidente mi rifaccio a quanto detto da altri colleghi paradossalmente Justin ha perfettamente ragione su questo paradossalmente l'attacco della Russia all'Ucraina ha rinforzato un blocco che è quello occidentale che si stava veramente sfaldando c'era sempre più distanza tra Stati Uniti ed Europa e adesso si è ridotta questo rollback delle democrazie è un dato di fatto non solo in Europa purtroppo e tristemente io mi occupo particolarmente del continente americano dell'America Latina e anche lì stiamo osservando uno sfaldamento del concetto stesso di democrazia però parlando di reazioni mi rifaccio alle relazioni internazionali che è l'ambito in cui mi muovo meglio e la mia impressione è che l'Occidente al di là di aver trovato una certa forma di compattezza che è apprezzabile però sta reagendo soprattutto soprattutto l'Unione Europea sta reagendo in modo più emotivo che razionale vale a dire la politica estera e la politica internazionale si reggono su due aspetti su due cardini uno sono i valori e l'altro sono gli interessi allora se noi guardiamo i valori assolutamente dobbiamo essere contrari all'invasione dell'Ucraina contrari alla guerra e non possiamo lasciare il popolo l'Ucraino alla mercè degli eventi internazionali ma questi sono i valori ma dobbiamo anche guardare ai nostri interessi la politica estera dovrebbe primariamente perseguire gli scopi vitali per un paese ok bene l'Ucraina per quanto possa dispiacerci dal punto di vista dei valori ma dal punto di vista degli interessi l'Ucraina non è un interesse vitale né per l'Italia né per l'Unione Europea né per gli Stati Uniti e non lo dico io lo dicono gli Stati Uniti l'Unione Europea e l'Italia che non sono disposti a entrare in guerra per difendere l'Ucraina quindi un valore che per noi è cruciale e vitale è un valore per il quale siamo disposti almeno a lottare in questo momento non siamo disposti a farlo quindi qual è il punto il punto è che una politica estera intelligente razionale che guarda non solo ai valori ma anche agli interessi prima avrebbe dovuto muoversi almeno 5-6 anni fa dopo la prima crisi dell'Ucraina questo è il primo punto ma non abbiamo voluto ascoltare né i russi né gli ucraini ma il secondo punto è che adesso usare reazioni emotive come concedere una fast track per l'adesione all'Ucraina è una stupidaggine dal punto di vista giuridico non c'è dubbio dal punto di vista politico scusate abbiamo appena detto all'Ucraina gli avrebbero detto chiaro e tondo non sei un valore vitale non combattiamo per te però far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea vuol dire attuare esattamente al contrario di quello che stiamo dicendo e un eventuale ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea porterebbe l'Unione Europea a condividere una frontiera terrestre importante con la Russia non parlatemi per favore della Lituania e Kaliningrad che è una cosa trascurabile ma avremo una frontiera diretta con la Russia vogliamo davvero metterci nelle condizioni per cui le prossime schermaglie di frontiera sarebbero schermaglie che toccano direttamente l'Unione Europea e se facessimo entrare l'Ucraina nella Nato oggi o anche la Georgia ritornerò su questo tra un secondo se mi date solo 30 secondi per finire il ragionamento permettere all'Ucraina di entrare nella Nato oggi vorrebbe dire dare all'Ucraina il potere di attivare l'articolo 5 del trattato istitutivo della Nato che obbligherebbe tutti gli altri membri a entrare in azione armata diretta a difesa dell'Ucraina dopo aver detto all'Ucraina che non siamo disposti a farlo quindi questo non avrebbe molto senso dal punto di vista politico chiudo sulla Georgia perché qui stiamo parlando di Ucraina ma non dimentichiamoci della Georgia perché nel 2008 la Russia ha fatto esattamente la stessa cosa che ha fatto nel 2014 in Georgia ha riconosciuto due repubbliche secessioniste per impedire che la Georgia entrasse nella Nato perché al vertice di Budapest del 2004 ripeto Budapest 2004 e al vertice di Budapest 2008 che sono due vertici diversi ma nel 2004 l'Ucraina e altri paesi come il Kazakistan e la Bielorussia hanno ceduto le proprie armi nucleari ex sovietiche alla Russia in cambio di un'assicurazione sulla propria sicurezza firmata dalla Russia e firmata dagli Stati Uniti e abbiamo visto come è andata nel 2008 al vertice di Budapest la Nato ha messo per iscritto ve lo potete scaricare da internet che l'Ucraina e la Georgia diventeranno membri della Nato poi non se ne è fatto nulla ma se quello che è successo in Georgia ha qualcosa a che fare questo ci spiega anche quello che sta succedendo in Ucraina esattamente lo stesso principio riconoscere repubbliche secessioniste ed interferire negli affari di quello Stato sarei molto preoccupato se questo fosse il caso grazie grazie professor Miani tante le domande a carattere a tema economico alcune si sovrappongono però gliele leggo che così magari gliele leggo più d'una così poi magari le do la parola e rispondiamo insieme la prima le risorse rinnovabili e l'energia pulita possono essere ritenute valida alternativa nel breve termine o solo un'ipotesi utopistica l'Italia si sta mettendo in moto per avere delle risorse energetiche proprie senza dover dipendere quasi interamente dagli altri Stati da dove potrebbe rifornirsi l'Italia in termini di energia gas petrolio in alternativa all'approvvigionamento russo ce n'era ancora una quali saranno le conseguenze energetiche ricadute sul mercato italiano ed europeo e poi ce n'era un'altra che riguarda il tema invece alimentare ancora una l'Italia si sta mettendo in moto per avere risorse energetiche proprie senza dover dipendere interamente dagli altri Stati questo si ripete un po' con quella di prima le risorse rinnovabili possono essere ritenute esatto è uguale a quella di prima una riguarda la crisi alimentare però magari è un tema che se vuole affrontiamo dopo e direi che già qui c'è un tema che è molto importante che riguarda appunto il fatto che l'Italia sia un po' un passo indietro rispetto ad altri Stati per quanto riguarda l'approvvigionamento in Europa di queste energie quindi qui si apre il tema sul dibattito del nucleare e di tutto il resto premesso che io mi occupo di finanza di moneta e non di energia ma insomma qualche connessione sulle materie prime con i mercati c'è sicuramente allora l'unico paese europeo quantomeno tra quelli più importanti che ha qualche autonomia in materia energetica è la Francia e ce l'ha perché ha soprattutto l'energia nucleare è molto diffusa ha un paese molto importante tra l'altro ci vende anche energia elettrica prodotta con le centrali nucleari quindi questo è un dato di fatto le energie rinnovabili soprattutto per un discorso climatico vengono almeno nel mondo occidentale soprattutto europeo perché in America sono anche un po' contestate da una parte del paese perché è anche produttore e esportatore di forme tradizionali di energia sono considerate il futuro ci sono diversi scenari 2030 2050 si discute sicuramente lo scenario sulle energie rinnovabili non è il 2023 perché anche concentrando tutti gli investimenti PNR qualsiasi altra risorsa ci vogliono dei tempi per realizzarle quindi uno stress energetico è abbastanza evidente quello su cui si sta mi sembra di capire cercando di individuare un percorso che poi ha ricadute anche finanziarie per quello magari qualcosina posso immaginare è di orientare un livello intermedio verso a prescindere dalla guerra attuale quindi pre-invasione ucraina un percorso che ci avvicini all'eliminazione delle fonti energetiche più impattanti sull'ambiente e sul clima perché sono due aspetti anche diversi c'è un discorso di inquinamento e uno di riscaldamento globale che non sempre coincidono che potrebbe prevedere di eliminare in primo luogo le fonti più nocive diciamo così e a regime passare alle fonti rinnovabili e in uno scenario di questo tipo il gas potrebbe essere ma su questo anche a livello di Unione Europea c'è stato molto dibattito non si era deciso nulla il gas potrebbe essere una soluzione transitoria perché è molto meno impattante del carbone piuttosto che di altre cose quindi l'idea che il gas sparisca immediatamente non era nello scenario l'idea era che a lungo termine potrebbe sparire anche il gas ma a breve medio termine anzi probabilmente doveva essere quasi potenziato per sostituire altre fonti più impattanti è difficile dire dove l'Italia può rifornirsi è difficile dirlo perché bisognerebbe almeno io sono abituato a ragionare così bisognerebbe considerare alcuni scenari e ci sono alcuni scenari relativamente favorevoli in cui noi possiamo agevolmente rifornirci dall'Algeria un pochino dalla Libia dal Qatar un po' nel liquefatto magari anche con questi sistemi galleggianti che sarebbero allestibili nel giro di qualche mese eccetera su cui sta puntando anche la Germania però questo è lo scenario favorevole e mi spiego brutalmente per cosa intendo scenario favorevole Turchia e Russia sono in Libia l'Algeria non è che ce l'ha tanto con l'Europa perché con i francesi ancora non dico in guerra ma non ha grandi simpatie il Qatar è dov'è e non lo sappiamo la stessa Arabia Saudita che rifornisce non tanto l'Italia di altri idrocarburi non lo so che atteggiamenti ha perché è vero che è molto legata agli Stati Uniti ma dialoga molto spesso con la Russia e tutto sommato è stata beneficiata del rialzo dei prezzi non si capisce bene il gioco con l'Iran che si sparano ma ogni tanto si parlano quindi lo scenario strategico dei rifornimenti energetici dall'estero è molto complesso perché ci potrebbero essere delle situazioni in cui non compriamo più dalla Russia ma un po' grazie alla Russia un po' anche per motivi indipendenti dalla Russia non riusciamo a comprare neanche da altri o perché ci sono in mezzo i russi o per altri motivi quindi la situazione è veramente complicata potenziale di potenziamento della scusate gioco di parole di sviluppo interno di produzione si può raddoppiare la produzione nazionale di gas con qualche problema poi di sappiamo nell'Adriatico ci sono problemi geologici quindi alcuni dicono che Pianura Padana Venezia eccetera abbiano avuto dei cali dovuti proprio ai prelievi del gas a parte che lo sta facendo la Croazia ma anche se raddoppiamo non abbiamo risolto il problema perché arriviamo ad un'autonomia che al massimo può arrivare al 20% quindi non la vedo facilissima certo una combinazione un mix di tutte le possibilità quindi il solare l'eolico le maree un po' di risparmio forse direi che nell'immediato la prima fonte energetica che abbiamo è il risparmio nel senso consumare di meno risparmiare un 20% 25% dà fastidio a tutti ma è fattibile è l'unica flessibilità vera perché poi per il resto dipendiamo prevalentemente dall'estero quindi la dipendenza dall'estero si può risolvere solo a mano militare nel momento ci fosse una crisi quindi voglio dire ci bloccano il golfo bisogna andarli con le navi e sbloccarlo da Libia ci sono i turchi i russi che decidono di non venderci più la roba o ce la mettiamo in pace o mandiamo l'esercito l'ha messo di averlo quindi purtroppo questa è la realtà grazie ci sono altre domande però sinceramente non saprei a chi indirizzarle vediamo chi è il più coraggioso una è l'attacco atomico è solo una minaccia o può diventare una questione reale chi è così coraggioso da voler rispondere a questa domanda e ce n'è ancora una sulle possibili crisi alimentari nei paesi importatori di cereali e anche questo se è un rischio reale chiedono gli studenti e l'ultima riguarda la comunità internazionale e l'accoglienza c'è stata una significativa mobilitazione da parte della comunità italiana internazionale per accogliere i cittadini ucraini in difficoltà personalmente ho notato delle differenze nell'accoglienza riservata ora alle persone ucraine e agli immigrati e agli immigrati arrivati nel nostro paese anni scorsi con alti flussi evidentemente è così secondo voi e se sì quali pensate siano le motivazioni all'origine di questa differenza di trattamento allora io ve l'ho letta tutte non so se c'è qualcuno che alza la mano e si fa ancora prego a quale numero uno numero due numero tre la più difficile a quella sul nucleare sulle altre penso ci siano colleghi meglio meglio posizionati di me allora ancora una volta penso che nessuno di noi abbia la palla di cristallo è impossibile entrare nella testa di Putin o delle elite russe e sapere se sono disposti o fino a che punto sono disposti a continuare diciamo con l'azzardo di questa guerra e anche con l'azzardo nucleare però si possono fare tre considerazioni che secondo me sono importanti anche per capire dove sta andando l'ordine internazionale futuro per tanti anni non abbiamo più parlato di armi nucleari cioè fino agli anni 90 il disarmo nucleare era un tema fondamentale quando io ho cominciato a fare relazioni internazionali ed era uno dei temi chiave negli ultimi vent'anni quasi non se ne è parlato più finita la guerra fredda consegnate le chiavi dell'arsenale dell'Ucraina della Bielorussia del Kazakistan alla Russia sparito sì qualche cosa sul terrorismo se i terroristi dovessero riuscire ad avere le armi nucleari bene purtroppo il tema nucleare è tornato e ritornare ancora di più con prepotenza sull'agenda internazionale e se vogliamo usare la prospettiva realista delle relazioni internazionali il nucleare è il deterrente maggiore a qualsiasi tipo di guerra perché c'è una cosa che si chiama MAD che vuol dire pazzo ma vuol anche dire Mutually Assured Destruction vuol dire che ci distruggiamo tutti a vicenda quindi il deterrente nucleare piaccia o non piaccia tornerà probabilmente ad essere al centro dell'agenda internazionale così come pure un eventuale disarmo secondo punto non dobbiamo tralasciare il rischio di incidenti perché o di sbagli di calcoli errati ad esempio stavo sentendo l'intervento di un collega statunitense sulla capacità di intelligence russa in ambito di sistemi di allerta rapidi pare secondo questo collega che i sistemi di intelligenza russi siano meno molto meno accurati di quello statunitense quindi il sistema russo non è in grado di prevedere con lo stesso grado di accuratezza se ci sia un attacco vero e proprio se ci sia un allarme un'esercitazione semplicemente un errore quindi anche l'errore e anche l'errore umano è possibile il terzo punto che a me ha parecchio allarmato nei primi giorni della guerra è stata la messa in stato di allarme delle forze nucleari russe può darsi che sia anche una mossa solo propagandista per mettere ancora più pressione all'Ucraina e all'Occidente però questo è successo quindi immagino che il tema nucleare non so come possa evolversi nella specifica situazione Ucraina ma sarà senz'altro un tema importante nei prossimi anni per le relazioni internazionali grazie grazie sì scusi nel frattempo è arrivata un'altra domanda anche questa la butto così vediamo la butto là poi se c'è qualcuno che è come un quiz le domande da uno a due alla tre siamo alla quattro questa è la quattro la guerra in Ucraina potrebbe essere il preludio in futuro di una guerra più estesa tra civiltà le do la parola al professor Miani e poi il professor Frosini che voleva intervenire prego sì io dico qualche parola sulle varie questioni dopo Gardini c'è poco da dire sul nucleare salvo un aspetto che mi preme sottolineare che l'equilibrio di potenza nel nucleare che abbiamo vissuto nella guerra fredda si fonda sul paradigma della reciproca distruzione e questo permane ecco la cosa preoccupante oggi è che si comincia a ventilare qualche ragionamento di genere diverso cioè il cosiddetto nucleare tattico questo è un discorso molto più pericoloso perché non presuppone la distruzione reciproca ma presuppone l'ingresso su un campo minato che non si sa poi dove va a spocciare ecco non direi di più di questo ma mi sembrava importante far notare questa differenza rispetto a tutti i discorsi che ci sono stati in passato quindi anche in qualche misura la questione degli euromissili eccetera era stato un tentativo anche di lavorare non proprio sul tattico sul medio raggio il tattico non è ancora più ristretto però adesso non abbiamo al di là dei missili balistici intercontinentali non abbiamo accordi e nemmeno vigia questo principio della moto a distruzione di massa quindi il rischio che qualcuno poi lo voglia o perché è in difficoltà o per qualsiasi motivo cercare di utilizzare è concreto come sulla quarta domanda che è auspicabile che non succeda ma è evidente che potrebbe succedere insomma quindi non credo che si possa dire di più quante probabilità speriamo poche però qualche probabilità di diffusione o o per errori nostri o per errori altrui o anche per situazioni casuali potrebbe accadere insomma sulla questione le altre due questioni erano una alimentare sostanzialmente e una sulle migrazioni migrazioni profughi sono due concetti anche un po' diversi allora sulla questione alimentare c'è un impatto devastante sui prezzi e noi lo stiamo già vedendo sull'inflazione sia in America soprattutto qui in Europa adesso è partita prima in America forse legata anche ad altri motivi preesistenti adesso sta colpendo molto forte in Europa credo però che il vero effetto negativo che potrebbe avere ripercussioni anche tra troppo tempo ci sarà sui paesi del terzo mondo perché noi abbiamo un impatto sui prezzi ci costa di più faremo fatica a pagare ma in qualche misura paghiamo i paesi che facevano già fatica a comprare a prezzi bassi rischiano di mare di fame perché non riescono a comprare a prezzi più alti quindi è evidente che in un momento di scarsità di materie prime alimentari o di prodotti alimentari più in generale perché poi se i processi produttivi diventano più complessi perché manca materia prima magari c'è un problema anche sul prodotto finito impatterà in maniera più devastante su quelli che avevano poche risorse per acquistare quindi noi magari mangiamo un po' di meno o mangiamo qualcosa di diverso ma in qualche modo se non succedono altre cose ce la possiamo fare invece alcuni paesi del terzo mondo potrebbero avere degli effetti veramente devastanti questo si ricollega un po' anche all'altra questione quella dei profughi la questione dei profughi vado completamente al di fuori delle mie competenze ma la mia sensazione è questa che ci siano in astratto due due tipi di profughi completamente diversi ma che in concreto poi non sia facile andare a distinguerli allora è evidente che ci sono i profughi che vengono fuori per motivi di guerra quindi quando c'è una guerra come succede adesso in Ucraina come è successo in Siria come è successo in altri posti è evidente che lì c'è un problema anche credo normato dalle Nazioni Unite eccetera di assistenza ai profughi dove forse c'è una qualche benevolenza generalizzata chiamiamola buonismo chiamiamola responsabilità o come vogliamo c'è un secondo problema dei cosiddetti migranti economici che non sono dovuti a un fattore contingente la scoppia di una guerra sono dovuti a fattori più strutturali per esempio la variazione del clima che porta la desertificazione in alcune zone per esempio questo discorso dell'aumento del costo dei prodotti alimentari che potrebbe creare veramente delle migrazioni ma neanche economiche in quel caso proprio per mangiare è cosa che succedevano anche voglio dire centomila anni fa quindi il problema è complesso bisognerebbe cercare di governarlo non è facile e soprattutto temo che sia si presti molto a questioni ideologiche più che pragmatiche quindi più che cercare di governarlo si discute tanto ideologicamente senza fare niente per cercare di smussare l'angolo di trovare qualche soluzione questa è la mia impressione grazie professor Frosini voleva intervenire anche lui sulla quarta domanda poi ci saranno altre domande leggo dopo il professor Biani ha praticamente già detto quello che volevo dire è ovvio che da un punto di vista giuridico non si può distinguere tra rifugiati provenienti da altre da diverse zone di guerra però purtroppo sta succedendo e lo sappiamo anche da chi è sulle frontiere con la con la Polonia con la Slovacchia l'Ungheria cioè effettivamente nell'accogliere i rifugiati ucraini pare che anzi lo so da prima mano perché ho una ricercatrice che lavora per un progetto su human trafficking al centro di ricerca che dirigo alla Hopkins a Bologna che proprio è stato testimone di distinzione che venivano fatte la frontiera tra rifugiati ucraini e rifugiati afghani eccetera che si trovavano in territorio ucraino quando è scoppiata la guerra ovviamente questo da un punto di vista giuridico ma anche voglio dire umano è inaccettabile però purtroppo sta accadendo un po' confermando dietro questo ruolo importante della Polonia che sta raccogliendo letteralmente milioni di rifugiati però dietro la Polonia dove stavamo parlando di democratic retrogression c'è ancora cioè il fatto che vengano fatte queste distinzioni è un po' preoccupante vuol dire non aver abbracciato fino in fondo certi valori ex articolo del trattato dell'Unione Europea poi c'era la prima domanda Gianluca ha già risposto ma io volevo fare un provocatore un secondo ma neanche è semplicemente IHK è immaginare un counterfactual cioè tu dicevi prima che l'Ucraina non è un vital interest per l'Unione Europea e per gli Stati Uniti però non necessariamente devi rispondere Gianluca ma potremmo immaginarlo al contrario cioè un counterfactual dove diciamo ma se quando l'Ucraina ha cominciato a chiedere di entrare nella Nato nell'Unione Europea ma in particolare nella Nato se il 24 di febbraio fosse stato già nella Nato e con il problema che ovviamente scaturerebbe dall'articolo 5 e allora a quel punto forse non avremo la guerra ripeto è una riflessione semplicemente un po' cogliendo il tuo ragionamento e rovesciandolo se vogliamo e allora su questo c'erano anche delle domande riprendendo l'articolo 51 precedentemente nominato presunto genocidio nominato da Putin durante il discorso del 24 febbraio se fosse una reale minaccia sarebbe una giustificazione per l'azione armata poi ce n'era ancora ancora una nel panorama generale la situazione attuale pone un grosso problema di food security a livello globale e anche a livello europeo è possibile nel breve medio periodo da parte dell'UE una revisione della politica agroalimentare con un'inversione dirotta rispetto alla spinta verso l'agricoltura biologica certo rispettosa dell'ambiente ma non economicamente sostenibile a favore di una produzione convenzionale al fine di evitare una crisi alimentare gravissima con conseguente nascita di nuove tensioni e conflitti e poi ce n'era ancora una credo di averla poi letta è tutta è considerato che la fase bellica non è prevedibile e gestibile diversamente dal non intervento su quali piani strategici sta operando la diplomazia ecco grazie sulla questione della politica agricola anche rialciandomi a quanto diceva adesso il collega Miani è chiaro che modificare la politica agricola è possibile tra l'altro la PAC la nuova PAC è stata sia approvata ma non è entrata in vigore ancora per cui ci sarebbe tutto lo spazio per rivedere certi presupposti noi abbiamo avuto una PAC che dopo l'avvio iniziale negli anni 60 e fino agli anni 80 puntava ad aumentare la produzione e a raggiungere una forma anche se non completa di autosufficienza alimentare della allora comunità poi abbiamo prodotto troppo siamo andati in eccedenza e abbiamo avviato una serie di riforme che hanno invece puntato sostanzialmente a produrre di meno set aside messa a riposo dei terreni cambiamento proprio dei meccanismi premiali che appunto in precedenza favorivano l'aumento della produzione adesso invece sostanzialmente da vari anni abbiamo una PAC che va in senso opposto a queste motivazioni che erano all'inizio economiche per tornare indietro per cambiarla si sono aggiunte poi quelle ambientali e oggi anche da ieri varie associazioni agricole a livello europeo anche italiane hanno sempre visto negativamente questa idea del fatto che potevamo in Europa e in Italia eliminare o disinteressarci meglio della della produzione agricola interna perché tanto andavamo a comprarla in Russia o in Ucraina o altrove penso che questa situazione ci faccia toccare con mano il fatto che un certo livello di auto-approvvigionamento nel settore primario che non per nulla si chiama primario è essenziale per l'autonomia strategica di un paese o di un gruppo di paesi come l'Unione Europea è essenziale un'autonomia strategica nel campo dell'energia ma è anche essenziale nel campo agroalimentare naturalmente si potrà discutere qual è il livello desiderabile o accettabile ma penso che una ridiscussione in profondità della filosofia della PAC non possa non esserci in una situazione del genere e con tutte le situazioni che potrebbero ulteriormente verificarsi questo per quanto riguarda il primo punto sulla questione dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite abbiamo ascoltato questa mattina la professoressa Bergamini che ci ha parlato appunto delle prese di posizione dell'ONU è chiaro che l'articolo invocare da parte di Putin l'articolo 51 è strumentale ma lui lo fa cioè lui lo fa e scatena la guerra cioè voglio dire è una foglia di fico ma noi naturalmente abbiamo tutto il diritto e il dovere di sottolineare che è strumentale una foglia di fico è falso però ciò che conta è the boots on the ground certo non solo quello abbiamo visto come la la Russia nonostante tutti i suoi investimenti in termini di propaganda che venivano ricordati sembra aver perso perlomeno fino ad oggi la guerra della della propaganda in occidente ma altrove non necessariamente non necessariamente in Russia che naturalmente vive in una bolla informativa ma anche forse in certi paesi del terzo mondo che vedono certe considerazioni leggono certe considerazioni come un'ennesima dimostrazione dell'imperialismo occidentale o della concezione degli occidentali di essere il centro del mondo mentre invece non lo sono forse più grazie non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire se non mi avvierei alla conclusione prego bravissimamente forse più che foglia di fico stiamo parlando di una foglia di basilico perché veramente mi pare incredibile c'è una domanda sulle trattative diplomatiche che forse non è stata penso anche qui sia molto difficile sapere esattamente che cosa stia succedendo e che cosa si stiano raccontando alle parti però c'è una cosa secondo me molto importante che i negoziati si stanno svolgendo sotto leggi da Turca quindi questa idea che altri paesi non solo quelli occidentali stanno tenendo un ruolo fondamentale mi sembra che vada sottolineato e non dimentichiamoci che nelle ultime tre guerre negli ultimi dieci anni vorrei dire Siria Libia e adesso l'Ucraina tanto la Russia quanto la Turchia hanno un ruolo assolutamente centrale e mi permetto un'ultima considerazione che un ruolo attrettanto centrale lo può giocare la Cina che è l'ancora di salvezza della Russia in questo momento e non vorrei mai che l'Ucraina sia solo un test per quello che potrebbe succedere con Taiwan perché avere a che fare lo abbiamo sentito dal punto di vista economico con la Russia la Russia è un nano economicamente è come più o meno l'Italia non che noi siamo proprio dei nani ma insomma non siamo delle superpotenze avere a che fare militarmente economicamente con la Cina sarebbe molto più probante e questa è la considerazione che volevo condividere la partita scacchi complicata probabilmente è proprio questa nel senso che se l'America l'Europa poi non so se è in grado di prendere decisioni o di assumere posizioni forti ma se l'America si schierasse apertamente con l'Ucraina e contro la Russia è probabile che immediatamente si aprirebbe un fronte sul Pacifico quindi ci sarebbe un rischio concreto comunque di perdere perché non so se sono in grado di reggere sì una volta erano in grado di combattere tre guerre contemporaneamente fino all'ultima revisione di scenario ma non guerre mondiali guerre locali qui si tratterebbe di combattere una guerra mondiale su due fronti uno ha i missili in maniera le bombe atomiche l'altro ha un esercito di diversi milioni anche con tutti i possibili alleati che poi bisogna vedere perché l'India di chi è alleato non si sa è amica dei russi è entrata nell'alleanza con americani giapponesi e australiani ma probabilmente l'India io ogni tanto faccio qualche battuta sulla Brexit dico che poi adesso vedremo come va a finire ma quando c'è stato ha detto forse la volta buona è che l'Europa fa un passo avanti perché questi rompevano solo l'anima e bloccavano tutto e vogliono rifare il Commonwealth sì però come la Jaguar è diventata indiana probabilmente anche se rifano il Commonwealth comanda l'India perché non si rendono conto e quindi penso che anche l'India non sia alleata degli americani o dei russi e vogliono giocare un po' la sua partita non so se ce la farà perché ha problemi anche di complessità etnica eccetera però voglio dire il gioco è molto complicato quindi non credo che in questo momento gli Stati Uniti siano in grado poi c'è un rischio ulteriore che si creino dei problemi interni come sappiamo perché c'è qualche instabilità politica forse peggio che da noi grazie 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 al professor Miani al professor Chessatti al professor Frosini ai professori Gardini Foresti saluto il professor Maresca che poi abbiamo perso nel corso del suo viaggio grazie alla professoressa d'Orlando e agli organizzatori di questo momento di riflessione su questo tema di stringente attualità la giornata continua come vi dicevo prima ecco la professoressa d'Orlando adesso raggiunge qui il tavolo e continua questo pomeriggio grazie grazie a tutti bene io ringrazio a mia volta tutti coloro che si sono avvicendati in questa giornata davvero molto intensa mi ha fatto molto piacere la quantità di domande che sono state poste ai nostri relatori molte tra l'altro sono state tra loro diciamo compattate sommate ma davvero c'è stata una partecipazione notevole e questo è uno anche dei vantaggi di questa formula ibrida nell'organizzazione di questi eventi ci sono persone qui in presenza in Aula Strasod ci sono molte persone collegate online come ricordavano stamattina le studentese che insieme a me hanno aperto i lavori leggendo quelle bellissime poesie di due autori russo e ucraino e come ricordava anche la giovane pianista di Kiev che se vi ricordate è intervenuta al termine della tavola rotonda di questa mattina l'arte è uno strumento di particolare importanza per quanto riguarda l'espressione della sensibilità l'espressione dei sentimenti dell'animo e acquista un'importanza se possibile ancora maggiore quando ha a che fare con fatti drammatici come quelli a cui stiamo purtroppo assistendo abbiamo avuto appunto un incontro letterario questa mattina e abbiamo deciso di chiudere questa giornata di nuovo con l'arte ora grazie al collega Alessandro Del Puppo che vedo già collegato e che saluto e che ringrazio vi proporremo una selezione di opere di un pittore russo che il collega Del Puppo ci presenterà che si chiama Maxim Cantor è un artista molto noto in Russia è un dissidente rispetto all'attuale regime e per questo costretto a vivere all'estero da molti anni ormai ecco Cantor ha espresso attraverso le sue opere i suoi sentimenti rispetto al regime esistente ma anche diciamo la sua volontà di vedere di vivere diciamo un'Europa diversa e preannuncio poi che la chiusura definitiva della giornata sarà ancora all'insegna dell'arte della musica in questo caso perché avremo come graditissimi ospiti una selezione del coro dell'orchestra della nostra università quindi do subito la parola al collega Del Puppo per la presentazione delle opere prego bene allora rinnovo i miei ringraziamenti per l'invito e mi scuso che le circostanze mi obbligano a dover intervenire in remoto una premessa credo sia necessaria la verità dell'arte di ogni espressione artistica non è né può essere e nemmeno noi ce l'aspettiamo insomma che corrisponda alla verità alle verità dell'economia della politica delle leggi e dei linguaggi che a essi afferenti e naturalmente non corrispondi in alcun modo nemmeno alla verità o alla presunta verità delle armi o dei rapporti di forza la verità dell'arte di tutte le arti è in fin dei conti la possibilità di articolare un punto di vista critico aperto dialogico e naturalmente anche per quanto possibile polifonico proprio per opporsi a quelli che sono gli usi distorti delle immagini sotto forma di propaganda o sotto forma di falsificazione nel suo punto più alto e più meritevole insomma ogni espressione artistica ci obbliga e soprattutto oggi in questo momento a decostruire quelle che sono le narrazioni ufficiali ed è per questo che è importante il lavoro di Cantor io sono miei caro doverne parlare in questa in questa occasione ringrazio anche Gabriele Deanna che me lo ha lo ha proposto per molti aspetti allora l'occasione è questa in realtà abbiamo la possibilità di assistere a una sorta di piccola anteprima di una mostra che Cantor presenterà come vedete soltanto fra qualche settimana in una galleria in Lussemburgo da una mostra intitolata Il Ratto d'Europa il titolo è importante perché in fine conti descrive come attraverso il suo lavoro si è passati dalla tematica mitologica e allegorica il mito del Ratto d'Europa ad un'immagine molto più come posso dire viscerale e anche e anche violenta e Cantor è stato appena ricordato un'importante figura di artista di scrittore di filosofo e di storico dell'arte è nato e si è formato a Mosca e ha condotto la sua attività tanto in Unione Sovietica quanto in vari altri paesi paesi europei questa sua doppia natura di pittore e anche di scrittore di teorico dell'estetica è importante per valutare il suo lavoro io qui ho provato a ordinarlo molto brevemente in ordine strettamente cronologico proprio per far capire come la sua opera sia davvero una sorta di narrazione pressoché in tempo reale di tante situazioni che lui stesso abbia modo di vivere dalla Russia o osservando la Russia dall'esterno questa mappa dell'Europa che è stata opportunamente scelta per questa giornata di studi già ci fa capire come egli sin dall'inizio dopo l'89 insomma rivedesse a modo suo in termini quasi visionari e fortemente aggressivi basandosi in questo su una tradizione che tutte le culture figurative di area slava balcanica e russa in particolare mondo hanno sempre difeso nell'arco di pochi anni Cantor si è imposta l'attenzione come uno dei più fervidi e potremmo dire anche spietati cronisti delle contraddizioni del suo tempo le rovine dell'impero sono naturalmente quelle della dissoluzione dell'Unione Sovietica e delle vittime vittime che quasi sempre nelle sue immagini riguardano il popolo riguardano i giovani le donne tra volte molto spesso in un vortice brutale a volte anche incoerente di fame di follia di violenza in immagini che sono rese ancora più drammatiche da questo uso pressoché accecante delle tonalità così forti del rosso e del e del nero un'opera come questa del 1995 mi è particolarmente caro parlarne perché fa parte di quel nucleo di opere che io abbi modo di vedere come tutti quanti la prima volta che Cantor espose un nucleo significativo delle sue opere presso quello che ancora oggi si chiama padiglione russo alla Biennale di Venezia del 1997 io di quella mostra di questa sua mostra ne servo ancora un ricordo molto molto forte molto autentico ma ricordo anche come questo suo racconto pittorico in presa diretta della della Russia di quegli anni in quell'occasione a Venezia nel 1997 forse quasi considerato un episodio marginale una vicenda cioè che non sembrava interferire in fin dei conti con quello che appariva essere il decorso molto più glorioso e soprattutto molto meno problematico dell'arte europea di quegli anni quasi insomma che la sua vocazione a narrare in maniera così diretta impregiudicata i fatti del suo popolo e del suo territorio non avesse ancora ascolto anche presso un'istituzione importante come la Biennale di Venezia e tuttavia non possiamo ammirare in opere come queste che la capacità di come posso dire trascendere l'immagine della collettività e organizzarla come vedete in una sorta di sabba quasi infernale insomma di cerchie che si aggirano di moltitudini che si aggirano disperate intorno alle figure quelle centrali che rappresentano il potere ecco il potere in tutte le sue forme in tutte le sue ritualità molto spesso vuote molto spesso virtuali lo sguardo di Cantor non elimina un accento in fin dei conti scettico nei confronti della mediazione politica e delle sue ritualità lui stesso nei primi anni 2000 e qui davvero non abbiamo tempo di farlo ma dovremmo davvero come dire mettere in relazione ciascuna di queste opere con gli anni o addirittura i mesi in cui si collocano queste due acqueforti a colori che richiamano un'importante tradizione della grafica della grafica russa sono in un certo senso lo sguardo disincantato e anche un po' grottesco nei confronti dei rituali della mediazione politica all'interno di una democrazia che dallo stesso Cantor ad ammetterlo non sta in alcun modo corrispondendo alle alle speranze che l'avevano vista sorgere Cantor richiamerà sempre la natura esplicitamente politica del suo lavoro e la necessità di raccontare proprio questo come la cosiddetta democrazia così lui la definisce si è stata progressivamente sostituita da un nuovo feudalesimo e da una ritualità essenzialmente vacua ed ecco quindi che i suoi dipinti progressivamente prendono la forma di grandi allegorie dietro le quali però agisce sempre una sorta di ambiguità del messaggio la società aperta in questo caso qual è è forse quella di Popper e dei suoi nemici o è la società aperta di Soros in un caso o nell'altro quello che vediamo che la società che lui pensa o che qualcuno dichiara di essere aperta è tutt'altro che tale questa folla di disperati si assiepa all'interno di un edificio di un recinto lo vedete in muratura chiuso e in primo piano quei poveri oggetti di volta in volta degli ortaggi che chiunque è stato a Mosca sa che facevano forse fanno ancora oggi parte del panorama della quotidianità una quotidianità quindi che lui racconta in tutte le sue mediazioni in tutte le sue forme di crudeltà al punto tale che quasi contemporaneamente emerge nella sua pittura un tema ad una serie di figure molto meno come dire pacificate queste figure di soldati con la tuta mimetica coperti molto spesso dal passamontagna o dal mefisto intesi a operazioni con un forte tasso di aggressività qui si gioca tutta la tradizione che è una tradizione importante costitutiva dell'opera di Cantor dell'espressionismo e l'espressionismo inteso nella sua accezione più ampia di una affermazione non pacificata della realtà e che tuttavia prevede anche dei toni come posso dire da un lato più cronachistici perché oggi con tutto quello che sappiamo nei confronti del controllo della stampa della censura del pericolo di vita e della morte nei confronti dei giornalisti che hanno difeso gli ideali di libertà siamo disposti a leggere in maniera molto differente un dipinto come questo dove sullo sfondo della metropoli catafratta di edifici si mette in scena la retorica della comunicazione o della contraffazione delle notizie ed ecco l'altro registro come posso dire che compensa quello della drammaticità della denuncia è infine conti quello grottesco i soldati mimetica che come una sorta di orrenda figura un po' arlecchinesca insomma sono convocati a passare sopra questa passerella in una sorta di macabro defilé di moda con tutta la folla assiepata che sembra mirarne le movenze e qui uno storico dell'arte avrebbe come posso dire molte possibilità di collegare queste immagini alla tradizione importante per tutto il novecento della satira politica e della deformazione espressionista a partire da Georg Groth e tanti altri autori così come in parallelo l'attività accanto a quella di pittore di grafico e di illustratore questo è un altro episodio un'altra cartella che racconta come soltanto la sintesi corrosiva di un grafico di un vignettista può fare l'esito delle cosiddette riforme liberali e dell'apertura all'economia di mercato e queste sono delle incisioni delle vignette che nella tradizione del miglior onore della Francia dell'ottocento o di James Hensor raccontano questa società ormai in cui spadroneggiano gli squali gli approfittatori della nuova apertura verso l'economia e naturalmente anche soprattutto nell'immagine di destra tutte le assimmetrie e gli squilibri di una società così configurata e non è un caso 2014 che nell'opera di Cantor compare sempre di più una figura una figura riconoscibile che richiamando a questo punto in questo processo di ritorno di regressione al feudalesimo le figure del potere che diventano anche nei volti sempre più esplicitamente riconoscibile vengono associate a degli elementi malefici quasi infernali è qualcosa che addirittura risale all'immaginario medievale che noi associamo nei dipinti di Hieronymus Bosch molte persone scrive Cantor stanno diventando dei mostri e assumono questa apparenza la Russia si dimostra essere uno dei laboratori nel ventesimo secolo e anche nel ventunesimo secolo dei più inumani esperimenti sociali ed è per questo che negli ultimi anni nell'ultimo decennio il suo lavoro diventa se possibile ancora più esplicitamente di denuncia la guerra civile che mette in scena questa immagine così macabra qui è una fonte abbastanza chiara è un noto dipinto di di Goya che sta al prado ma di cui in cui Cantor come vedete blocca drammaticamente le figure con i ceppi e qui tutti sono vittime gli adulti che combattono quanto i bambini e gli animali e in alto a sinistra come vedete onnipresente ormai le trombe degli angeli dell'apocalisse che sembrano quindi annunciare una catastrofe che di fatto è già in atto e così la logica conseguente è quella dello sguardo anche sulle vittime i rifugiati compongono una parte non secondaria del lavoro di questi anni sono delle immagini impietose di un'umanità come vedete fiaccata che lascia le case in condizioni di nedie di povertà come potete vedere tutte le figure nella metà a sinistra del dipinto guardano all'indietro il gruppo familiare con la donna e con i bambini laddove evidentemente ci sono le case e villaggi che sono costretti ad abbandonare e in tutto questo nell'idea di dover lasciare dei territori a fronte dell'avanzata dei nuovi fascismi tutto questo ha a che fare anche coinvolge anche il mondo della cultura e qui come potete vedere le vittime a questo punto sono anche soprattutto direi degli intellettuali che non sono esenti da questo tipo di destino e qui si apre forse il tema la riflessione più ampia che secondo me trascende anche la pure e semplice narrazione degli eventi Cantor è un artista che desidera con questi dipinti difendere le possibilità di un umanesimo che ha avuto e vuole e lui stesso vuole che abbia ancora continuità nella Russia del suo tempo ed è per questo che a fronte dell'immagine di una umanità che come potete vedere si mette biblicamente in salvo su un'arca travolta dai destini e anche questo è un dipinto molto bello molto drammatico con una sorta di grande ritratto di gruppo con questi volti così drammaticamente deformi e tutto questo torna l'immagine dello Stato dello Stato prigione della condizione di costrizione di assoggettamento sotto forma di Leviatano che in questo caso si dimostra letteralmente una bestia immonda che fa da gabbia all'uomo e le ultime opere sono le opere dove davvero il riferimento alla condizione più drammatica e più attuale si fa chiaro il Sant'Antonio contemporaneo quel personaggio che vedete in primo piano a sinistra seduto in maniera un po' grottesca a cavallo di un pesce questa è una diretta reminescenza di un'immagine di sei secoli fa di Hieronymus Bosch e assidiato al suo intorno a questa sorta di do infernale di topi di maiali di pipistrelli e poi ancora una volta la bestia del potere che sembra letteralmente tentare la figura dell'intellettuale e portarlo a sé quasi per voler in un tentativo così così forzato di guadagnarsi un alibi culturale o intellettuale o politico che dir si voglia in tutto questo c'è anche la possibilità di uno sguardo disincantato direi ma anche lucido all'Europa si è parlato molto e molto correttamente e anche molto dolorosamente del ruolo o del non ruolo dell'Europa in questo senso e questo è il suo punto di vista insomma la barca dell'Europa che diventa la zattera dei folli alla deriva evidentemente di poteri e di forze che non siamo in grado o non vogliamo essere in grado di governare e di controllare il messaggio del lavoro di Cantore insomma è un messaggio al tempo stesso drammatico e però anche di speranza il quadro che dà il titolo a questa rassegna che abbiamo visto in anteprima il ratto d'Europa lo spiega molto bene la figura lo vedete che sta brandendo anzi che sta letteralmente strappando un'Europa che è una sorta di manichino che però assume lo vedete le fattezze di una colonna classica come se davvero fosse il segno dell'eredità più evidente della tradizione classica e quindi dell'idea stessa di democrazia che viene così improvvisamente e violentemente divelta dall'uomo in primo piano con le unghie ad unche da un lato la strappa dall'altro lo vedete le stringe con la mano destra un seno è perfino inutile insomma ricordare a chi appartengono le fattezze diaboliche di questo personaggio al centro della scena e poi tutto intorno lo vedete una sorta di corte applaudente di figure che quasi richiamando io credo le immagini di Orwell sembrano prostrarsi davanti al sovrano che gioca con le libertà le viola in maniera così forte trascinando con questa sorta di vortice regressivo quella che poteva essere una giovane democrazia e che invece recede a una condizione di nuovo feudalesimo ecco in tutto questo il messaggio di Cantor in fin dei conti è quello di mantenere la difesa dei valori morali nel difendere nel riconoscere il potenziale umanistico che sempre ha avuto la cultura russa e che continua anche ad avere grazie all'opera di autori come questo che abbiamo appena visto mi fermo qui anche perché non voglio portare via più tempo al prosieguo del pomeriggio e vi ringrazio per l'invito io ringrazio sentitamente il collega Alessandro del Pupo per questa bella illustrazione ogni commento ulteriore mi pare superfluo ci resterà nella mente questa immagine del ratto d'Europa che in sera chiude davvero dei significati molto eloquenti speriamo dico solo che l'Europa soprattutto oggi e nel prossimo futuro non sia proprio l'immagine di quella zattera che Cantor ci ha proposto ma che in realtà l'immagine dell'Europa del prossimo futuro sia quella di quell'umanesimo che invece dalle opere di Cantor si percepisce essere l'obiettivo a cui anela e a mia volta mi unisco al ringraziamento all'amico e collega Gabriele ed è Anna perché è stato lui effettivamente che ha avuto la felice idea di farci conoscere questo artista ed è tramite lui che abbiamo potuto reperire le sue opere e avere anche l'autorizzazione per esibirle quindi grazie Alessandro e grazie Gabriele e adesso proprio davvero in chiusura di questa bellissima giornata come vi accennavo abbiamo l'onore di avere qui con noi una selezione del coro e dell'orchestra dell'Università di Udine di cui siamo tutti particolarmente orgogliosi e io quindi cedo la parola non so se al collega Fabio Alessi per la presentazione dei brani sì Fabio buonasera a tutti la presentazione non la faccio neanche perché si tratta di un brano è l'ino europeo è l'ino la gioia di Beethoven che eseguiamo in una versione in una riduzione ovviamente perché abbiamo un organico ridotto per via delle limitazioni dovute appunto ancora alla pandemia e se qualcuno di voi riconosce il testo e lo vuole cantare insieme al coro anche il coro come vedete e c'è solo la componente maschile sempre per ragioni di limitazione numerica se riconoscete il testo e lo conoscete lo volete cantare ci fate un favore grazie bene grazie a te grazie a tutti e io direi che non potevamo avere una conclusione migliore di questo quarto tempo della nona sinfonia buon ascolto a tutti grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.